Capitolo 8 Walk Away Beowulf L'inverno del nostro scontento. Chi cazzo l'ha detto? Ma chi se ne frega, aveva ragione lo stronzo. Era inverno e Richard Lindorf aveva scontentezza da vendere. Era arrivato a Fort York a metà luglio, quando c'erano più di 27 gradi. Gesù Cristo benedetto, il Canada non doveva essere la terra degli igloo e roba simile. Ma non ci volle molto perché arrivasse un tempo da orsi polari. Richard aveva sempre odiato il freddo. Perché pensate che avesse case a Miami, Las Vegas e Hollywood? Miami lo sapeva, era Sayonara. Era davanti al televisore quando Fox News, manco fosse il giorno delle elezioni, l'aveva dichiarata la prima città solidamente zombie. Richard, proprietario di una batteria di fuoristrada, aveva preso la direzione opposta, quella di Hollywood, e aveva assistito personalmente all'olocausto di fuoco che aveva ridotto in cenere la città. Ma Las Vegas? Las Vegas era ancora in piedi. Anche senza la pirotecnica illuminazione notturna, anche se la città era mezzo crollata, i ricordi dei casinodi, Sin City, delle torri, dei pinnacoli, delle piramidi, dei padiglioni, lo cullavano tutte le sere a Fort York e lo facevano alzare tutte le mattine. I splendori di Las Vegas, l'eccitazione del sesso e dei fuochi d'artificio, le delizie on demand di labbra, tette e fiche, la pioggia di due milioni di dollari al giorno potevano ancora tornare, se uomini come lui avevano le palle per raccogliere i fiori più delicati. Ce l'avrebbero fatta. Quattro mesi nella cosiddetta Old Muddy e aveva già organizzato un'importante votazione. Piccoli passi prima, enormi poi. Così diceva sempre suo padre. Se avesse visto Richard adesso, per una volta in vita sua, ne sarebbe stato orgoglioso. Nel loro momento di gloria i conglomerati di Pop Lindhoff, nel settore energetico, fantavano ricavi superiori ai 50 miliardi. Pop produceva qualsiasi combustibile, nafta, benzina, gasolio, cherosene, etanolo, senza contare le migliaia di chilometri di oleodotti per trasportare petrolio greggio e raffinato e gas naturale. Il suo primo genito, Clark, aveva raccolto il testimone, guadagnando milioni con fertilizzanti e pesticidi, nonché con la produzione a basso costo di resine, prodotti chimici, plastiche e polimeri. Clark aveva preso dal padre anche l'abitudine di finanziare aziende che garantivano che nessun gruppo ambientalista ostacolasse la sua crescita. All'uomo della strada, preoccupato dell'affitto di altre cose del genere, il nome Lindhoff non diceva niente. Ma per i giganti del business della politica, gli unici settori che contavano, quel nome era sinonimo di profitto. Richard Lindhoff, il figlio minore, imparò rapidamente che questa era una fortuna e una maledizione. Ci si aspettava che esplorasse nuove strade per fare soldi, ma era difficile, dannatamente difficile. Richard aveva il vantaggio di un conto bancario milionario e poteva commettere errori spettacolari senza conseguenze, ma doveva anche affrontare sfide che a Clark erano state risparmiate. Tanto per cominciare era nato brutto. Pop e Clark non erano George Clooney, ma a Richard era toccato il biglietto perdente della lotteria, come una volta gli aveva detto in faccia sua nonna. Il naso, incredibilmente lungo, era stato sistemato tra l'ultimo anno di liceo e l'inizio dell'università, ma con la gamba sinistra troppo corta non c'era stato niente da fare. Una scarpa con la suola speciale era scomoda, goffa e a Richard sembrava anche brutta da vedere. Così ne faceva meno. Il risultato? Una zoppia permanente e una schiena cavatappi, ingobbita. La cosa peggiore era il braccio sinistro rattrappito. Quel braccio era una fonte di umiliazioni che non si prosciugava mai. Non contavano il suo cognome o l'università importante a cui Pop l'aveva mandato dopo che la prima l'aveva segato. Quando poteva, Richard nascondeva il braccio con sciarpe o cartelle di libri, ma alla fine saltava fuori. Era più corto dell'altro di tutta la mano, magro come uno stecco, e aveva la levigatezza rosea della pelle ostionata. In Lindov, naturalmente, potevano permettersi le cure mediche migliori, ma il braccio era al di là di ogni possibile intervento o allungamento chirurgico. Pop gli consigliava di chiedere aiuto a Dio in privato, ma di non permettere mai che il braccio gli fosse di ostacolo in pubblico. Pop era un uomo religioso. Il taglio dei nastri era preceduto dai versetti della Bibbia. Le impennate dei prezzi delle azioni erano festeggiate con preghiere. La grazia divina veniva evocata per i bonus dei dirigenti come per i licenziamenti di massa. Clark indossava copie dei gioielli di suo padre con il tema della croce. Solo Linda, la moglie di Pop, chiamata da tutti Mama Lindov, perfino nei consigli di amministrazione, era fredda rispetto all'argomento divino, e Richard l'aveva sempre amata per questo. Se Dio fosse stato buono, non avrebbe azzoppato un ragazzino innocente come lui. Mama Lindov non lo frenò. Circondò con le braccia la sua schiena gobba, gli accarezzò la faccia dal lungo naso e ammise che aveva ragione. Richard passò gran parte della giovinezza a piangere sull'ingiustizia del mondo. I dotti lacrimali si gonfiarono tanto da sembrare due grosse zecche che gli succhiavano gli occhi. I ragazzi dicevano ridendo che il suo braccio sembrava un secondo pisello. Doveva essere orgoglioso che fosse così grosso. Magari fosse stato vero. Le ragazze che conosceva, ricche e spietate, non nascondevano l'arricciarsi disgustato delle loro belle labbra. Altre lacrime sgorgarono, le zecche tornarono sotto agli occhi. L'umiliazione lo rese rabbioso e di questo fu orgoglioso. Una gamba zoppa, un braccio asfittico, quelli erano difetti. La rabbia invece poteva usarla. La madre morì di infarto quando Richard aveva 19 anni. All'epoca aveva smesso di piangere. Non avrebbe pianto mai più. Trasformò la sua morte in un secchio di carbone, il combustibile preferito dal padre. Lo gettò nella fornace rovente del suo petto. Da adulto si dedicò al cinema, che aveva una grande tradizione di uomini non attraenti che esibivano i loro fetici sul grande schermo, facevano i soldi e intanto si scopavano le attricette intraprendenti. Non c'era carenza di dilettanti disposti a rivedere i loro principi in cambio di un finanziamento. Richard sognava di fare bella figura in prima fila alla cerimonia degli Oscar, mentre il conduttore lo prendeva in giro quattro ore prima di dargli un premio. Il problema era che quella roba degli Oscar non gli piaceva affatto. I film d'azione, le serie tv con quei ciccioni con le mogli sexy. Erano queste le cose che piacevano a lui. Così diede comunque dei soldi a presunti acclamati registi e perse la camicia. Certo, avevano inserito le tette e i culi come da accordi, ma Cristo don Dio, quegli idioti avevano eliminato tutto il prurito. Alla cena di Natale, Pop gli disse di cercare Cristo come guida. Charlie scosse la testa, rivolto al piccolo Ricci, che aveva scelto il mercato più rischioso di tutti, e mise la saliera dove il suo braccio sottosviluppato non poteva raggiungerlo. Richard si sentì ribullire. Poi, finalmente, il colpo di fortuna. Niccolò Bonfiglio, un artista italiano che era entrato nell'ufficio di Richard con occhiali da sole e berretto in testa, dichiarando che lui non faceva film solo per la mente e per il cuore, ma per il cazzo e per la fica. Richard, a un passo dal mollare, rimase affascinato e siglò sull'istante un patto. Avrebbe dato a Bonfiglio il milione di cui aveva bisogno per realizzare il suo sanguinoso adattamento di quello che dichiarava essere il più nobile poema epico in inglese antico. Richard Lindof, lei assomiglia a Bella Lugosi, disse Bonfiglio. Farà un cameo nella mia piccola opera d'arte, vero? Richard aveva già sentito l'offensivo confronto ed evitato tutti i film con i vampiri, ma sulle labbra dell'italiano Lugosi assumeva un che di allegramente piratesco e Richard sorrise, compiaciuto. Certo, perché no? Ci stava. Richard non sapeva cosa rientrasse nella categoria opera d'arte in Italia, ma rimase colpito dal prodotto di Bonfiglio. Beowulf contro le donne ragno. Un filmone tutto sudore, libidine e sangue, in cui ogni personaggio, a prescindere dal genere, stava torso nudo. Non c'era un vero e proprio intreccio, proprio come piaceva a Richard. Beowulf, interpretato dallo sconosciuto Stefan Ratzenberger, destinato a diventare famoso come Ratz, un tipo talmente muscoloso che sembrava un grappolo d'uva. Usava spade, lance, tridenti e martelli per far fuori mucchi di mostri prima di fottere, nei due sensi, anche le donne ragno. Bonfiglio organizzò la scena madre in maniera da versare la maggior quantità di sangue possibile sui petti ansimanti delle attrici. Beowulf contro le donne ragno non vinse nessun Oscar. Vinse invece un premio chiamato Redsy, ma guadagnò cinque volte il suo budget in tutto il mondo. Richard investì due quinti della somma nel sequel di Bonfiglio, Beowulf contro le donne Vespa, che guadagnò sette volte il suo budget. Richard investì tre quinti della somma nel nuovo sequel, Beowulf contro le donne Cobra. A Richard piaceva ritagliare e incorniciare gli articoli che parlavano di lui e di Bonfiglio, anche se raramente leggeva oltre le prime righe. Non aveva mai avuto molta pazienza con le parole e i capoversi iniziali avevano sempre uno sgradevole tono ironico. Sentiva lo stesso tono da parte di Pop e di Clark. Anche se Richard non piangeva più, le zecche erano sempre attaccate sotto i suoi occhi. Non capiva. Era un produttore hollywoodiano di successo. Il suo nome compariva alto tre metri sugli schermi dei cinema. Ogni volta che assisteva in privato alla proiezione di un nuovo sequel, il più recente era l'ottimo Beowulf contro le donne di Urano, guardava i deliziosi corpi delle attrici e le braccia muscolose di Raz e provava un senso di possesso. Compensavano le sue mancanze. Sua madre l'avrebbe apprezzato. Come Beowulf al termine del favoloso Beowulf contro le donne del Colosseo, Richard Lindhoff era capo di un impero. Come era crollato tutto all'improvviso. Bonfiglio, astutamente, fino a quel momento aveva convinto Raz a fare il misterioso. Ma adesso Raz impose un tour pubblicitario in occasione del film più ambizioso. Beowulf contro tutte le donne. E lo ottenne, a dispetto dei pressanti inviti e la cautela di Bonfiglio. Il problema? Raz era sempre stato doppiato dal basso profondo di un ex annunciatore sportivo di Detroit. La vera voce dell'attore era leggera e le timidezze e gli acuti improvvisi lo rivelavano subito per una checca. Raz parve stupito e replicò immediatamente «Certo che era gay e orgoglioso di esserlo!». Richard non fece una piega. La rivelazione poteva aumentare l'interesse. Una volta aperta la bocca, però, Raz non la chiuse più. Poteva essere gay e orgoglioso di esserlo. Ma era anche sessista e orgoglioso di esserlo. Razzista e orgoglioso di esserlo. Antisemita e orgoglioso di esserlo. E prima che il tour fosse finito, era finito anche il nuovo film. La produzione dell'opus magnum di Lindhoff Bonfiglio, Beowulf contro l'intera popolazione femminile dell'universo, finì nella spazzatura. Il Google Alert di Richard esplosero. Raz era oggetto dei commenti più caustici. E dopo di lui Bonfiglio. Ma a breve distanza seguiva Richard Lindhoff, figlio senza talento di uno spietato tycoon, gobbo, lugosiforme, mida al contrario, che spacciava sconcezze softcore, troppo stupido per capire che i valori kitsch erano la ragione per cui gli idioti con basso quoziente intellettivo guardavano i film di Beowulf. Insomma, tutto quello che avevano sempre detto Pop e Clark. Gesù Cristo Santissimo, con quanta forza le zecche avevano succhiato i suoi occhi doloranti. E per sopportare il dolore, Richard si era scatenato nella sua casa di Hollywood, fracassando oggetti, squarciando cuscini, dando fuori di matto. Pop gli aveva inviato un esperto di crisi, ma Richard l'aveva cacciato. Non aveva bisogno di aiuto. Non c'era nessuna crisi. I film erano buoni. Ne avrebbe fatti altri cinquanta. Nulla di tutto questo corrispondeva alla verità, ma se permetteva alla famiglia Lindoff di cavarlo dai guai, Clark gliel'avrebbe rinfacciato per tutta la vita. Il piccolo Richie, che si era fatto accorciare il naso e adesso non sentiva la puzza della spazzatura che gli veniva sbattuta in faccia. Il piccolo Richie, il cui braccino corto non riusciva a raccattare soldi neanche se ce li aveva di fianco sul tavolo. Nessuno nel settore voleva avere contatti con lui. Sussurravano le sue spalle nei ristoranti, lo prendevano in giro sul sunset. Era tornato a essere un moccioso, ma senza la mamma da cui correre. Richard non aveva gioie. Lavoro, prospettive, orgoglio, autoconsiderazione. Neva non gli era di aiuto. Si era dimenticato di dire che aveva una moglie. Gli capitava sempre. Il suo nome era Neva. Viveva con lui a Hollywood a volte. Richard andò dalla parte opposta dell'America, a Miami. La città magica, tutta spiagge, alcol e tette. Gli avrebbe fatto bene. Gli avrebbe dato l'ispirazione per la sua prossima impresa. Ma non accadde nulla del genere. Finì come un sacco in un bidone delle immondizie. Si avvicinava rapidamente l'annuale festa del ringraziamento dai Lindhoff, tutta incentrata sull'esibizione dei propri successi. Richard avrebbe fatto da punching ball. Cominciò a prendere in considerazione le armi che possedeva, fino a quel momento solo a scopo decorativo, nella casa di Miami. Magari l'avrebbe fatta finita. Perché no? Non avrebbe più prodotto un altro film incredibile. Nessuno lo amava. Nessuno lo apprezzava. Las Vegas era il posto giusto. Niente inverni. Niente scontento. Scelse il 23 ottobre, un giorno privo di importanza storica, per ridurre al minimo le possibilità che il suo suicidio passasse sotto silenzio sulla stampa. Cominciò a preparare l'uscita di scena. Era il momento di sparare tutte le cartucce che aveva. Prese la suite più grossa e più in alto che riuscì a trovare. Passò in rassegna i suoi contatti, per vedere chi poteva venire. Coca in una narice. Aderall nell'altra. Ballerine, spogliare liste, puttane. Invitarle e riempirle di centoni. Dare a un paio di senza tetto 50 dollari per menarsi nel bagno e far scommettere gli altri. Noleggiare uno scimpanzé, tanto per averlo in giro e fare cose ridicole da scimpanzé. Sarebbe stato bello. Bellissimo. Non sapeva dove avrebbe compiuto il gesto. Il terrazzo? La vasca da bagno? O quando? A mezzanotte in punto? Nel pieno di una cosa tre? Per cui infilò la pistola più piccola nella tasca destra della giacca, da cui il braccio normale poteva estrarla al momento giusto. Si sentiva bene. Per la prima volta da quando Razza aveva aperto la sua stupida bocca, Richard Lindhoff si sentiva di nuovo il gradasso di un tempo. Non un Lindhoff, ma il Lindhoff, almeno per una notte ancora. Gli invitati di serie A non si fecero vedere. Pazienza. Avrebbero comunque monopolizzato l'attenzione. Gli invitati di serie B non si fecero vedere neanche loro. Fanculo, quegli stronzi erano peggio di quelli di serie A. Per consolarsi mandò inviti ai VIP di parecchi convegni. Il risultato fu una mescolanza intrattabile e surreale di soci del padre che lavoravano al Dipartimento della Difesa. Cantanti dimenticati degli anni Ottanta, numerosi sindaci di città di medie dimensioni, illusionisti di terza categoria, ex modelle con la faccia di plastica, maldestri creatori di app, un pugile che una volta aveva combattuto per il titolo dei pesi massimi e un gruppo di medici illegali che si trovavano in città per un convegno. Lindhoff era entusiasta. Quando si fosse fatto saltare le cervella, avrebbe avuto una dozzina di professionisti sotto mano per esaminare ogni frammento. Lindhoff cominciò ad accarezzare la pistola verso le undici. Era su di giri come una cometa. Un rapper scamiciato aveva fatto un po' di freestyle ed era stato fantastico. La ragazza che aveva pagato per succhiargli l'uccello era stata dolcissima e quando lui aveva smesso di tentare di venire, perché era su di giri come una cometa, cazzo, gli aveva accarezzato le braccia. Anche quello rattrappito. E lui aveva pensato di divorziare da Neva e di sposare una dolce succhiacazzi di buon carattere come lei. Sfortunatamente non c'era nessuno scimpanzé. Aveva passato mezza giornata a cercarne uno. La cosa positiva che aveva dato al vincitore della rissa fra mendicanti un altro cinquantone per farlo saltare sui mobili urlando come una scimmia. Dieci minuti prima di mezzanotte, mentre si trovava sul terrazzo e guardava la striscia di Las Vegas a spulsare come un quasar e la brezza del deserto gli scompigliava i capelli come faceva un tempo sua madre, si accorse che all'interno c'era confusione. Era da un po' da quando era uscito. Tornò nella suite e la trovò mezzo vuota. I bicchieri rovesciati per terra, la droga abbandonata in mucchietti multicolori. Questo non andava bene. Se si sparava e nessuno lo vedeva, a cosa serviva. Quando arrivò nell'atrio trovò una ventina di persone che pestavano sui cellulari e ascoltavano un medico legale che parlava di... beh, non aveva alcun senso. Morti che riprendevano vita negli obitori. I soci di suo padre impiegati al Dipartimento della Difesa si stavano mettendo al lavoro, aprivano i computer e parlavano al telefono. Alcuni medici pallidi sussurravano al cellulare con voci perfettamente sobrie. Anche Lindof stava tornando sobrio. Guardò la suite, coperta di ogni tipo di sporcizia tranne il suo cervello. La pistola gli pesava nella tasca come un caso letale di coito interrotto. L'orgasmo della sua testa, bloccato prima che esplodesse. Lo sguardo gli cadde su un tizio che in precedenza si era presentato come JT, uno che lavorava nell'obitorio di San Francisco, José o Diego, non ricordava bene. Aveva partecipato alla festa con entusiasmo, cantando a squarciagola, ballando con uomini e donne, bevendo quella che sembrava una gigantesca pigna colada da una ciotola di acciaio. Adesso era ridotto a una merda, rannicchiato e tremante in un angolo del divano, il telefono stretto sulla faccia come un gattino. Altro che Adderall, altro che Coca, la vista di JT, che diventava una gelatina tremebonda, riempì il corpo di Richard come di una plastica liquida in durimento rapido. Si sentiva nuovo di zecca, si sentiva indistruttibile. Quando JT si buttò giù dal terrazzo, l'impulso di Lindof a fare lo stesso svanì. Pieno di vita, raccolse il cellulare di JT e scambiò qualche parola con un tizio di nome a Coachella, che aveva appena incontrato di persona uno di quei cadaveri ambulanti. Più a Coachella si agitava, più emergeva il suo accento messicano, il che mandò davvero su di giri il motore di Lindof. Quel tipo stava crollando, come gli impiegati di Clark che sarebbero scappati dalle fabbriche appena avessero saputo. Le azioni di Pop sarebbero colate a picco. Gesù Cristo sia lodato, era perfetto. I produttori di energia in tutto il mondo si nascondevano sottoterra. La maggior parte delle persone non sapeva che i ricchi avevano reti telefoniche riservate, ma era così. E Pop raggiunse Richard quando già molte infrastrutture erano crollate. Ordinò al figlio minore di raggiungerlo in un bunker di lusso in Colorado, prima che lo sigillassero. La voce ferrea di Pop se l'ha ridotta a una supplica. Era stato bello rispondere al vecchio «No, è tutto ok, vai pure a rinchiuderti, Dio ti benedica». Adesso si poteva prendere il potere davvero, e Richard intendeva prenderne più di tutti. La chiave era imparare a sentire l'odore delle carcasse. E le carcasse erano dappertutto. Erano i nuovi colori rancidi della bandiera americana. Lindof andava dove l'odore gli faceva venire fame, e la gente era attratta da chiunque avesse ancora appetito. Ed era anche desiderosa di sentirsi dire quello che doveva fare, cosa in cui Lindof ecelleva. In effetti le qualità che secondo Pop e Clark condannavano il piccolo Ricci e la mediocrità, scarsa tendenza a delegare, mancanza di curiosità, avidità cieca, adesso gli garantivano il successo. Gli zombie erano gli operai ciechi delle fabbriche di Pop e di Clark. Non rappresentavano una vera minaccia. Mentre tutti piangevano, chiedendosi perché e come, Lindof arraffava tutto quello che voleva. Era Beowulf. Uccideva chi doveva uccidere, scopava chi si doveva scopare, re ovunque si trovasse. Lindof fiorì. Per circa dodici anni almeno. Quando gli animali cominciarono a diventare zombie, anche i suoi seguaci più decisi persero determinazione. Richard si trovò sempre più solo, il che voleva dire non essere nessuno. Fece l'unica cosa sensata. Tornò all'amata Las Vegas. Il Trump International Hotel, evidentemente costruito con i materiali più scadenti, era scomparso dallo skyline. Ma gli edifici più bassi sullo strip erano più o meno come li aveva lasciati. Las Vegas, come sempre, era piena di roba e forniva in abbondanza strutture in vetro resina, scheletri di slot machine e tavoli da gioco ammuffiti per ripararsi dagli zombie. Anche i topi zombie, che nell'anno 12 costituivano una piaga, nel deserto erano più rari e i loro scheletri facevano un bel rumore croccante quando li schiacciava. Sperando di tirarsi su, entrò nei suoi posti preferiti. L'MGM Grand, il Paris, il Cesar Palace. Lindhoff odiava che fosse così facile. Niente addetti alla sicurezza, niente inviti, niente pass. Anche le salette private per i forti giocatori erano state aperte a un pubblico sporco, confuso, immeritevole. Doveva essere la cosa peggiore mai accaduta a Las Vegas, il che era dire molto. Per l'ultima volta Las Vegas regalava qualcosa. Al Venetian, dentro ai Grand Canal Shops, trovò il famoso Museo delle Cere di Madame Tussaud. Illuminato dal sole che entrava dal soffitto crollato, era il posto più ordinato che avesse visto da quando c'erano gli zumbi. Era logico. Un Museo delle Cere non conteneva nulla di utile per i sopravvissuti. Fu solo quando si trovò di fronte a Claw Kardashian che Richard Lindhoff capì che lui, invece, aveva bisogno di qualcosa lì dentro. Gran parte della faccia di Claw era colata sulle sue spalle, sciogliendosi come uno scialle di cera color pesca. Dei lunghi capelli restavano poche chiazze, il resto era stato mangiato dagli animali affamati. Privato della carne finta, il cranio di nuda creta aveva ancora gli occhi azzurri di Claw, che supplicavano di non dover soffrire più. Lindhoff non vi fece caso. Benché le grosse tette e il famoso fondoschiena si fossero sciolti, il top, i jeans e le scarpe coi tacchi tenevano più o meno in forma la cera rammullita e lo eccitavano. Poteva fare quello che voleva e Claw non si sarebbe lamentata. Non poteva neanche dirgli che assomigliava a Bella Lugosi, anche se, per una volta, si sentiva come Lugosi, a trarre il suo sostentamento da quella stronza, come se le succhiasse il sangue. Aveva visto gli zombie fare a pezzi decine di persone, era erotico in un certo senso, se voleva essere onesto. Le persone venivano spogliate a forza finché non restava più niente da togliere. Si guardò intorno fra le ombre del museo. Angelina Jolie, Brad Pitt, Hall Berry, Johnny Depp, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rihanna. Le persone più belle d'America erano diventate le più brutte. Richard Lindhoff, quello col naso lungo, la gamba corta e il braccio disgraziato, dominava le superstar che un tempo sognava di incontrare agli Oscar, ed era messo meglio di tutti loro. Non aveva mai prestato attenzione alle voci su Toronto. Trascinare il culo attraverso un paese ridotto a una giungla solo per fare da spalla qualcun altro non lo attirava granché, ma stando davanti a tutte queste persone favolose che era riuscito a battere, cambiò idea. Si fermò solo quanto bastava per fottere Marilyn Monroe, quando mai gli sarebbe capitato di nuovo, e si mise in viaggio. Che mondo selvaggio e vario pinto avevano inaugurato quei bastardi di zombie. Bello, ammise, anche se sarebbe stato più bello con strade e marciapiedi, per mantenere le cose in ordine, per farti capire chi era il proprietario di cosa. Sarebbero tornati, e sarebbe stato lui a farli tornare. Ford York, quando vi giunse, era un disastro. Soprattutto il suo capitano di fatto, un mal di testa ambulante di nome Carl Nishimura. Era anche la medicina giusta. Nishimura diceva che Ford York rappresentava molte società emergenti. Tanto meglio, perché voleva dire che quei posti avevano bisogno anche di Richard Lindhoff. Sarebbe stato il loro lugosi. Gli avrebbe succhiato fuori le viscere. Gli avrebbe messi in ginocchio come faceva Beowulf. Beowulf contro tutti. Gesù Cristo Beato avrebbe fatto provare a quei bastardi quello che lui aveva provato nei primi quarant'anni della sua vita. Zecche su tutti i loro occhi. Niente lunghi addi. Prima regola, unica regola. Lavarsi le mani. In un mondo senza antibiotici e antivirali, gli esseri umani erano vulnerabili come pesci rossi in un sacchetto d'acqua. Un colpo di tosse, uno starnuto, un graffio. Qualunque cosa poteva essere la fine. Il tempo passato da Karnishimura, a bordo delle porta aerei, l'aveva preparato al compito di organizzare una società. E nessun'area della sua formazione era preziosa quanto l'igiene. Molto tempo prima che gli zombie ridefinissero l'idea di contagio, le malattie si erano diffuse a bordo dell'Olimpia come raffiche di vento. Gli ufficiali insegnavano ai loro uomini il semplice gesto che tutti potevano compiere per evitare future contaminazioni. Sapone, acqua calda, strofinare, ripetere. Arrivando a Old Muddy e vedendo i nasi colanti di quelli a cui stringeva la mano, Nishimura fece dell'igiene il primo passo. Il sapone si trovava facilmente. Gli edifici in rovina spesso avevano intere scatole di saponette e le riserve di un albergo potevano bastare a una persona per una vita intera. Ma una società fondata sul baratto poteva durare solo fino a un certo punto. Nishimura era concentrato sulla produzione, insegnava a pescare e così via. Fort Knox non era certo colonial Williamsburg, ma i suoi musei e le sue collezioni avevano esempi di vecchie tecnologie. Gli attrezzi di un fabbro, un carradore, un mattonaio, un calzolaio, un sarto. Nishimura passò in rassegna ai residenti per trovare quelli più capaci di usare gli attrezzi. Poi diventò amico di un uomo che era stato insegnante di chimica delle medie e insieme rifecero uno dei suoi esperimenti in classe, la produzione di sapone. Era complicato. Bisognava bollire la cenere, mescolare il residuo con del grasso. Ben presto gli ingressi di tutte le strutture del forte furono riforniti di sapone, acqua, un apparecchio per scaldare e un volontario che si assicurava che le mani sporche facessero il loro dovere civico. Naturalmente le persone ogni tanto accedevano alla pegrizia, ma non tanto da far giungere dei rapporti alle sue orecchie. La prima persona di cui Carl Nishimura seppe con certezza che aveva violato la regola o che aveva intenzione di farlo fu lo stesso Carl Nishimura. Nai Nai, l'anziana e miope sentinella della Wellington, cantilenò il suo saluto alla squadra di recupero man mano che li riconosceva. Appena prima che il sole tramonti, faccia. Molto bene. Ni hao, grile detta. Carl, tutti si chiedono dov'è Nishimura? Non riusciamo a trovare Nishimura. La votazione sta provocando molto, molto... La faccia scostò Nai Nai. Niente sapone adesso. La pelle di Nai Nai si contrasse sulla fronte. Carl? Niente sapone. Perché fate passare un morbido attraverso il forte? Greer, molto meno gentile della faccia, fece volare il secchio di Nai Nai con una pedata, continuando a reggere la barella con due mani. Le aggressioni erano rare a Old Muddy e probabilmente riportarono alla mente di Nai Nai quindici anni di traumi. Il grido con cui subito chiese pietà, mentre cadeva in mezzo al sapone, trafisse il cuore a Nishimura. In qualunque altro momento, la faccia o Nishimura si sarebbero inginocchiati per controllare come stava, ma il primo stava correndo verso i binari della ferrovia per allontanare chiunque potesse rallentarli, e il secondo doveva preoccuparsi della sua metà della barella. Dai binari Nishimura vide Fort York. Il nome non era improprio, ma non era neanche sufficiente. Posto nelle vicinanze del lungo lago Butters Quay, il sito storico in sé era lungo cinque isolati, un parco vagamente triangolare circondato da grandi strade. Gli otto edifici originali potevano stipare 200 persone, ma i residenti non ci stavano più già quando Nishimura era arrivato. Quello che avevano cominciato a fare, un'idea decisiva che Nishimura gli aiutò a realizzare con rigore militare, era ristrutturare le proprietà confinanti per viverci, lasciando che la parte storica di Fort York svolgesse le funzioni comunitarie, amministrative e cerimoniali. Le mura di pietra, vecchie 400 anni, arrivavano all'altezza della testa e non avevano alcuna funzione difensiva. I binari del treno, il ponte di Butter Street e la sopraelevata Gardner Express Way offrivano punti di osservazione migliori per avvistare gli zombie, quando ancora rappresentavano una minaccia. L'ospizio era collocato in un ex complesso commerciale all'angolo sud-est del forte, vicino all'ospedale improvvisato. I morbidi, come diceva Nai Nai, venivano trasportati lungo la parete orientale. Quella che trasportavano oggi, però, non era una morbida, e la via più rapida per l'ospizio passava attraverso il sito storico. Le mura di pietra presentavano aperture dalle quali un tempo i soldati sparavano con i cannoni. Nishimura e la sua squadra si precipitarono in una di esse, a un centinaio di metri dalla parete opposta. Sostenuti dall'adrenalina, Nishimura e Greer avrebbero dovuto percorrere la distanza in meno di un minuto, anche con una barella. Ma il sito storico era il cuore dell'insediamento e a quell'ora, il tramonto, era pieno di gente che concludeva le attività della giornata, rivedeva progetti di costruzioni, testava invenzioni, dava lezioni e giocava con i bambini. Era sempre un caos formicolante e rumoroso, ma piacevole. Come era stata un tempo la casa di Nishimura con Larry, Azuko, Chiyo, Daiki, Neola e Bea. Oggi il forte era doppiamente affollato. Nishimura provò la nauseante sensazione che tutti sapessero già che lui, il perfetto San Carl, aveva rovinato un'operazione di recupero in maniera talmente grave che l'amata Charlie Rukowski stava morendo, e la capa era stata fatta a pezzi. In pochi secondi le decine di gruppetti l'avrebbero circondato, come avevano fatto un tempo gli zombie, con gli occhi bianchi delusi, le bocche sbavanti per il suo sangue. Il vero motivo per cui si erano radunati era il voto, al quale mancavano poche ore, che avrebbe deciso il fato dei quattro della baracca e il futuro di Old Maddy. La votazione doveva cominciare all'alba, avrebbe usato il semplice metodo che usavano per questioni meno importanti. Si scriveva il voto su un foglietto di carta, lo si metteva in una scatola e si cancellava il proprio nome da un elenco. Prima della missione a Slow Town, Nishimura era convinto che la sua proposta avrebbe vinto senza problemi. Adesso non era più sicuro. Sentiva la gente litigare con una frequenza insolita per Fort York. Vedeva linee invisibili che dividevano una popolazione che finora le aveva rifiutate tutte. I seguaci di Karl Nishimura a Est, i devoti di Richard Lindhoff a Ovest, più numerosi di quanto Nishimura si aspettasse. Era impensierito da tutte quelle teste, dall'inconfondibile aspetto delle persone riunite per ascoltare un discorso. Non vedeva i suoi seguaci erano radunati davanti al deposito di mattoni, all'interno del quale erano tenuti quattro della baracca, che a sua volta era una cinquantina di passi dalla baracca a Est, la scena del delitto. Nishimura, Greer, La Faccia e Hoffman arrivarono fino alle baracche blu degli ufficiali prima che la folla li bloccasse, esigendo la loro attenzione. «Karl, la gente è radunata qui!» «Se lui parla, signor Nishimura, lei dovrebbe considerare seriamente, se Lindhoff vede che avete portato un morbido qui dentro!» «Indietro! Abbiamo una donna morsicata!» Le sue stesse parole lo fecero rabbrividire e vide il brivido comunicarsi ai corpi degli altri. Se solo ci fossero stati gli istruttori dei bambini, pensò. Un numero sorprendente di maestri d'asilo era sopravvissuto ai nuovi anni bui e nessuno era capace di calmare una folla meglio di loro. «È terribile, ma Karl, la situazione è qui!» «Mettetela giù! Qualcuno vada a prendere una pistola elettrica! Ce ne occupiamo noi! Lei vada a parlare alla gente! Questa è Charlie Rukoski!» gridò Nishimura. Se quella gente prendeva la barella, doveva imparare la fretta, che lui aveva già accettato come sua dea. «Non abbiamo nessuna intenzione di stordirla qui come una mucca! Non si merita di morire bene! La portiamo all'ospizio! Lasciateci passare! Per favore!» Greer prese lo slancio, sgomitando ferocemente. La faccia intanto usava il braccio come un cuneo e procedeva. La folla finalmente si divise. Gli unici che rimasero davanti a loro furono tre bambini che giocavano a battere le mani come per secoli avevano fatto i ragazzini prima di loro. solo che invece di filastrocche senza senso, come auli ule o tre civette sul comò, recitavano le parole apprese alla scuola di Fort York. «O zombie zombie non morsicarmi, ma se lo fai la scarica avrò. No mamma mia non piangerò. O zombie zombie portami via!» La scarica in questione era quella della suddetta pistola elettrica, del tipo usato per stordire il bestiame prima di macellarlo. I bambini accettavano la pratica con la stessa prontezza, con cui i loro genitori un tempo avevano accettato il rito altrettanto sconcertante del seppellimento dei corpi. Altre canzoncine riguardavano il da farsi, se qualcuno veniva morso o moriva fuori sede, e il fatto che Slow Town doveva essere lasciata agli zombie. La sorpresa per Nishimura fu che le filastrocche placavano anche gli adulti che tentavano di resistere mentre il mondo rinasceva. La squadra aggirò i bambini, passando accanto al giardino. Lunghe foglie di mais morto frustarono i loro volti. Nishimura fece finta di niente, ma vide Charlie premere contro le cinghie, come se volesse sentire la carezza da strega dei vitici, qualunque cosa pur di restare viva ancora qualche minuto. Come il Forte stesso, il giardino era triangolare e occupava un terzo della superficie. A dispetto del mais, delle fragole, delle calendule, degli astri gialli, delle primule, dei gigli e dei filodendri rinsecchiti per la stagione, il suo carattere selvaggio era evidente. Il rigoglio che aveva invaso l'America settentrionale apparteneva ai morti e, umilmente, Fort York aveva creato il giardino per dimostrare che anche gli esseri umani potevano lasciar vivere la bellezza senza distruggerla. Uscirono di nuovo all'aperto. La faccia scattò di corsa. Grier e Nishimura lo imitarono, seguiti da Hoffman. Superarono il punto centrale del Forte, la Meridiana Maggiore. Le quattro e mezzo, la luce del giorno stava per spegnersi. A ovest, in fondo a un vialetto di cemento, Nishimura scorse l'armeria, il simbolo più importante dell'insediamento. Poche persone arrivavano fino a Toronto senza un'arma da fuoco, o più di una, ma quando si entrava a Old Meddy, quelle armi venivano collocate nell'armeria, un luogo più che sigillato, murato. La vicinanza delle armi da fuoco era come la vicinanza di Slow Town. Il punto stava nello scegliere attivamente di non possederle. Gli esseri umani avevano costruito paesi votati all'annientamento con i loro eserciti. Intere città di distruzione, come l'Olimpia. Il nostro omocapo, Karl Nishimura, era stato complice nell'entusiasmo con cui il mondo cercava la morte, e simpatizzava con la scelta della morte di reagire. Poiché da anni non veniva avvistato un nuovo gruppo di zombie, una fornitura di sole tre armi da fuoco di emergenza veniva passata di mano in mano, a rotazione, nel consiglio dei custodi. Il termine custode era stato scelto apposta per rammentare i consiglieri che erano servitori, e non capi. Pur essendo così poche, erano riusciti ad avvelenare la loro vita. L'immagine della capa balenò nella mente di Nishimura, non la vecchia, saggia e rugosa, con la coda di cavallo che disegnavano i bambini, ma i frammenti sparsi della sua testa dopo che lui aveva premuto il grilletto. La faccia scacciò un paio di ragazzi che si baciavano sulla circolare, una porzione di muro a semicerchio con due aperture, entrambe munite di cannoni arrugginiti e inservibili. Greer alzò la barella per superarli ed entrò, costringendo Nishimura a fare lo stesso. I suoi muscoli di cinquantottenne tremarono e la barella si inclinò, ma Hoffman era lì e allungò un braccio per sostenerla. «Wow!» sbuffò Charlie, la sua prima parola da quando l'avevano legata. «Era il segno che sarebbe vissuto abbastanza per morire con le stesse cure che aveva prestato agli altri. Era tutta colpa di Nishimura. Avrebbe potuto rinunciare alla missione di recupero se avesse voluto. Con le votazioni incombenti, nessuno l'avrebbe criticato, ma l'orgoglio, come un seme che avesse inghiottito, era fiorito nel suo petto. Aveva voluto dimostrare di essere San Carl, il migliore di tutti». Di cosa si trattava in una parola? Di politica. L'antitesi di quello che avrebbe voluto che fosse Old Maddy. Se Richard Lindhoff l'aveva fatto cambiare così tanto in così poco tempo, forse il risultato del voto di domani non aveva importanza. Era in atto una battaglia più grande, e forse lui l'aveva già perduta. Un sollievo lasciarsi alle spalle la folla. Galopparono sul Fort York Boulevard e superarono il controllo del sapone all'ospizio. L'odore penetrante del sapone artigianale lottava con quello dell'ospedale lì accanto. A seconda del disastro in corso, quel pezzo di marciapiede poteva puzzare di urine, feci, sangue o addirittura di alcol, se qualcuno aveva trovato una vecchia bottiglia e aveva bevuto fino a star male. Oggi l'odore era semplicemente di candeggina, e Nishimura ne fu contento. Gli stimolava le narici come una punta di metallo, e teneva a bada ancora per qualche secondo il fetore dolciastro dell'ospizio. L'ospizio puzzava di putrefazione. Nishimura fece come sempre. Inspirò velocemente il tanfo per abituarsi, come che si tuffasse a bomba in un lago ghiacciato. Nessun elemento di Fort York era più cruciale dell'ospizio. Era come le filastrocche dei bambini in grande. conoscere, riconoscere e accettare la morte era ciò che poteva rendere finalmente perfetta la vita. Non ricordava cos'era prima l'edificio. Un centro estetico per le unghie? Una palestra di kickboxing? Era stato ristrutturato, ma non con l'antisettico color beige sentina dei centri medici pre-zombi. L'ospizio in effetti non aveva una funzione medica. L'unica cosa che separava l'atrio dal regno dei morbidi era una fila di tende male assortite. Una rosa poix, un'altra con dei piccoli calciatori. Una aveva un motivo di alberi di Natale. Il fattore unificante era che le sceglievano delle persone reali. Gri e Nishimura posarono la terra alla barella. Nessuno era più bravo della faccia a comunicare una cattiva notizia. Senza che gli venisse chiesto, la faccia scivolò tra le tende, per dire ai lavoratori dell'ospizio che una di loro era caduta. Gri arretrò fino alla parete, come se solo adesso, consegnato il pacco, potesse iniziare a elaborare la propria responsabilità. Hoffman si inginocchiò accanto alla barella, con la faccia inespressiva, lucida, come se fosse gonfia di lacrime che potevano farle esplodere la testa come quella della capa. Il momento dell'addio era arrivato rapidamente, come sempre. Nishimura sgombrò la mente da ogni altro pensiero, si abbassò e guardò la moribonda, i cui occhi erano addolciti da una patina gialla. Aveva confortato così tante volte i moribondi che si era fatto uno schema, ma adesso non riusciva a trovare neanche una parola. Questa era Charlene Rukoski, Charlie, che aveva giocato come catcher nelle partite di softball a Coronation Park, l'unica capace di eliminare un runner in seconda base, che una volta aveva cacciato un Nishimura troppo insistente minacciando di morderlo con due graffettatrici, che una sera aveva trovato a piangere da sola con un bel vestito, che per lei aveva un significato che lui non poteva indovinare, che aveva ballato con tale entusiasmo su Born to Run quando erano riusciti a rimettere in funzione un giradischi, che la sua faccia si era perduta fra i capelli scatenati. Se Nishimura era la mente del forte, Charlie era stato al suo cuore, e adesso avrebbero dovuto sopravvivere con quello che lei aveva tirato fuori da sé. Tutto sommato era molto. «Io...» «Niente frasi patetiche, lo sai.» Lui annui. «Ma perché proprio tu?» «E niente lunghi a ti.» Lui annui di nuovo. La vita di Charlie Rukoski ben presto sarebbe stata celebrata, e sarebbero state sparse tante di quelle lacrime che il giardino, pensò, avrebbe avuto una fioritura in pieno inverno. Gli zombie, stupidi come erano, avevano dato una lezione all'umanità. La morte aveva diversi livelli, forse i livelli che i vivi dovevano ancora scoprire. C'era qualcosa di sereno in questo, se ci si immergeva nell'idea. «Sono corso dentro senza avvertire nessuno. Ho perso il controllo.» «Perso il controllo? Tu o io?» Lui mise la propria mano, così vecchia, su quella di lei, così vecchia. «Tu sei stata perfetta.» L'ho toccata. Mia madre era seduta lì. Ha sempre amato le pelle. Nishimura nuì una terza volta. Molte delle persone che morivano per un morso di zombie dicevano cose senza senso, e Charlie non era così esperta nel lavoro dell'ospizio da riuscire a rallentare il decadimento della propria mente. Nishimura posò una mano sul volto di Charlie. La sua pelle era gelata. Il suo sudore caldo formava una nebbia che li aleggiava sulle gote. «Eri la migliore.» Il sorriso di Charlie spezzò la crosta malata che le induriva la bocca. «Eri tu, stupido.» Lui sorrise. «Tornerai nel Bronx?» chiese la faccia, riemerso dalle tende ondeggianti. La sua pistola, quella che aveva usato Nishimura, non c'era più. Era normale ridarla all'ospizio, che a sua volta l'avrebbe ridata al consiglio. La voce della faccia era dolce. Il suo arrivo era stato silenzioso. Anche adesso teneva le distanze. «Se potrai scegliere, voglio dire. San Diego. Il generatore di Chet Musgrave era il migliore.» Il suo sorriso si allargò. «Lui era il re dei generatori.» La faccia guardò Grir. Nishimura fece lo stesso. Grir era illuminata da dietro dalla luce rossa del tramonto e il suo viso era immerso nell'oscurità. Il suo arco urtò la parete mentre si stringeva nelle spalle, con il gesto di una ragazzina troppo timida per pronunciare le formule imposte dall'educazione. Era anche una missione. Nishimura era sicuro che Grir avrebbe offerto la sua giugolare alla bocca di Charlie, se questo poteva trasmetterle il contagio. Aveva già perso Mus, quindi perché no? Era una richiesta di scuse sufficiente per Nishimura e lui pensò che lo fosse anche per Charlie. Le tende oscillarono e una donna comparve dietro alla faccia. Dopo Charlie, Marion Castle era la più esperta dell'ospizio e prima del 23 ottobre aveva lavorato in un ricovero. Era un fulmine di un metro e cinquantadue e come sempre aveva il camice, i guanti e la mascherina. Del tutto insolita era la sua espressione. Charlie non era solo la sua superiore, ma una preziosa mica. E il fatto di perderla di colpo, insieme all'improvvisa responsabilità di doverla sostituire, le provocava una vertigine che Nishimura riconosceva dai tempi della marina, dove l'allontanamento o la morte di una persona comportava promozioni in tutta la linea. Uno di voi due vuole venire con lei? la sua voce tremava. Non siete obbligati, vengo io, disse Hoffman. Guardò Nishimura, non per chiedere il permesso, ma per sapere se stava forzando la situazione. Nishimura annui dolcemente. Naturalmente doveva essere Hoffman ad accompagnare Charlie nell'ultimo viaggio. Prese nota mentalmente di parlare con l'assistente di Hoffman, Louvi Lafayette, prima dell'indomani, e di controllare anche Hoffman stessa. Non sapeva in che modo avrebbe affrontato la perdita dell'unica persona di cui si fidava. La sua speranza era che l'irrefrenabile Louvi avesse fatto progressi sufficienti a tenere insieme sia la biblioteca che la bibliotecaria. Marion sbuffò, tenendo i singhiozzi per dopo. Piangere era incoraggiato a Old Meddy, ma Nishimura apprezzò lo sforzo. C'era un lavoro più urgente da fare adesso. Marion si inginocchiò e alzò la barella dalla parte della testa. Nishimura si scostò per lasciare il posto Hoffman, che prese i piedi. Marion annui, contando, e altre la sollevarono. In un attimo, Charlie Rukoski scomparve alla vista di Nishimura, e lui seppe che non avrebbe mai più rivisto il suo grande viso impertinente, segnato, divertito, circondato dai capelli biondi. Sentì però le sue ultime parole mentre la faccia teneva aperte le tende e le baregliere la portavano via. «Ah, sei tu», disse Charlie. E Nishimura si chiese chi credesse di vedere la sua mente in via di disfacimento. Chiunque fosse, ne fu felice. La gente ripeteva spesso che si nasce soli e si muore soli. Forse il dono più grande degli zombie era evitare la seconda cosa. C'erano degli uscieri che ti aspettavano adesso, al di là della tenda, felici di mostrarti il tuo posto. Metà bombardatore, metà bombardato. Personal History, trascrizione numero 215, luogo Biblioteca Nuova di Fort York, soggetto Carl Nishimura. Intervistatore Etta Hoffman. Giorno e ora 4359, 8 e 39. Note, nessuna. Innanzitutto, per prima cosa, adesso che stiamo registrando, voglio scusarmi ufficialmente. Avrei dovuto essere il primo a mettermi qui seduto con lei. Sono stato molto impegnato. L'espansione, capisce? Ma non è una scusa. Spero sappia che ci sono poche iniziative qui a Fort York che io trovo più preziose e sul piano personale più gratificanti di tutto quello che sta facendo lei qui alla Biblioteca Nuova. Se cambieremo il mondo, non lo sa nessuno, ma lasciare traccia del nostro tentativo è indispensabile. Non mi dispiace affatto, anzi, sono io che insisto. Qui è lei che comanda e io ubbidisco. Ho l'impressione che lei non si considerino a leader Hoffman. Ma cos'è una leader? Un leader è uno che agisce in maniera tale da ispirare altri che lo seguono. Quando sono arrivato qui nell'anno 10 c'erano, ma, 300 persone. Sa quante di queste 300 persone avevano sentito parlare di lei? Una donna l'aveva chiamata varie volte nel corso degli anni. Lizzie Bonaparte. Non so se gliel'ha fatto già vedere, ma è una tatuatrice e sa cosa si è tatuata sul braccio sinistro. State bene, chiamatemi. Ho qualche rimorso. Mi sentivo come se fossimo dei saccheggiatori qualsiasi. Capisco che il suo piano era di lasciare l'archivio perché fosse trovato in futuro, ma noi sapevamo che le persone ne avevano bisogno in quel momento. Sapevamo che potevamo farlo diventare una cosa dinamica e viva. Lizzie aveva tatuato anche il suo numero e noi avevamo quel fantastico telefono che funzionava ancora. Linee fisse. Da non crederci, eh? Le telefonate di Charlie erano ingannevoli. Andare a Washington per derubarla, e questa, la parola giusta, è stato un errore calcolato. Fatto per quello che pensavamo fosse un bene superiore. Che lei abbia accettato di seguire Charlie mi ha reso molto felice. Doveva essere Charlie. Di chi altri si sarebbe fidata? Abbiamo immaginato che sarebbe riuscita a percorrere i 600 chilometri fino a Washington. È arrivata da San Diego, che vuol dire 3.500 chilometri. Ha battuto perfino me. Da Puerto Vallalta a Toronto sono 3.300. Io sono competitivo. Ho fatto i calcoli. Mi sono espulso da un F-18. Un caccia. La pilota, un'ottima marinaia di nome Jennifer Angelis Pagan, era stata pugnalata prima del decollo. Da me. Per errore. E mentre dormivo ci eravamo allontanati molto dalla rotta. si è trasformata in zombie appena prima di raggiungere la terra. C'è un mozzo che mi ascolti su questa nave? Io l'ho ascoltata. Mi sono espulso come mi aveva spiegato lei. Tutto, credo, è andato secondo le regole. Il paracadute si è aperto. L'ho perfino manovrato un po'. Quando ho toccato l'acqua, l'ho fatto come avevo imparato a lezione. Lato del piede, lato del bacino, sotto la spalla. Per attutire l'impatto, comunque, non raccomando l'esperienza. Ci si sente sbriciolare le ossa, le garantisco. Sott'acqua ci si sente soffocare. E c'è un paracadute da gestire, un lenzuolo di cemento bagnato. Oggi non potrei farlo, con 15 anni in più, neanche a pensarci. Ma mi sono liberato. Ho preso il mio seggiolino e mi sono messo a remare. Non ho neanche pensato. Eppure Jenny me l'aveva detto, al fatto che i due seggiolini erano stati espulsi insieme. Una bretella del paracadute? Un corallo? Assomigliava troppo a una mano per essere una mano, anche se suona assurdo. Sono stato tirato sott'acqua così rapidamente che avevo ancora gli occhi aperti. Ed eccola lì, Jenny Pagan, appesantita dalla tuta d'aviatore del casco, ma se la cavava bene, non dovendo respirare. Mi aveva salvato la vita più di una volta ormai. Sembrava che le dispiacesse. Aveva entrambe le mani intorno alla mia caviglia e io mi sono messo a scalciare. Ma ero senza forze. Ero perduto. Mi stava attirando nella sua nuvola di sangue. Uno squalo. Ci crede? Penso che sia stato il suo sangue da tirarlo. È arrivato di scatto, come un elastico d'argento, e l'ha afferrata alla vita. Appena il sangue si è dissolto, ho visto altri squali. Immagino che mi fosse rimasta un po' di forza per nuotare, dopo tutto. Curioso questo comportamento dei predatori. Ho raggiunto la spiaggia e sono rimasto lì per ore. Ed è stato un bene che mi sia riposato. Sa che la marea porta con sé alghe e conchiglie e reliti. Così è successo, con in più gli zombie. Non so se fosse affondata una nave, se ci fosse stato un suicidio di massa o cosa, ma sono arrivati un'onda dopo l'altra. Tutti verdi e gonfi, talmente impregnati d'acqua, che non riuscivano a stare in piedi, ma arrancavano sulla spiaggia verso di me. Se mai ho avuto la tentazione di rinunciare, Hoffman, a me o al mondo, è stato in quel momento. Che mi prendessero pure. È una preoccupazione che apprezzo, ma scommetto che per altri dieci anni l'archivio sarà incentrato sull'America del Nord. Vorrei poterle dire di più sul Messico. So che sono rimasto nel golfo della California. Durango, Sinaloa, Sonora. Povere città con palazzi color pastello. Non sapevo che cosa facesse o non facesse il governo messicano, ma sembrava che fossero passate delle bande di guerriglieri. Morte. Solo morte. Ragazzi, bambini, vecchi, tutti mitragliati alla testa. A volte mi svegliavo per due diversi rumori. Uno erano gli zombie, in gran numero, a qualche chilometro di distanza. Li vedevo oscillare sui fianchi delle montagne. L'altro era il rumore delle armi da fuoco, come uno sciame di api. So solo che era una guerra, e io non volevo più prendere parte a una guerra. Mai più. Anni. Pochi. Tanti. Si perde il conto. In confronto all'Olimpia è stato facile. Glielo racconterò un'altra volta, ma le garantisco che quello era un inferno. Questo sembrava lavoro d'ufficio. Qualcosa che dovevo smazzare. Un altro miglio. Un'altra città. Un altro isolato. Non sempre a piedi. C'erano carovane. Tutte dirette a nord. Le cose dovevano andare meglio negli Stati Uniti, no? Mi sono unito a una di esse. Ma se non si parla la lingua è come se si emettessero gemiti da zombie. Ogni volta che bisognava prendere a calci qualcuno, ero io. Io non combattevo. Il tempo di combattere era passato. Già allora, nei miei anni messicani, questo mi era chiaro. Gli zombie sono così lenti, così stupidi. Se i vivi fossero stati capaci di evitare di combattere, oggi staremo bene. Bene. Saremo illuminati. Sì, mio marito Larry. E i nostri figli, Atsuko, Chiyo, Daiki, Neola e Bea. A volte faceva così caldo. Avevo tanta sete ed ero così stanco che non riuscivo neanche a tenere a mente tutti quei nomi. Li abbreviavo. L-A-C-D-N-B. Io e quelle sei lettere abbiamo attraversato il confine presso il paso. Nome appropriato, onestamente. La mia era una famiglia di immigrati. Solo che a quel confine gli unici a cui si sparava erano gli zombie. Quelli che oltrepassavano un confine di qualunque tipo. Ho sentito un sacco di storie, ma a quali si poteva credere. Ho sentito di ricchi che usavano gli zombie come eserciti a est. Ho sentito del leone della colomba che facevano i Robin Hood nel Midwest. Ho sentito dei patrioti che facevano saltare in aria intere città in Kansas. L'unica leggenda che ho visto di persona è stata questa zombie che aveva attraversato l'inferno, tutta sbrindellata, mezzo ustionata, quasi una morbida. aveva delle gambe metalliche e non cadeva mai. L'ho incontrata a Taos. Stavo esplorando uno script in rovina ed eccola lì, con le gambe di metallo che avanzavano nella neve. Ho preparato l'ascia. Quando le ho detto che non intendevo combattere non volevo dire che non mi sarei difeso. È venuta verso di me. Tutta la parte sinistra dei suoi vestiti non c'era più e la sua pelle scintillava. Per il gelo. Era parzialmente congelata. Era effettivamente bella, Hoffman. Non so se lei poteva capirlo da Washington, ma la bellezza era qualcosa che non si vedeva da molto tempo. Sì, l'intero paese sarebbe tornato bello molto presto. Forse si ricorda che gli scienziati dicevano che il cambiamento climatico ci avrebbe annientato. I danni che avevamo provocato erano irreversibili. I nostri nipoti avrebbero indossato maschere per l'ossigeno, ma non avevamo mai messo in conto l'estinzione del genere umano. Si sentiva il respiro della natura, le foglie che tremavano di piacere. Siamo morti perché il pianeta potesse vivere. Ne sono convinto. Forse la zombie di Taos potrebbe confermarlo. Mi ha lasciato in pace. E anch'io l'ho lasciata in pace. Ho trovato una motocicletta seppellita nella neve con un sidecar pieno di carburante. L'ho presa e rischiavo di schiantarmi dieci volte al giorno, perché non riuscivo a smettere di guardarmi in giro. La vita. La vita che era tornata. Sapevo che le possibilità erano scarse, ma continuavo a sperare che L, A, C, D, N, B fossero vivi, perché potessero vederla. Perché è impossibile vederla e non sentirsi trasformati. Non si può vederla senza capire come avevamo rovinato tutto. No, li ho trovati. Ero... Ero un'altra persona ormai. Ciò che mi avrebbe spezzato in due quando ero sulla nave. Capivo che eravamo parte di una cosa più grande. Ha mai visto come un gruppo di zombie lavorano insieme, senza dire una parola. Loro sanno di essere parte di una cosa più grande. Magari con le macchine morte, senza più il loro ronzio di sottofondo, potremo ricominciare a sentire quello che sentono gli zombie, e i cani, e i topi, e gli alberi. Larry... Larry ha fatto quello che riteneva giusto. Erano tutti all'interno della casa di Buffalo. Ci ho messo mezza giornata per forzare le barricate. Sei mucchietti sotto ragnatele spesse come coperte. Ho pensato che fossero morti davvero finché uno dei mucchietti si è mosso. E poi si sono mossi tutti e sei. Come se li avessi svegliati. Larry, Atsuko, Shio, Taiki, Neola e Bea. Ho usato i loro nomi interi quando mi sono occupato di loro. Oggi mi comporterei diversamente. Erano morbidi quando ancora non avevamo un termine per indicarli. Poi sono andato in giro a cercare foto della nostra famiglia allargata. Naturalmente ho pensato all'ultima volta in cui il mondo si era quasi annientato. E ho avuto questo pensiero. È inutile e non voglio che venga espresso male. Io sono nipo americano. Metà bombardiere, metà bombardato. Io e altri come me siamo stati la soluzione a quella guerra. L'unica soluzione possibile. E se questo volesse dire che nei miei geni ho le caratteristiche per mettere insieme le due parti di questa guerra. Un'idea stupida, senza dubbio, ma mi ha sorretto fino a Toronto. Da molto tempo sentivo parlare di Toronto. 300 persone che vivono insieme senza zannarsi alla gola. Già, questo era notevole. Sì, avevano delle teste in cima ai pali. Sì, c'era il problema delle manette nel deposito di pietra. Ma qualcosa di giusto lo stavano facendo. Sono arrivato dal Gardner Expressway, che era coperto di erba verde e lassù, guardando dall'alto Fort York, si capisce che è in una buona posizione per difendersi. Sapeva che un tempo il Fort era in riva all'acqua? Per questo lo chiamavano Maddy, fangoso, e noi continuiamo a chiamarlo Old Maddy. Ci sono voluti un paio di secoli per bonificare i terreni, ma nell'anno dieci i confini naturali stavano tornando. Ben presto il Fort si troverà di nuovo affacciato sull'acqua e sarà ancora più facile da difendere. La gente dovrà arrivare in barca, se vorrà attaccarlo. Lo so, lo so, è una mentalità difficile da superare. La difesa era la nostra ossessione in marina, e l'unica cosa a cui pensavo quando sono arrivato qui, anche se già allora vedevo tutti i giorni dei morbidi ai lati della strada. La cosa che mi ha colpito di più sono stati raccolti. Nel parco di Garrison Common, nei campi oltre Butters. Questo doveva essere un posto speciale. Quando sono sceso e mi sono presentato, la gente era aperta, gentile. Lei non ha viaggiato molto, per questo cerco di farle capire, e di far capire a chi leggerà le mie parole in futuro, che queste erano cose incredibilmente rare e preziosi. Mi asciucavo le lacrime. In seguito, ripensando a Fort York e al suo valore simbolico, tutto ha acquistato senso. Gli ufficiali di marina di solito conoscono la storia militare. Il sacco di York. 27 aprile 1813. Gli Stati Uniti invadono il Canada. E' questo che mi passa per la mente quando mi guardo intorno. L'America ha invaso il Canada. Se avesse vinto, il Canada non ci sarebbe neanche. Perché gli Stati Uniti avevano bisogno di tutta quella terra in più? Perché era dei britannici, ovviamente. Gli americani arrivano con le loro navi. Ci sono solo e poche centinaia di soldati britannici, qualche uomo della milizia, un pugno di Mississauga e Ojibwa. Non solo li aggrediamo, ma ne siamo sconcertati. Tutti gli inglesi trovati a combattere accanto a uno di quei selvaggi indiani saranno giustiziati, diciamo. Finiamo con l'incendiare York. Un anno dopo, i britannici si vendicano della nostra vendetta e bruciano la Casa Bianca. Quando fu firmato il di Gand, sa cosa era cambiato nel confine tra Canada e Stati Uniti? Niente. 20.000 morti e la risposta è niente. Esattamente la popolazione stimata nell'anno 10 sull'intero pianeta, in cui è tante, eh? L'inutilità. Questo rappresenta per me Fort York. Prima della guerra del 1812, la maggior parte delle persone nel Canada erano americane. Combattevamo noi stessi, capisce? È sempre come il 23 ottobre. Combattiamo noi stessi. È la storia dell'umanità e deve finire, Hoffman. È quello che stiamo tentando di fare qui. Il che ci riporta al deposito di pietra. Non abbiamo timore. Diciamolo per i posteri. Il deposito di pietra è un magazzino senza finestre, a prova di bomba, costruito nel 1815 per tenere al sicuro le polveri. Quando sono arrivato era pieno di zombie. I campi che avevo visto erano lavorati da degli zombie che spingevano aratri ed erpici. Appendevano della carne davanti agli aratri. Carne umana che tentavano di mantenere fresca conservandola sotto terra. Cosa disgustosa per molti aspetti. Gli zombie avevano catene alle caviglie per poterli controllare. La gente di cui li definiva addomesticati. Non erano affatto addomesticati. Erano ridotti in schiavitù. Potevamo. Ma potevamo anche concentrarci su quanto queste persone erano disposte ad accogliere punti di vista alternativi e dissidenti. Io sono arrivato con un sacco di idee. Non mi hanno tappato la bocca. Non mi hanno sbattuto fuori. Volevano essere persone migliori. Erano eccitate all'idea. Io ho detto solo che non dovevamo fare niente se prima non liberavamo gli zombie. Non potevamo costruire un mondo nuovo sugli errori di quello vecchio. È stata la primissima votazione che abbiamo fatto. Il decreto 1. Non è stata unanime ma democratica. Abbiamo portato quegli zombie a Stanley Park e cominciato a spezzare le loro catene. E poi loro... Mi scusi. Ha un... Grazie. Se lei avesse potuto vederlo. Larry aveva avuto degli antenati schiavi a Trinidad e Tobago. Se solo ci fossero state ancora in giro delle cineprese e la WWN in modo che tutto il mondo potesse vederlo. Quando abbiamo liberato i primi zombie non sono venuti contro di noi. Si sono messi a liberare gli altri zombie. A mordere le catene. A spezzarsi le dita sulle catene. Non sapevo come interpretarlo. In realtà nessuno lo sapeva. Ma una cosa era sicura. Senza dubbio avevamo fatto la cosa giusta. Siamo venuti via da lì. Abbiamo risalito la massicciata della strada e abbiamo guardato gli zombie che si allontanavano. Verso dove? Queen Street. Slow Town. L'hanno scelta loro. La nostra seconda votazione. Il decreto 2 ha stabilito di lasciargliela. Ho chiarito fin dal primo giorno che non era un capo. Un capo era la cosa peggiore che potessimo avere. Quello di cui avevamo bisogno qui era l'esatto contrario dell'Olimpia. Dovevamo disperdere il potere. Mettere fine al patriarcato. Condividere pesi e responsabilità. Essere fratelli e sorelle. Non capi e seguaci. Si comincia così e finisce per sembrare ovvio. Avremmo creato un'oasi di pace. Magari un paradiso. Almeno ci avremmo provato. Non avremmo mai avuto un'occasione simile per ripartire da zero. Da qui il consiglio dei custodi. È in questo modo che abbiamo chiuso l'armeria. Non è una scelta così radicale se ci pensa. Il fatto che ci facesse tanta paura era la prova che dovevamo farlo. Dovevamo rompere il circolo vizioso. L'armeria era l'occasione di mettere i soldi dove avevamo la bocca. Questa è una brutta metafora. Dato che il decreto 3 ha proibito l'uso dei soldi. Tutto. Le armi erano tutto. Servivano a procurarsi la cena. A proteggersi dagli zombie. Ad affermarsi contro i rivali. Ma le armi servivano anche a rubare il cibo ai bambini. A uccidere. A stuprare. Avere le armi voleva dire avere il fuoco. Alla fine travolgevano tutto. Guardi me. Hanno travolto la mia vita. Così abbiamo preso quelle che ritenevamo le nostre cose più preziose e le abbiamo rinchiuse. Murate nel deposito di pietra. Lo stesso posto in cui avevamo tenuto schiavi gli zombie. Sono lì. Si possono prendere. Ma ci vuole del tempo per tirarle fuori davanti a tutti. Sarebbe come profanare un tempio, no? Direi lo chiede ai bambini. Intervisterà anche i bambini? Per loro l'armeria non è una riserva di violenza latente. È una lapide. Se crescono vedendo le armi come le generazioni precedenti vedevano le torture medievali nei musei, nulla mi renderà più orgoglioso. Questa è la domanda migliore di tutte. Perché se siamo solo noi, a cosa serve? Mi rifiuto di definire Old Medi un posto speciale. Non possiamo superarlo. Dobbiamo sperare che non sia per niente speciale, che tutte le società che stanno fiorendo prendano la stessa direzione. La mia ultima tappa prima di Buffalo è stata Detroit. Jenny Pagan veniva da lì. Avevamo battezzato la nostra fuga Operazione Bill's Lions. Le avevo promesso di riportarla a casa ed evidentemente ho fallito. Ma sono andato là per vedere se trovavo qualcuno con l'aria portoricana. E l'ho trovato. I genitori di Jenny, George e Lorena. Vivevano nella palestra di un liceo. Mi sono tornate tutte le abitudini da militare. Mi sono messo sull'attenti. Ho fatto il saluto. E non mi sono mosso finché non hanno risposto al mio saluto. Gli ho detto che la loro figlia era stata una marinaia eccezionale e che se era ancora possibile onorare qualcuno, proponevo a tutti di onorare lei. Ho chiesto scusa. No, hanno detto. Erano loro che dovevano scusarsi. E hanno pianto. Fino ad accasciarsi a terra. E io ho pensato. Chiunque fossero queste persone, per qualunque cosa chiedano scusa, sono cambiate. Siamo tutti cambiati. Forse abbiamo una possibilità. Libido Dominandi La faccia divorava i libri di storia della biblioteca nuova. Ma era sempre il contrattempo della WWN, l'imprevisto di fine trasmissioni, a stimolare le sue riflessioni più strane. Un servizio descriveva un professore di palm string che aveva inventato per i suoi allievi più brillanti un esercizio sull'utopia, un biodomo casalingo in cui dovevano vivere per due settimane. Il corrispondente della WWN diceva scherzando che si trattava di una piccola prigione di Stanford e chiedeva al professore di elencare le idee utopistiche più strane del passato. Quella che la faccia si ricordava era il paese di Cuccagna, un paese a cui la fantasia medievale attribuiva fiumi di vino, alberi di pan di spagna, pioggia di biscotti e anatre che volavano già arrostite. Per arrivarci bisognava mangiare tre miglia di budini di riso. Nessun confronto con Fort York e le sue strutture di legno, pietra e mattoni, basse, essenziale, vecchie di duecento anni. Quattrocento persone ansiose, che riducevano l'erba a fango, non contribuivano a migliorarle. E questo mediocre miscuglio doveva essere il loro paradiso? La faccia si premette i pugni sugli reni doloranti e guardò Nishimura che tornava, camminando un po' come uno zombie verso il forte. A un tratto ebbe il timore che Nishimura si voltasse, sapendo che la faccia non mentiva mai, gli chiedesse se Old Muddy poteva farcela. In quel momento la faccia sarebbe stato costretto a rispondere che non era sicuro. Quando era arrivato, nell'anno undici, si era subito convertito alla grande visione dell'ufficiale di Marina. Era un terreno duro da dissodare, disse Nishimura mentre zappavano un campo di sorgo. Aveva ragione. L'impulso a possedere era talmente potente che perfino la faccia doveva costringersi a non tenere da parte quello che trovava. Un divanetto intatto, per esempio, che sarebbe stato meglio negli spazi comuni del forte, o un coltello perfettamente conservato, utile a chi lavorava nelle cucine. L'aspetto della faccia lo rendeva un improbabile portavoce dei progetti di Nishimura, ma l'esperienza di Anchorman gli aveva fornito buone capacità dialettiche e lui aveva contribuito a persuadere i residenti di Old Medi a rischiare un presente passabile per un futuro ideale. La prima fase era stata basata su un egualitarismo classico, comunistico. Se lavoravi, avevi tutto gratis. Il consiglio dei custodi restava in carica per un periodo breve. Un mese. Valutava le proposte, assegnava i turni di lavoro e vagliava le scelte quotidiane. Nishimura diceva che il consiglio era concepito in opposizione alla gerarchia militare. Far parte del consiglio dovrebbe dispiacere, diceva. Missione compiuta. La faccia poteva raccontare da testimone che lavorare nel consiglio era come essere inseguiti dalle galline, non quelle zombie, quelle starnazzanti. Qualcuno trova un tesoro di minestre in scatola, le cornie tipo broccoli e formaggio o wonton di pollo o cipolla alla francese e chi ha il piacevole compito di decidere a chi spettano. Uno dei mulini ad acqua che danno elettricità al forte si rompe le tre della mattina e indovina chi deve svegliare l'addetto alle riparazioni? In quelle ore troppo tarde o troppo matutine, rabbrividendo e sbadigliando, la faccia si sentiva lento come uno zombie. Quello che Nishimura aveva colto giustamente era il piacere che si provava alla fine del periodo da custodi. Servizio pubblico erano le parole che i dipendenti della WWN amavano usare per descrivere il loro lavoro, trascurando gli stipendi a sei o sette cifre. La faccia ricordava un fazioso mezzo busto che lamentava il fatto che il presidente Bush, dopo l'11 settembre, aveva mancato l'occasione. Una di quelle che si presentano una volta per generazione, per galvanizzare il volontariato degli americani come non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. Qualche decennio più tardi, la faccia era d'accordo. L'altruismo avrebbe salvato il mondo. Nishimura scivolò attraverso l'apertura della circolare. La faccia vide i residenti che lo circondavano come un'orda di zombie. Più in là non riusciva a vedere granché. Il sole era calato e notò appena Grir che si muoveva di soppiato verso la baia, a sud, con la curva del suo arco che sembrava dritta accanto alla schiena ingobbita. Non sapeva cosa fare. Seguire Grir per assicurarsi che stesse bene? Rimanere lì e aspettare che Charlie finisse il suo viaggio? O raggiungere Nishimura ed essere il fedele vice che era sempre stato? Non c'era una vera scelta. Se il risultato del voto dell'indomani era a rischio, era suo dovere dire la verità a coloro che potevano chiedergliela. Scese le scale dell'ospizio e pensò che le sue caviglie emettevano un piccolo cric-crac. La faccia salutò l'addetto al controllo del sapone. Si lavò le mani e si appoggiò al cannone. Lieto che la debole e esitante luce delle torce a vento del forte gli nascondesse il volto. Le persone all'interno di quelle mura erano talmente preoccupate da avere la nausea. L'odore ricordava quello degli zombie che strisciavano sul campo di battaglia del generale Spaulding. Forse Mews King era stato saggio ad andarsene dopo l'arrivo di Richard Lindhoff. «Il mondo è duro», aveva detto una volta Nishimura, «ma l'utopia è delicata». La faccia si appoggiò più pesantemente al cannone. Magari avesse potuto appoggiarvi anche il peso della sua mente. Ripensò la lunga conversazione notturna che aveva avuto con Nishimura e Charlie dopo il suo arrivo, quattro anni prima. Era il suo ricordo più bello dal 23 ottobre. Forse era il ricordo più bello e basta. Quando mai, in una vita di modelle disinteressate e colleghi sprezzanti, si era sentito davvero accettato? Erano nella mensa di Fort York, costruita nel 1815. O così, diceva la targa. E le pulizie, dopo un pasto comunitario, si erano trasformate in una di quelle notti magiche che dopo l'università non si vivono più, in cui delle anime gemelle ti ubriacavano di una gioia senza motivo e la luce del giorno doveva ancora trovare le crepe nelle vostre idee. Avevano cazzeggiato come se avessero una cassa di birra da consumare. Nishimura, più rilassato di quanto la faccia l'avrebbe mai più visto, posò i piedi su un tavolo ed espose le idee che aveva elaborato attraversando Messico, Stati Uniti e Canada. «Siete religiosi voi due?» chiese. I miei dicevano sempre il rosario. Charlie era distesa a terra, come una ragazzina a una festa di adolescenti. «Mi chiedo se la fede non diventi più forte se non ci si pensa. È un'idea blasfema. Ma non pensate che sia vero?» La faccia spense un'intera fila di candele prima di mettersi seduto più vicino. Era ancora nuovo e voleva risparmiare a quelle persone una chiara visione del suo volto. «Non ci ho mai pensato molto ai tempi», si strinse nelle spalle. «Non ho mai pensato molto a niente». «I miei erano scintoisti o buddisti. Io non sono mai stato né l'uno né l'altro e quello che ho visto sull'Olimpia non mi ha reso particolarmente caro il cristianesimo. Ma quello è il tipo di fervore di cui avremo bisogno. Ci serve gente che faccia uno sforzo di fede». «Non succederà. Tutto ciò in cui avevano fede è andato a puttane». «In cosa è che avevano fede perlopiù?» Charlie sospirò. «Conoscevo un tizio che aveva fede nell'elettronica». «Anch'io ero così. Ero collegato ventiquattro ore al giorno. Non so perché. Ci dicevano in continuazione che i nostri strumenti venivano usati contro di noi per rubarci informazioni, per venderle. Ma io continuavo a credere il contrario». «Piccole bombe nucleari che portavamo in giro come gattini. Il problema con i cosiddetti strumenti smart era che si potevano personalizzare. Si poteva seguire chi si voleva seguire. Vedere e sentire le cose che ti piacevano già. Erano specchi portatili. Ovviamente ne eravamo ossessionati. Il trucco adesso è sostituire quegli specchi con una finestra. «Basta guardare noi stessi e vediamo gli altri». «Non funzionerà». «È questo lo spirito giusto, Rukowski?» «Tutti penseranno che stiamo tornando indietro. Anch'io». «Stai parlando di ispirare le persone con le idee. Come un tempo erano ispirate dalla religione. Il problema è che la religione si basava sui miracoli. Abbiamo usato tutti quelli che avevamo. Gli uomini dei tempi biblici avrebbero pensato che la vita prima del 23 ottobre era piena di miracoli. I nostri ciechi potevano vedere. I nostri zoppi potevano camminare. I nostri morti potevano vivere». «È proprio questo che mi dà speranza. Una cosa di cui sono sicuro è che non eravamo felici allora. Non eravamo soddisfatti. Quello che è cambiato è che adesso possiamo vedere di nuovo il mondo, bello e puro. Credo davvero che possiamo usarlo bene se ci comportiamo come gli animali, prendendo solo quello che ci serve». «Quante persone ci sono qui?» «Hoffman sta facendo un censimento, ma devono essere cinque o seicento». «Con questo numero potresti riuscire a realizzare quello che dici? Potresti dire «non dividete più l'atomo, non producete il gas mostarda, qualunque cosa facciate non inventate i social media». Ma con mille? Duemila?» «Ho letto che una popolazione deve essere di almeno diecimila persone per evitare l'endogamia». «Libido dominandi, la brama di dominio. Se conosci un po' di capitani di marina, capisci l'espressione». «Latino. Se posso scegliere, preferisco l'apocalisse alla facoltà di medicina». «Da qualche parte in Connecticut stavo esplorando un vecchio centro commerciale e ho visto una telecamera di sicurezza. Pochi minuti dopo ne ho visto un'altra. Quando mi sono messo a guardare, ne ho viste dappertutto. Dovevano esserci migliaia di telecamere del genere. Alcune funzioneranno ancora, col vento, col sole, e l'unica cosa che guardano sono altre telecamere. Un loop infinito, senza esseri umani in vista. È questa la nostra eredità, un mondo di cui non facciamo nemmeno parte. Non possiamo farlo di nuovo», si strinse nelle spalle. «Penso che questo voglia dire che sono dei vostri». «Hola, gli uomini hanno un piano. Di sicuro finirà bene». Ma prima che la notte fosse finita, tutti e tre erano eccitati dalla speranza della tela bianca. Ansimavano per l'entusiasmo, facevano esclamazioni di consenso, ridevano di ogni cosa. A un certo punto Charlie si coprì il viso, mortificata dalla loro ambizione. La faccia le scostò il gomito per rivelare il suo sorridente imbarazzo. Lei lo picchiò scherzosamente e lui dovete tornare a sedersi a una certa distanza per calmare il suo cuore. Nessuno lo toccava con dolcezza da undici anni. La sua decisione di contribuire a fare di Fort York un paradiso raddoppiò. Tutto era possibile. In quella sola sera vertiginosa furono piantati i semi per due protocolli guida del forte, l'armeria e l'ospizio. Nel frattempo avevano una filosofia da seguire e una direzione in cui andare. Con l'aiuto di Charlie e della faccia, le grandi idee di Nishimura si diffusero più veloci del meme «conlassando». Per la faccia era naturale, gli zombie stavano morendo, il forte stava crescendo. Nella collezione di vecchie riviste della biblioteca nuova trovò la pubblicità ingiallita di un quartiere di periferia degli anni cinquanta, che strappò e attaccò sulla porta della sua stanza. Un esperimento di vita migliore. Stava fallendo l'esperimento? La faccia entrò nel forte. Tutte le torce a vento bruciavano, dando alla folla una sfumatura arancione. Quelle erano persone che si abbracciavano e si tenevano per mano e facevano giocare alla cavallina tutti i bambini che glielo chiedevano. Vederle divise in due era scioccante. La gente davanti al deposito di mattoni, all'interno del quale si trovavano i quattro della baracca, era la più rumorosa. Se c'era un posto in cui era necessaria l'assoluta onestà della faccia, era lì. Percorse il viale centrale, eredità di quando il forte era una trazione storica che tagliava il giardino, superava l'armeria e la meridiana maggiore. Poi girava verso la folla in attesa. Richard Lindhoff non era ancora comparso, anche se una grossa cassa era stata collocata davanti al deposito di mattoni per il suo discorso. La faccia si fece strada avvicinandosi finché non riuscì a leggere la scritta scolorita. Carne essicata. Sembrava adatta. Ford York, come tutti gli insediamenti noti, poteva anche essere diventato vegetariano, ma l'antico desiderio di carne leggiava e Lindhoff aveva distribuito carne rossa dal momento in cui era arrivato. La faccia si massaggiò le braccia per riscaldarle, pensando a quello che aveva sentito dire di altre comunità dai nuovi arrivati a Fort York. I loro racconti descrivevano colonie simili a Old Maddy, ma prive del suo carattere arcadico, il che le rendeva più volatili. Notizie generalmente incoraggianti, come i racconti del crollo di società meno piacevoli. L'insediamento più vicino a Fort York era Fort Drum, un ex centro di addestramento militare sulla costa statunitense del lago Ontario. Prima del 23 ottobre vi si addestravano ogni anno 80.000 soldati. Oggi, a quanto si sapeva, era un tranquillo villaggio circondato da mura e occupato da industriosi lavoratori che erano giunti a conclusioni simili riguardo i morbidi. E li lasciavano in pace, anziché dare loro la caccia. Fort Drum aveva una peculiarità, confermata da due viaggiatori. Come a Fort York, i suoi abitanti sognavano un mondo privato dai suoi impulsi autodistruttivi, ma volevano realizzarlo attraverso la neurologia. La popolazione di Fort Drum comprendeva tre neurochirurghi che studiavano la corteccia ventromediale prefrontale e la corteccia insulare, aree del cervello che controllavano i comportamenti egualitari e la gentilezza. Se fossero riusciti a manipolare queste aree, erano convinti che avrebbero potuto neutralizzare gli impulsi antisociali. Sarebbe stato bello liberare il mondo da futuri Lindhoff, ma il pensiero dei neurochirurghi dilettanti faceva tremare la faccia. Era contento che Fort Drum esistesse, che stessero pensando al futuro. Per ora era contento anche che fossero una giornata a cavallo di distanza. La folla vibrava. La faccia si alzò in punta di piedi e vide un gruppo di sette o otto persone entrare nel forte del cancello est. Non c'era dubbio che si trattasse di Lindhoff. C'era un orgoglio pomposo nel modo di camminare di quelli che gli facevano inutilmente da guardia del corpo, mentre l'uomo, al centro, procedeva volutamente con una lentezza che non nascondeva del tutto la sua zoppia. Quella solennità fece rivoltare le viscere alla faccia. Nessuno a Fort York aveva avuto a che fare con Lindhoff meno della faccia. Il motivo era semplice. Lindhoff trovava la faccia repellente. Quando lo scorgeva si girava dall'altra parte e assumeva la maschera di un bambino disgustato a cena. All'inizio la faccia non se l'era presa. La reazione era onesta e non c'era qualità che lui apprezzasse più dell'onestà. Questo beneficio del dubbio durò una settimana. Come altri a Fort York, Lindhoff aveva delle lamentele, ma al contrario degli altri non le sottoponeva al consiglio dei custodi. Lui sparlava, faceva commenti personali. Gli idioti del consiglio, gli scemi che facevano tutto quello che dicevano loro. Uomini che avevano avuto la forza di sopravvivere in nuovi anni bui avrebbero dovuto smascherare subito quelle campagne di sussurri da scuola media. Invece un sorprendente numero di persone ne era attratto. La faccia vide che le labbra reimparavano a sogghignare. La faccia tenne per sé queste osservazioni. Gli sembrava bello essere oggetto di un disgusto così aperto. Adesso se ne pentiva profondamente. Avrebbe dovuto affrontare subito Lindhoff e costringerlo a guardare la sua faccia contorta, se non altro per fargli riconoscere quello che tutti a Old Maddy avevano attraversato. A cosa era servito se tornavano gli atteggiamenti meschini e spregevoli? Una volta raccolto un gruppo di seguaci scontenti, Lindhoff cominciò a spacciare piccoli incidenti per grandi scandali. Un mese dopo il suo arrivo, uno yacht approdò a poca distanza con a bordo dei topi zombie e passarono due giorni a bruciare l'imbarcazione in acqua. Se Fort York avesse avuto una politica di pattugliamento del porto e di bombardamento delle imbarcazioni vuote, gridò Lindhoff col volto in fiamme, minacce simili non ci sarebbero state. Se Lindhoff avesse espresso preoccupazioni valide, Old Maddy le avrebbe affrontate con un dibattito aperto, come sempre. Ma il discorso di Lindhoff era talmente privo di intelligenza, talmente concentrato su bisogni basilari, che scivolava al di sotto della razionalità e coglieva tutti di sorpresa. Per la prima volta da cinque anni la fiducia nel loro stile di vita si stava erodendo. Forse quelli di Fort Drum hanno ragione, pensò la faccia, immaginando un trio di neurochirurghi che lobotomizzavano Lindhoff passando con i loro bisturi dalle orbite oculari. Subito si rimproverò. Questi erano i pensieri sprezzanti che spingevano la gente a ribellarsi al consiglio dei custodi, un'infezione che si stava diffondendo. Una volta Charlie Rukoski aveva confidato alla faccia che forse lei aveva conosciuto al paziente zero. C'era un nuovo paziente zero adesso, Richard Lindhoff. La faccia non voleva attribuire qualità stereotipate a Muse King solo perché era un artista, ma certe cose le notava. Per tre anni Muse era stato il più caloroso e gentile tra i residenti del forte. La faccia, capace solo di farsi uscire di bocca ai fatti nudi e crudi, invidiava l'abilità di Muse nell'avvolgere le verità più dure in favole consolatorie. Ma aveva osservato il raffreddarsi di Muse man mano che gli apostati di Lindhoff si diffondevano come un'eruzione cutanea. Sette giorni dopo l'arrivo di Richard, Muse disse addio, come per proteggere qualcosa di puro che aveva dentro. Adesso la faccia si chiedeva, nel caso in cui il voto fosse andato come voleva Lindhoff, se quelli della parte ovest del forte avrebbero seguito la strada di Muse. La folla esultò quando Richard Lindhoff girò l'angolo della baracca est, la scena del delitto, e le diede una carezza, come per assicurare l'edificio che lui l'avrebbe protetto da future ingiustizie. Dentro la baracca c'erano i più preziosi, deliziosi, resistenti, durevoli reperti dell'ultimo anno. E in genere i residenti facevano un ottimo lavoro, portando quello che trovavano perché venisse immagazzinato. Se sotto banco se ne tenevano una parte, a chi importava? Il consiglio distribuiva il resto per compleanni, matrimoni, funerali e altre occasioni. Minestra Campbell, pacchi di sale, amido di mais, latte in polvere, gelatine, confezioni di riso, bottiglie di salsa di soia, sciroppo di mais, estratto di vaniglia, aceto, miele, scatole di legumi secchi e naturalmente alcol, birra, vino e liquori. Tutte cose che nervosivano Nishimura, ma che non si potevano vietare senza cadere nella tirannide. Ancora più rare dell'alcol a Fort York erano le droghe, ma Federico, Reed, Stuart e Mandy si erano fatti di qualcosa, inalandolo prima di decidere che non potevano rinunciare al loro festino notturno illegale. Avevano superato un diciassettenne di nome Shyam Lair, di servizio alla baracca Est, e si erano riempiti le braccia di cibo. Shyam aveva tentato di fermarli. Loro avevano posto resistenza. Shyam aveva aggredato. Il cinquantaduenne Yong Sun Tang, che passeggiava a causa dell'insonnia, era accorso. I quattro fuori di testa avevano picchiato sia Shyam che Yong Sun. Il giovane aveva avuto un paio di costole rotte e perso dei denti, e pisciava ancora sangue. Mentre il più anziano si era rotto l'anca e cinque costole, cosa che aveva provocato un'infezione ai polmoni, potenzialmente mortale. Federico, Reed, Stuart e Mandy se ne erano andati con un cartone di ramen assortiti, sedici confezioni di cacao solubile, quattro bottiglie di vino, due pacchi di zucchero, una bottiglia di sciroppo d'acero e una manciata di dadi da brodo. Adesso i quattro della baracca erano chiusi all'interno del deposito di mattoni. Fort York per scelta non aveva una prigione. La perdita della propria posizione all'interno della comunità, sosteneva Nishimura, era una punizione più efficace. Le persone più arrabbiate di lui avevano preso una decisione prima che più si svegliassero, e così i quattro erano nel deposito di mattoni ormai da sei giorni. Gli venivano portati cibo e acqua, avevano la possibilità di alleggerirsi e indossavano le manette lasciate dagli zombie schiavizzati. Perché quel dettaglio non aveva avuto l'impatto che doveva? Se avesse comandato lui, gracchiava Lindov, quelle catene non se le sarebbero tolte mai più. Il voto dell'indomani non riguardava i quattro della baracca. Ufficialmente era un voto di sfiducia contro il consiglio dei custodi del forte, un esperimento di vita migliore, che avrebbero quindi permesso di mandare in esilio per sempre Federico, Reed, Stuart e Mandy. Ma chiunque avesse gli occhi capiva qual era il vero scopo del voto? Aumentare l'influenza di Richard Lindov. Lindov salì sulla cassa. Fu tutt'altro che aggraziato. Aveva quasi settant'anni e non era in forma. La gamba più corta e il braccio lungo la metà dell'altro richiesero l'assistenza di quattro uomini. Ma Lindov sapeva come gestire una folla. Una volta in piedi alzò il pugno insegno di vittoria, sottolineando la difficoltà che aveva superato per arrivare lì, anche se in realtà voleva l'urrà che ovviamente tutti gli tributarono. La faccia si contorceva rabbrividendo. Conosceva tutte quelle persone per nome, un trucco che aveva imparato quando faceva l'inviato. Ma da come le torci a vento danzavano nelle loro pupille e le fiamme si riflettevano sui loro denti esposti, avrebbe giurato che non le conosceva affatto. T'acquero solo quando Lindov accennò col braccio buono che era pronto a parlare. Mentre il rumore diminuiva, la faccia sentì di nuovo dolorosamente la perdita di Charlie. Una volta, mentre camminava insieme alla faccia, aveva notato Lindov che teneva banco e aveva borbotato, «Se solo sapessero quello che so io». La faccia, come sempre, non si era trattenuto e le aveva chiesto cosa intendeva dire. Charlie però era fedele al principio di Old Maddie per cui le persone dovevano avere la possibilità di ripartire da zero. La faccia rimpianse di non aver insistito. Si immaginò Charlie come era stata con la notte magica, distesa sul pavimento della mensa, ubriaca di speranza, più luminosa di tutte le candele. Il volto sfregiato bello di gagliezza e i capelli biondi sparsi come raggi di sole. Oltre il limite Mio Dio! Se Charlie credeva in Dio, cosa di cui anche adesso, nel momento dell'estenuante e confusa fine non era sicura, com'era bello l'ospizio visto dalla barella che procedeva oscillando. I dettagli potevano lasciare sgomenti, ma nel complesso producevano non un'oppressione disperata, bensì un'ispirazione crescente. Sia all'università sia all'obitorio con Louise, Charlie aveva passato innumerevoli ore con i morti, ma non aveva mai pensato che le sue preoccupazioni nei loro confronti si sarebbero evolute da corpore a, diciamo pure, spirituali. La vita sapeva come sorprendere una ragazza. L'unica cosa che riusciva a vedere erano le due persone che trasportavano la sua barella. Marion Castle sembrava abbattuta dal dolore, anche se la sua imperturbabile professionalità reggeva. Charlie sentì dell'olio essenziale di ananas sotto alla mascherina di Marion, spesso usato per combattere l'odore dell'ospedale, anche se in verità l'odore non era cattivo come ci si poteva aspettare. Degradati oltre le loro fasi più fetide, i morbidi emanavano odore di cannella arancida. Charlie forse era ancora la sola a poter interpretare lo sguardo vacuo di Etta Hoffman. In quel momento i leggeri rigonfiamenti della mandibola serrata e le tempie che pulsavano dolcemente indicavano che riusciva a malapena non crollare. Charlie tentò di sorriderle. Ce la fece? Le labbra avevano perso sensibilità. Visualizzò il loro percorso attraverso il labirinto dei tavoli a ogni svolta della barella. Vide i poster disegnati dai bambini a scuola che incoraggiavano gli assistenti. Fate amicizia con la morte, diceva uno, col disegno di due mani unite, una bronzata e spessa, l'altra verdastra e ussuta. Siamo tutti uguali, diceva un altro che rappresentava una compagnia di esseri umani, zombie, giraffe, cavalli, gatti e uccelli. Tutti in fila e sorridenti. Solo dopo l'arrivo di Lindhoff Charlie aveva provato qualche dubbio a proposito di quegli accattivanti messaggi. Rammentò la rabbia che l'aveva scossa quando i manifestanti antiabortisti facevano portare i bambini dei messaggi di odio. Questa era una cosa diversa. Richard Lindhoff. Quante erano le probabilità che finisse a Fort York? Ricordava con agghiacciante precisione la sua voce fredda e compiaciuta al telefono di Louise mentre commentava il suicidio di JT. Era stato il momento di svolta del mondo, il cervello di John Doe annientato, altri morti che si rianimavano dappertutto, il caos al Trump International Hotel. Eppure nulla era stato altrettanto nauseante del tono divertito di Lindhoff. Era come se fosse un rettile in letargo, a sangue freddo, in attesa che il sole morisse per poter strisciare fuori e impadronirsi della notte. Devi fartela addosso dalla paura, aveva detto mentre Charlie pilotava la Prius di Louise nel traffico apocalittico. Perché sai cosa penso? Penso che il tuo mondo stia per finire in fondo al mare, a cocello, e invece il mio sta per ergersi come una cazza di montagna. Charlie si ricordava confusamente di un Richard Lindhoff figlio di un magnate dell'industria. Forse aveva prodotto qualche film d'azione softcore? Tutto questo le scivolò via dal cervello in un lungo sospiro finale. Chiusa gli occhi e tentò di seppellire il dolore sotto i sussurri degli assistenti che parlavano dolcemente i morbidi. La sepoltura vera e propria poteva essere una cosa del passato, ma all'ospizio la sepoltura simbolica era tutt'altro che superata. Charlie respirò dal naso e ripeté le parole più sagge che conosceva. Fate amicizia con la morte. Siamo tutti uguali. Nishimura avrebbe voluto l'ospizio in mezzo al forte, nella baracca centrale. Charlie, come faceva spesso, riportò le sue ambizioni su un piano di realtà e suggerì un posto appena fuori dalle mura. Idealmente un ex-ospizio ricovero. Hoffman si appassionò subito all'idea. I ricoveri, disse, facevano parte della rete della WSDC e Charlie dovette sorridere di fronte al suo sogno ostinato di riportare in vita il sistema. Purtroppo non trovarono niente del genere, ma le uniche attrezzature realmente necessarie erano tavoli, sedie e tende per gli assistenti. E uno spazio più piccolo nel retro che fungesse da stanza della morte. Lì era diretta Charlie. Poteva esserci fortuna maggiore che tirare le cuoie in una stanza fatta appositamente per tirare le cuoie? Tentò di sorridere, ma al diavolo con le labbra insensibili. Peccato. Si era convinta che i morbidi reagissero e sorrisi. Era logico. Anche i bambini che ancora non parlavano lo facevano. E così le persone senili che avevano perso l'uso del linguaggio. Stasera doveva sperare che il tono di voce fosse sufficiente a trasmettere le sue intenzioni. «Fermatevi!» batte col pugno sul telaio della barella. «Tavolo venti!» Marion avrebbe ignorato la richiesta di chiunque altro. Al di sopra della mascherina, la donna batte le palpebre una volta, per dire a Hoffman di fermarsi. Charlie era bloccata dalle cinchie, a ricordare che era diventata pericolosa quando i morbidi erano innocui. Si tese per guardare oltre il bordo della barella. Marion ebbe di nuovo pietà. Annui perché Hoffman abbassasse la barella e Charlie potesse vedere quello che desiderava tanto. Il morbido sul tavolo venti era stato recuperato a Slowtown sei settimane prima. Mentre lo assicurava al tavolo, Charlie aveva scoperto nei suoi pantaroni laceri un portafoglio ammuffito. Dentro aveva trovato una foto scolorita che dimostrava come l'uomo avesse avuto parecchi fratelli, tutti molto più alti di lui, e di cognome facesse Edric. Il morbido venne quindi battezzato Piccolo a Edric. Gli assistenti erano incoraggiati a dare un nome ai loro morbidi, se questo era di aiuto, e qui c'era la prova che lo era. Il nome rese caro quel morbido a Charlie, tanto che aveva manipolato il registro per diventare la sua assistente. Charlie appoggiò la guancia al bordo della barella. Eccolo il suo vecchio, il suo bambino, adesso anche suo fratello. Le foto nel portafogli lo ritraevano come bianco, maschio, sui 25 anni, medio in tutto tranne che nell'altezza. Non gli avrebbe fatto piacere sapere che aveva perso qualche altro centimetro. I piedi gli erano caduti a Slow Town, aveva perso anche i genitali, e la sua pelle si era fatta marrone scuro. In breve, non era più né bianco né maschio, né sui 25 anni. Era diventato quello che diventavano tutti i morbidi nei loro ultimi giorni. Chiunque. Il suo corpo si era rattrappito, le spalle stavano per toccarsi, i polsi incrociati in una posa che Charlie trovava da santo. Da quando era stato messo all'ospizio, tutto ciò che stava al di sotto delle costole, muscoli addominali, stomaco, fegato, appendice, pancreas, coloni, intestini, elencandoli si sentiva di nuovo una dinner, si era ridotto in briciole, ammucchiate su vertebre staccate e avvolte da una pelle del colore e della consistenza delle bucce di banana nerite. Lo sterno del piccolo era sprofondato, ingabbiando i sacchi rattrappiti del cuore dei polmoni. L'unico occhio del piccolo si girò a scatti verso Charlie. Come molti morbidi, le palpebre gli erano state beccate dagli uccelli, il che gli dava lo sguardo severo e imparziale di una statua. I suoi occhi invitavano alla confessione, come la finestra buia dei confessionali cattolici in cui l'avevano ficcata all'età di otto anni. Tutto tornava, una delle involontarie sorprese dell'ospizio. Le cose che non si era stati capaci di dire alle persone prima che il mondo andasse in pezzi, si riuscivano a dire i morbidi. Essi avevano perduto gran parte dei loro tratti, diventando chiunque si aveva bisogno che fossero. «Piccolo!» Il suo gracchiare la spaventò, ma le parve di vedere nell'occhio del piccolo un barlume di interesse, al suono della sua voce. Charlie non apprezzava più la comprensione, quanto il desiderio di comprendere, come aveva detto una volta Greer Morgan, la volontà. Non le importava quello che dicevano i bastian contrari come Lindof. Loro non erano qui tutti i giorni come lei. Quello che i morbidi volevano era tenerezza, e Charlie era decisa a donarla. «Dovrai andartene senza di me. So che non ti resta molto tempo, mio coraggioso ragazzo, ma non avere paura. Ti accompagneremo noi, mio coraggiosissimo ragazzo. Merion ti troverà un nuovo assistente. Lo farò io stessa», disse Merion. Il sospiro di sollievo di Charlie le riempì di acido tutti gli alveoli dei polmoni, e si morse le labbra per trattenere quello che doveva essere uno sbocco di sangue. Fra pochi istanti sarebbe stata nella stanza della morte, dove, in base a regole biologiche e culturali insieme, sarebbe morta. Qua fuori, il piccolo Edric e gli altri morbidi avrebbero continuato a disfarsi a poco a poco. Quanta morte, quanta vita in quella piccola cattedrale di sospiri. Durante quel festino notturno dell'anno undici, Nishimura aveva parlato di Jenny Pagan, che lui aveva pugnalato, e che l'aveva salvato comunque per poi trasformarsi in zombie e tentare di ucciderlo, finendo uccisa una seconda volta dagli squali. «Era la ciclicità», disse Nishimura. «I cicli all'interno dei cicli», che lo ossessionava. La morte di uno permetteva la vita di un altro. Perché doveva essere uno scambio traumatico? Se le persone riuscivano a perdere la paura della morte che le perseguitava da quando l'umanità aveva avuto il primo barlume di coscienza, e senza la carota della religione, tanto simile alla carne rossa che veniva appesa un tempo davanti agli schiavi di Fort York, potevamo perdere anche le pulsioni alla base della violenza, della crudeltà e della gelosia. A nessuno piaceva la parola auspizio, neanche un po'. Riportava alla mente le morti lente e dolorose delle persone care, la vergogna di una società che proibiva la dignità dell'etanasia. Nell'anno 14, Marion aveva detto una cosa di cui Charlie non si era mai dimenticata. Gli zombie erano roba vecchia per me ben prima del 23 ottobre. Ho passato tutta la mia vita lavorativa con loro, pazienti terminali attaccati a macchine per respirare. Se vuoi un'altra prova che è tutta colpa nostra, eccola. Abbiamo inventato i non morti senza preoccuparci di immaginare cosa avremmo fatto quando avessero imparato a camminare. Dopo la morte della morte, un morbido veniva avvolto in un lenzuolo e portato a un inceneritore a legna sul lungo lago, tra Bathurst e Queens Quay. Quando il vento soffiava nella direzione giusta, le ceneri si spandevano sul porto di York e alcune infrangevano la superficie dell'acqua, tanto che i pesci sfrecciavano a baciarle sulla superficie, le inghiottivano e rimettevano in moto il circolo. Un assistente non poteva mai predire lo stato del morbido a lui assegnato. Come coi rumori degli edifici che crollavano, si era sviluppato un vocabolario. Talco descrivevano zombie talmente fragili da sopravvivere malapena al trasporto nel forte. Poteva durare alcuni giorni, se i sospiri dell'assistente non riducevano le sue ossa in polvere. Pizzo descrivevano zombie inerte da mesi, la cui carne offriva resistenza al tatto. Come il piccolo Edric, poteva durare qualche settimana. Guscio d'uovo descrivevano zombie raccolto a Slow Town subito dopo aver perduto la mobilità. Come la porcellana guscio d'uovo erano molto delicati ma solidi e potevano durare mesi all'ospizio prima del trapasso. Stanotte quest'ultima categoria comprendeva Charlie Rukoski. Sorrise, quasi. Pizzo, era sempre stata una ragazza da denim. Dite che era la sua immaginazione, se preferite, non importa. Nel movimento dell'occhio del piccolo Edric, Charlie vide il perdono per la sua prematura di partita. Più che perdono. Il piccolo e morbidi tutti intorno a lui stavano cedendo il pianeta ai loro ex rivali, fiduciosi che se ne sarebbero presi cura. Charlie trattenne un singhiozzo roco solo per il dolore fisico che poteva procurarle. Il sollievo che aveva sempre ricavato dall'ospizio aveva raggiunto la sua forma definitiva. Annui verso la stanza della morte. La barella si alzò. Il movimento di ascesa le fece pensare di essere tornata a casa a Coachella, quando correva di sopra per controllare Luis. Aveva visto giusto in molte cose, ma in una aveva sbagliato. La genesi degli zombie non era un aborto, era un parto riuscito. La morte della morte, dopo tutto, era una doppia negazione. In fondo non era come la nascita della vita? Addio, disse al piccolo Edric, che si trovava al posto di Luisa Coachella, di May Rukoski e di molti altri che aveva avuto la fortuna di conoscere. Tante persone che valeva la pena di rimpiangere. La lacrima che le sgorgò dall'occhio le bruciò la guancia come mercurio, aprendole la pelle in modo che potesse sentire i denti che avevano mangiato tante cose deliziose, la lingua che si era impegnata in tanti baci eccitanti. Il mondo era stato duro con tutti, con lei più che con altri, ma le sarebbe mancato. Ecclesiaste qualcosa Personal History Trascrizione numero 1530 Luogo Biblioteca nuova di Fort York Soggetto Richard Lindoff Intervistatore Etta Hoffman Giorno e ora 5745 1522 Note Presente anche Louis Lafayette Sono uno del cinema, non ho mai letto molto. Lei fa questo tutto il giorno? Seduta qui dentro con questi libri pieni di polvere? Sono anche un uomo d'affari, e quello che so dei libri e che negli affari non hanno senso. Leggere un libro è come assumere il lavoratore più caro e più lento del Vermont. Guardare un film è come spremere i tuoi lavoratori in Cina, che ti danno un prodotto migliore in una frazione di tempo. Signora, mi sta dicendo che preferisce passare settimane a leggere il codice da Vinci quando c'è in circolazione un bellissimo film che racconta la stessa storia? Bello, molto bello. I libri funzionavano ancora quando abbiamo perso la rete. Immagino che per lei sia acuto. Lei è una di quelle persone che si oppongono al progresso. Lo sapevo ancora prima di sedermi. Si capisce sempre. Tendenzialmente mi dispiace, ma tendenzialmente sono donne amareggiate, meno attraenti della media, che si sono ricavate un angolino di potere e non vogliono che cambi nulla. Beh, le cose invece cambieranno, baby. Gesù Cristo miracoloso, cambieranno e come? Perché sono simpatico? Perché me l'hanno chiesto? Il suo piccolo comitato di direttori. Ho capito dove andavano a parare. Volevo inserirmi, dovevo fare questa piccola seduta. Non mi fa né caldo né freddo. Le mie gambe sono saldamente ancorate al suolo, comunque. Ma non pensi che mi serva il vostro piccolo forte? Che tra l'altro è il forte meno forte che abbia mai visto. Potrei continuare a camminare? Probabilmente dovrei... Cosa ci faccio in Canada? Gli Stati Uniti erano il numero uno in passato e lo saranno ancora. Non importa, sono qui. Mi faccio le sue domande. Ho fame e voglio verificare che razza di cibo avete in questo locale. A essere onesto, non posso dire di essere colpito. Finora no. Le dirò la prima cosa che ho pensato dopo essermi lavato le mani come un bambino di cinque anni. Dove sono le teste piantate sui pali? Si può giudicare con una certa precisione un posto dal numero di teste che hanno sui pali. Quindi non mi aspettavo niente di buono. Poi hanno cominciato a farmi vedere... Sa cosa? L'armeria. Mi prendete in giro. Avete tutte quelle splendide armi e le avete murate. Siete pazzi, altro che teste sui pali. Non ho visto manette, ferri da gamba, gogne. Non avete neanche una prigione. Ascolti, signora, seguo al mio consiglio. Veda se il vostro piccolo CEO accetta una mozione per tagliare la testa a tutti quei coglioni. Queste sono favole, roba d'oratorio. Teniamoci per mano e pensiamo a positivo. Se non avete niente di meglio, baby, vi meritate quello che vi aspetta. Guardi qui. Avete un bel angolino. È tranquillo. Ci sono dei bei ponti da cui sparare. Mi dispiacerebbe vederlo andare in fumo. Un paio d'ore con i cattivi giusti e... Puff! Ha la polvere nelle orecchie? È quello che sto dicendo. I cattivi non devono spuntare al galoppo dalle colline come lì, Marvin. Potrebbero venire qui. Un cancro da dentro, come dicono. E come si frebbe a fermarli? Ricapitoliamo. Non avete una prigione. Le vostre armi da fuoco sono tutte murate. E la cosa a cui avete dedicato tutto il vostro tempo è... Come la chiamate? L'infermeria? Il ricovero? Gesù cristianissimo, siete da manicomio, gente. Ho visto cose, baby, che le toglierebbero quell'espressione orgogliosa dalla faccia. Ma questo è troppo. Ho chiesto di vederlo. Pensavo che mi prendessero per il culo. Ci laviamo di nuovo le mani come all'asilo. Va bene. Ed entriamo in questo edificio dall'aspetto normale e che io sia lo zio di una scimmia se non avete... Signora, mi sfregavo gli occhi come un cartone animato. Avete degli zombie rinsecchiti con gente che legge loro delle storie e non so cosa. Adesso le dico io cosa si fa quando si trovano zombie rinsecchito. Si alza la gamba e lo si sfonda. Ci si rallegra che ce n'è uno di meno da affrontare. Non gli si fa cucci-cucci come se fosse un animaletto carino. Ci sono delle esalazioni tossiche di cui non mi sono accorto da queste parti? Vi è capitato qualcosa al cervello? Mi sta dicendo che un cadavere vivente è nello stesso tempo disgustoso e... Sacro? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Non voglio essere scortese, ma stia zitta. Quell'asiatico col bastone nel culo mi ha già propinato tutte queste fesserie e sembrava che ne fosse anche orgoglioso. Normalmente l'avrei aiutato spiegandogli che era un ritardato, ma capisce, mi era caduta a terra la mandibola. Non sono uno strano mostro, no? Quindi la risposta è no. Mio padre credeva fermamente in tutta quella roba su Dio. Chieniamo la testa e preghiamo. Sì, Cristo risorto, eccetera. E aveva la stessa logica di quello che mi state dicendo qui. Neanche lui ascoltava il buonsenso. Io dicevo, Pop, qual è il significato della vita? E lui, Rish, devi avere fede! E io, ma non siamo venuti al mondo già con la fede nel cervello? E lui, è Dio che ti ha fatto il cervello! Capisce come sono produttivi questi discorsi? Se mio padre fosse qui adesso direbbe qualcosa tipo, Gli zombie non hanno anima, il che dimostra che noi l'abbiamo! Si stringe esageratamente nelle spalle. E invece di andare verso le colline, Doveva venire qui e diventare un amico degli zombie come il vostro asiatico. Il modo in cui gli zombie andavano in giro e convertivano le persone, Diciamo così, è un lavoro missionario con i fiocchi. Ecco quello che direbbe. Mi faccia capire bene. Mi sta dicendo che forse gli zombie sono santi perché ci mostrano i nostri peccati. Immagino che Forti York sia l'arca di Noè, quindi. E tutta questa storia dovrebbe insegnarci una grande lezione. Mi lasci indovinare. La stessa che quelli come lei sperano che sia vera. I miti erediteranno la terra. Ma è andata così? Dia un'occhiata nel vostro ospizio e mi dica se i miti che ci sono là dentro e non era un ereditato niente di buono. Il versetto della Bibbia che mio padre preferiva era Gli uomini vanno e vengono e la terra continua a esistere. Ecclesiaste è qualcosa. Ne davamo una lettura diversa io e Pop. Lui lo leggeva come la terra ti fa capire chi comanda. Io lo leggevo come no. Non ci sei, Pop. Gli uomini continueranno a venire e venire e venire. E questa dove l'ha trovata? In uno di quei libri? Ho detto che lo nego? Io non nego niente. Gli ho detto che sono uno del cinema. È la prima cosa che ho ammesso. La zoppia e il braccio lo confermano, no? Oh, lei è intelligente. Si crede, intelligente. Ha aspettato questo momento per rivelarmelo. Sa cosa penso? Penso che lei sia una stronza. Il fatto che non sorride. L'ho capito, io capisco tutti. È il mio piccolo dono. Sa cosa? L'ho fatto come un favore, in buona fede. Beh, ha avuto quello che voleva. Adesso chiudo. Addio. Torno alla sua scrivania per dirle questo. Così lo registra chiaro e netto. Con lei? No. Niente secondo colloquio con lei. Assolutamente. Con la bambolina là in fondo, però, ci farei un pensiero. Non ho capito il tuo nome, carina, ma se vuoi un colloquio e un privato con me, basta che me lo fai sapere. Sei un po' più scura di come mi piacciono di solito le ragazze. Ma qui siamo in Canada, dopo tutto. E schimesi, inuit, aborigeni. Si prende quello che c'è, no? Gesù Cristo fa l'igname. Me ne vado. Il vostro amico asiatico voleva farmi vedere qualche altra cosa. E ho bisogno di tutte le mie energie. Per far finta che me ne freghi qualcosa. Colpire per primo Obiettivi specifici di Nishimura. Liberarsi dell'unico obbligo che aveva ancora nei confronti del forte. Dare le notizie all'Uvi e andare a letto presto. Sperando che la luce del giorno asciugasse gli schizzi di bile di Richard dai volti delle persone e schiarisse il cervello di Nishimura stesso riguardo a quanto era accaduto a Charlie e alla capa. Il suo obiettivo più generale di essere una brava persona lo ostacolò, come capitava spesso. Quando entrò nella zona storica per verificare i progressi di una squadra con un telegrafo, non riuscì a rifiutare la proposta di un gruppo che si faceva chiamare AV Club. Si dedicavano a riportare l'arte nel mondo, con qualunque mezzo. Fino alla sua scomparsa, Muse King, che non sapeva fare niente se non far ballare la gente quando suonava, era stato il santo patrono della V Club. Senza di lui, il club sopravviveva. I tentativi in corso consistevano nel mescolare la vernice per fare i pittori, rimettere in funzione dei registratori analogici a quattro piste per registrare dei dischi, produrre nuovi film per avere qualcosa da vedere con i proiettori da 8 mm che avevano rimesso in funzione. I membri del club erano giovani, dai 16 ai 25 anni, e entusiasti irrequieti come Nishimura da ragazzo. Li adorava, ma in quel momento li guardò male. Carl, devi fare qualcosa, disse Georgia. Era la leader di fatto, alta più di 1,90, con i capelli in disordine, munita di spessi occhiali neri. Lo sto facendo! Nishimura tentò di sorridere. Vado a giocare con il telegrafo! Sono come lupi, disse un ragazzo di nome Jack. Da quando la tua squadra è uscita, ci sono state risse tutto il pomeriggio! Non sanguinose come quella dei quattro della baracca, aggiunse una ragazza di nome Marilyn. Ma peggio! Quella risse era dovuta alle droghe! Queste invece erano veri! Il sospiro di Nishimura parve una colla che gli scendeva in gola. Guardò verso il forte con grande riluttanza. Oltre il giardino, ondeggiante come le foglie mosse dal vento, c'era il gregge di Richard Lindhoff. E più in là, il palco improvvisato con una cassa che aspettava l'arrivo del loro leader. Era proprio questo, un leader, la cosa che Fort York aveva tentato di evitare. «La volontà del popolo sarà quella che sarà! Stronzate!» Risposero i gemelli Rudy e Russell. Nishimura odiava dover studiare le espressioni della V-Club. Sapeva cosa avrebbe visto. Un luminoso, vigile dolore. La luce delle torce che disegnava forme appassionate su volti puliti e ardenti e su capelli tanto lunghi da essere afferrabili. Cosa impensabile fino a un paio di anni prima. Che il 23 ottobre fossero a malapena coscienti non voleva dire niente. Come dimostrato negli anni Sessanta, negli anni Dieci e in tutte le epoche intermedie, i giovani adulti non avevano bisogno di sperimentare un pugno per capirlo. Avevano assorbito la verità dalle mani tremanti dei loro genitori. Ci volevano degli indenni per combattere le battaglie più dure. Jack indicò la folla di Richard. Se vincono questa votazione, noi siamo fuori. Tutto il club, con tutto quello che abbiamo costruito, tutte le nostre idee, sul serio, Carl. Era una nuova stilettata nel fianco. Ogni punta formata dall'osso di una persona morta. La capa, Charlie, Jenny, Larry, i suoi figli. Il peso totale lo rendeva greve e lento. Non capivano che il semplice, chiaro buonsenso che Nishimura poteva proporre alle masse sarebbe stato sommerso dal sangue scarlatto e ruttato da Lindov? Scosse la testa, sperando che il gesto lo liberasse da quei fardelli. Un sudore caldo gli colava lungo entrambe le guance. Fece per aggirare Jack, ma un ragazzo di nome Gary gli bloccò la strada. Nishimura cambiò direzione e fu fermato da una ragazza di nome Vincenza. Non erano gesti aggressivi. La V-Club era numeroso. Il petto di Nishimura si contrasse di fronte al semplice numero di giovani che rifiutavano di arretrare. Forse lui, Carl Nishimura, 58 anni, doveva dimenticare tutto quello che credeva di sapere e ascoltare loro, fidarsi di loro. Giorgia fu di nuovo in prima fila. Le sue grandi mani erano unite, quasi in preghiera. Lo sappiamo che non vuoi affrontarlo in pubblico. Pensi che sarebbe una legittimazione? Lo capiamo, lo capiscono tutti. Giorgia fece una smorfia. Ma Carl, non c'è più alternativa. Questa è la fune a cui siamo appesi. Andrei a farlo io, se avessi le parole giuste. Ma sappiamo tutti che tocca a te. È disgustoso, lo so. Essere quello a cui tocca è disgustoso. Ma certe volte la vita te lo impone. Il volto di Nishimura si spaccò come una pozza ghiacciata al disgelo. Si sentì come se l'avessero morso Slow Town e quella fosse la lacerazione dell'imputridimento. Fu ancora più scioccante. Fu un sorriso. Quella ragazza, quella Giorgia della V-Club, la gente la stava già seguendo come aveva seguito lui. Un giorno, a Old Meddy, o in un altro posto, Giorgia avrebbe avuto le parole giuste. Magari attraverso la sua arte. E sempre più persone le avrebbero ascoltate. Qualunque cosa fosse accaduta quella notte, non doveva essere l'ultima parola. Nishimura allungò una mano e afferrò la nuca di Giorgia. Sotto la propria mano lavata e strofinata sentì i capelli sporchi della giovane, la sua pelle sudata, e ne fu contento. Avrebbero avuto bisogno di molta sporcizia, dove erano diretti, non solo fra dieci anni, ma fra dieci minuti. Tieni duro, Giorgia! disse Nishimura, e lei afferrò il polso che le afferrava la nuca. Ci siamo! Nishimura la lasciò e ne fu lasciato. Girò le spalle alla V-Club e si avviò come un pugile superando i cittadini che chiedevano la sua attenzione. Si staccò dal gruppo alla Meridiana Maggiore. Era notte. Impossibile stabilire l'ora. Meglio. Che questo fatto restasse fuori dal tempo, fuori dalla memoria di quello che cercavano di fare a Fort York. Che quella notte e quella mattina fossero un ultimo disgustoso tuffo in un passato di avversione e antipatia. Si accorse di avere entrambe le mani strette a pugno. L'impulso che l'aveva spinto a sparare alla capa era tornato. Avrebbe dovuto provarne repulsione. Davvero. Al centro del forte, Lindof cominciò a parlare con i toni bassi e rocchi che Nishimura aveva imparato a odiare. Quanta gente. Quanta bella gente. Vi conosco molti di voi. Ciao Williams. Ciao Lewis. Siete tutti qui. E fa freddo. Non fa freddo. Ma siete tutti qui. Tutti insieme, eh? Siete qui perché è importante. Perché ci tenete alla vostra comunità. Perché siete persone di buon senso. E cos'è il buon senso? Quando arriva qualcuno e vi dà un pugno in bocca, non state lì fermi ad aspettare che vi dia anche un calcio nelle palle. Gli date un pugno anche voi. Meglio ancora, tutta la comunità si mette insieme e lo prende a pugni. Tutti insieme. Si chiama punizione. Si chiama buon senso. Quando le grida salirono, Nishimura stava attraversando il giardino. Aveva sentito molte grida di esultanza a Old Maddy. Quando il primo mulino d'acqua era entrato in funzione. Quando erano riusciti a far funzionare un motorino a olio vegetale. Quando una donna si era risvegliata dopo un'operazione alla milza, dimostrando l'efficacia dell'etere ammonio nitrato artigianale. Quelle grida però erano un'esplosione di gas. Lo stridio di una struttura alta a 15 metri. La vegetazione bloccava la visuale di Nishimura, ma lui si immaginò comunque la scena. Conosceva William, conosceva Lewis, gli piacevano. Non aveva alcun desiderio di vedere le loro facce stravolte dall'ira. Nishimura emerse dal giardino alle spalle della folla. Non ho bisogno di dirvi queste cose. Siete persone intelligenti. Siete il gruppo di persone più intelligenti che ho conosciuto. E io ho viaggiato per molte, molte miglia. Siccome siete così intelligenti, apprezzerete quello che sto per dirvi. Anche le persone che si trovano dall'altra parte del forte sono intelligenti. Pensate che riescono a sentirmi? Ai gente! Venite qui! Stiamo solo parlando! Guardate, ecco qualcuno che arriva. Attraverso il giardino, che bella vista. Quelli che non vengono. Più tardi farò due chiacchiere anche con loro. Gli spiegherò il nostro punto di vista. Non c'è motivo di ricorrere alla violenza, a meno che non si sia costretti. Lindo frise e la folla rise con lui. Nishimura era in mezzo al pubblico adesso e riuscì a individuare le singole risate. L'insegnante di biologia che produceva il sapone, il maestro d'asilo che divideva equamente il cibo al momento del pasto, amava queste persone. Le amava. Continuò ad avanzare. A proposito di violenza, lo sappiamo perché siamo qui, vero? Siamo davanti al... Come lo chiamate? Il deposito di mattoni? Io direi piuttosto il cesso di mattoni. Ma voi canadesi le sapete fare le case o no? I quattro lavativi che ci sono lì dentro non usciranno. Quei quattro teppisti, quei quattro criminali, vogliamo dirla tutta? Quei quattro non sono migliori dagli zombie! E cosa facciamo noi agli zombie? Gli spariamo! Gli ammazziamo! Dal momento in cui aveva staccato la mano della nuca di Giorgia, a Nishimura era sembrato di procedere su dei binari. Adesso scartò di lato, prendendo gomitate nelle costole e ditate negli occhi, le ferite di quegli applausi frenetici. Quello che voglio dire a voi persone intelligenti è che esiste una vecchia idea chiamata rigare dritti. Qualcuno di voi se la ricorda? Vedo delle teste che annuiscono. Giustizia preventiva, amici miei! Chi deve colpire per primo? Il cattivo? O siete voi a colpire il cattivo prima che possa farlo lui? La triste verità, agente, è che questo non accadrà mai con quel vostro consiglio di incapaci! Nishimura superò l'ultima fila di fanatici e guardò il naso di Lindof, che alla luce delle torce rivelava le piccole tacche della chirurgia plastica. A Lindof avevano tolto qualcosa, ma non abbastanza. Quando Nishimura face un passo verso la cassa, Lindof abbassò lo sguardo. Il suo naso accorciato si arricciò, le sue labbra sottili si tesero in segno di vittoria e i suoi vitri e occhi blu lampeggiarono di piacere. In quel momento tornava indietro di cinquant'anni. Lindof era un bullo di quinta elementare animato da una rabbia di cui non aveva mai visto il fondo. E Nishimura era un esile ubbidiente ragazzino giapponese che faceva tutto quello che gli dicevano i bulli. Una morsa si strinse sul bicipite di Nishimura e lo riportò in mezzo alla folla. Si girò e vide un mostro, peggiore di qualunque incubo infantile, peggiore del millennialista di Soba Iumi. Batté le palpebre. Non era un mostro, era la faccia. I suoi tratti devastati erano criptici, ma i suoi occhi luminosi dicevano tutto. «Ne sei sicuro?» si birò la faccia sotto il clamore. E poiché la faccia non permetteva che una bugia gli uscisse dalle labbra, Nishimura rispose con una domanda. «Tu cosa pensi?» La faccia annui, con la testa pallida che fumava come una torcia. «Vai!» disse senza esitare. E per ringraziarlo, Nishimura, anche lui, senza esitare, appoggiò le mani sulla cassa che gli arrivava la vita e si tirò su. Lindof non gli fece spazio, un gioco di potere, e Nishimura temette di cadere. Sarebbe stata la fine, cinque anni di lavoro distrutti da un piede messo male. Ma resistette, si eresse e guardò dall'alto, come non aveva mai fatto, i suoi concittadini di Fort York. Nishimura guardò Lindof. Lindof gli restituì lo sguardo. La faccia lo dimostrava meglio di chiunque altro. Nel nuovo mondo era più sciocco che mai giudicare le persone dall'aspetto, ma lui voleva farlo. Il braccio sottosviluppato di Lindof e la sua schiena ingobbita lo facevano risaltare. Per il resto era incredibilmente normale. Non aveva grandi idee, né un'ideologia forte. Non era particolarmente intelligente, era un pasticcione, un rozzo, un noioso. Ce n'erano milioni come lui. Lindof si portò in avanti sulla cassa. Se non avesse avuto la sinistra così piccola, pensò Nishimura, si sarebbe fregato le mani. Guardate, gente, abbiamo qui Karl! Conoscete tutti, Karl. E' quello che vi ha detto che il consiglio era una grande idea. E' quello che ha detto Ehi, non mettiamo delle guardie a guardia di niente. Vediamo come va. Abbiamo visto com'è andata, no? Personalmente sono elettrizzato che Karl abbia deciso di unirsi a noi, perché io per primo vorrei qualche risposta. Voi no? Se non può darcele, gli manderemo un messaggio domani mattina, no? A meno che non glielo mandiamo stanotte stessa! A meno che non glielo mandiamo subito! ال sicuramente lo scopo! Grazie a tutti! Allora a gonna! L'unica cosa che contava La stanza della morte era piccola e spartana. Il mobilio originale era stato eliminato prima che Hoffman arrivasse a Fort York, ma poteva benissimo immaginarlo. Scrivanie povere con cassetti di compensato, scaffali di metallo, una console zoppicante con sopra una stampante rotta. Aveva vissuto con un arredamento simile durante lunghi anni all'American Model of Lineage and Dimensions. Qui tutto era stato sostituito da un solo sgabello, un piccolo tavolo e una sedia da dentista. Quest'ultima non metteva esattamente a proprio agio, anche se gli attrezzi più spaventosi erano stati eliminati. L'aspiratore, la sputtacchiera, la luce irregolabile, il braccio girevole. Restava solo il sedile regolabile, che poteva accogliere persone di qualunque corporatura e grazie alla plastica non appiccicosa era facile da pulire. L'innovazione legata al nuovo mondo erano le cinghie sulla sedia, ricavate da vecchie cinture di automobile e una modesta scatola di legno in cui si trovava la pistola elettrica. Per puro caso, i vecchi amici di Charlie Rukowski, Lenny Hart e Seth Lostin si trovavano all'ospizio quando lei era arrivata. Lenny Hart tagliò il nastro adesivo che le teneva fermi i polsi e le caviglie e le fissò di nuovo, sussurrando scusa per tutto il tempo. Seth Lostin tirò fuori la pistola e la tenne come un rosario. Hoffman pensò che poteva esserlo. Era l'oggetto più sacro di Fort York, uno strumento capace di togliere la vita, la morte e la non morte in un colpo solo. Entrambi gli uomini sapevano preparare le sostanze usate per addolcire gli ultimi minuti di agonia, ma Marion Castle era l'esperta. Charlie Rukowski non aveva bisogno di istruzioni. Aprì la bocca per accettare la corteccia di salice, che, masticata, offriva un piccolo sollievo. E chino la testa per permettere l'applicazione di mentolo e capsicina di peperoncino sulle tempie sullo sterno, che generò un bruciore freddo che aiutava a nascondere i segni del dolore. C'era anche dell'etere prodotto nel forte, ma Hoffman sapeva che Charlie Rukowski l'avrebbe rifiutato, come infatti fece. La stanza poteva essere migliore, notò Hoffman con una punta di rimpianto. C'erano dei progetti per creare un sistema di luci soffuse. L'assistente di Hoffman, Louis Lafayette, che parlava tanto ma con la quale non era difficile lavorare, voleva sondare tutti gli intervistati di Personal Histories per scoprire quale musica avrebbero voluto sentire suonare se fosse giunto al loro turno nella stanza della morte. Charlie Rukowski si era messo a piangere quando aveva saputo di questa idea e aveva spiegato fra le lacrime che quando era morto Louis aveva messo la colonna sonora di un film intitolato Un uomo tranquillo. L'idea ne fece venire un'altra a Hoffman. Tra le collezioni speciali della biblioteca si potevano inserire cartellette con un'ultima immagine di tutti i residenti, una cosa su cui concentrarsi negli ultimi minuti. A Carl Nishimura questa idea era talmente piaciuta che aveva dato a Hoffman l'unica foto di famiglia che gli rimaneva. La foto era sbiadita e stropicciata, come se avesse passato 15 anni a strofinarci su il pollice. Hoffman si sentì strana quando la prese. L'ultima immagine era solo un concetto, ma Carl Nishimura insistette perché la tenesse lei. Se fosse stato mortalmente ferito, Hoffman gli avrebbe portato la foto nella stanza della morte, vero? Naturalmente sì. Al contrario dei superiori per cui aveva lavorato alla MLD, Carl Nishimura era una persona che le piaceva assistere. In quattro anni a Fort York, soprattutto con l'aiuto di Louis Lafayette, Hoffman aveva imparato abbastanza di sé per sapere che aveva un suo modo di distrarsi da quello che succedeva. In questo caso, la morte di Charlie Rukowski. Hoffman rimpiangeva di essere così lenta. Charlie Rukowski sarebbe morta sotto lampade a olio troppo forti, non sotto luci soffuse. Guardando pareti nude, non una foto del suo amato Luisa Cocella. In un silenzio opprimente, non con una ballata di Bruce Springsteen. In assenza di questi conforti, Hoffman doveva offrire il proprio, il che voleva dire la cosa in cui era sempre è stata meno brava. Parlare. Charlie Rukowski. Charlie Rukowski girò la testa. I capelli biondo chiaro contrastavano con la pelle grigia. I suoi occhi erano diventati di un giallo cremoso, ma per ora restavano i suoi occhi, lampeggianti di una vita ostinata, mentre le labbra a viola pallido tentavano un sorriso. Hoffman non riuscì a ricambiarlo. Non aveva mai imparato a sorridere. Non devi dire niente, gracchiò Charlie Rukowski. Non sei una chiaccherona come me. Va bene, mi mancherò. Charlie Rukowski pianse. Lunghe dita di sale si fecero strada sulla sua faccia sporca. Il suo torace si tese e si rilassò, facendo gemere le cinghie. Charlie contraste le dita, con le unghie che avevano ancora qualche traccia dello smalto che aveva trovato settimane prima. Fece un grande, tremulo sospiro, come se volesse svuotarsi delle lacrime con un unico singhiozzo. Lenny Hart distolse lo sguardo. Seth Lovstein mise la faccia nel gomito e pianse a sua volta. Marion Kessel si portò le mani alla bocca come se mormorasse una benedizione. E dietro a quella mascherina da ospedale poteva fare qualsiasi cosa. Gli occhi umidi di Charlie Rukowski si spalancarono. Le lacrime oscillarono sulle sue ciglia, gocce su una ragnatela. Poche cose. Le rocissime. È tutto sotto controllo. Charlie Rukowski abbozzò un gesto con i polsi bloccati. Poche cose che non ho avuto il tempo di approfondire. I cavalli. Abbiamo provato a dargli carne di scogliattolo e non ha funzionato. Perché i cavalli sì? Forse perché i cavalli erano legati agli esseri umani? Pensiero stupido, teoria zoppicante. Dillo a qualcuno. Oppure no, ecco. Va bene. Non riusciremo mai ad arrivare al deposito globale di semi in Svezia. Dobbiamo smetterla di fingere che ce la faremo. Il seed servers exchange in Iowa è la cosa migliore. Dobbiamo mandare una delegazione. Dì alla gente che io ho votato per questo. Lo farò. Adesso la cosa più importante. Richard Lindhoff. Ho parlato con lui il 23 ottobre. So che sembra una follia, ma è così. Il tempo, ragazzi. Come passa veloce. Ti spazza via in un baleno. A Lindhoff non interessiamo noi. Affatto. Gli interessa solo se stesso. Bisogna fermarlo. A tutti i costi. A tutti i costi. Dì a Nishimura di fare qualunque cosa sia necessaria. Ok. Ultima cosa. Etta Hoffman. Tieni al sicuro l'archivio. Art Lost in Castle. Aiutatela. Senza l'archivio siamo fregati. Senza l'archivio succederà tutto di nuovo. Magari non saremo zombie la prossima volta, ma qualcosa sarà. Un altro tipo di sarcofago. Luis chiamava la sua infezione da zombie la grande G. Immagino che noi potremmo chiamarla la grande Z. Luis. Oh. Luis. La sua risata fu come qualcosa che strideva sul ghiaccio. Anche lui ha continuato a darmi ordini fino all'ultimo. Le dita di Charlie Rukoski si tesero all'infuori. La sua schiena si narcò. Marion Castle tentò di applicare altro balsamo al mentolo o peperoncino, ma Charlie Rukoski agitava la testa, sicché lei fece un cenno di assenso a Lenny Hart, che applicò lo strumento più spiacevole. Una spessa benda di cuoio legata sulla metà inferiore del volto, con dei buchini in modo che chi la indossava potesse respirare e parlare finché era in grado di farlo. La testa era tenuta al suo posto, il che avrebbe facilitato il compito a Seth Lostin quando fosse arrivato il momento della pistola elettrica. La parola museruola non veniva usata, ma Hoffman sapeva che di questo si trattava, giacché la persona sulla sedia aveva raggiunto una condizione simile a quella delle bestie selvatiche. Hoffman sentì del liquido caldo che le sgorgava dai pori e negli occhi. Si asciugò la faccia e guardò da un'altra parte. Nient'altro che pareti nude. Che ultima immagine avrebbe scelto quando fosse arrivato il suo momento? Forse un fotogramma di uno dei suoi programmi preferiti, Lucy e io, o This is your life? Oppure una foto tratta da un depliant di un'agenzia immobiliare con uno dei piccoli e confortevoli appartamenti di Washington DC, che ancora le mancavano? O un rendering della biblioteca nuova, con il suo ordine ispiratore? No, niente del genere. Quando ci pensava, la risposta giusta era ovvia. Per quanto Carl Nishimura mettesse in guardia dalle trappole del materialismo, la gente di Old Meddy riempiva lo spazio in cui viveva con innuli o foto che riflettevano le persone che volevano essere. I possessi di Hoffman erano talmente pochi che stavano nel marsupio mimetico che portava sempre con sé. Fra di essi c'erano le stampe a colori che aveva raccolto il 3919-518, il giorno in cui aveva lasciato la MLD insieme a Charlie Rukowski. Sulla sinistra Annie Teller, con la sua maglia da calciatrice. Sulla destra Tauna Mediou, a letto col suo gatto calico. Una strana coppia, a cui non si poteva non voler bene, come a Greer Morgan e a Muse King. Le foto erano l'ultima cosa che guardava prima di addormentarsi ogni sera. Aveva raccolto più di mille personal histories da cui emergevano strani parallelismi, dettagli che si ripetevano in maniera inaspettata. Si interrogava su di essi e la luce delle candele nella biblioteca nuova, dopo che Louis Lafayette era uscita stancheggiando. Dodici diverse interviste facevano cenno a una zombie che sembrava la stessa. Una zombie che Carl Nishimura aveva incontrato casualmente a Taos, abbagliante sotto un negligee di ghiaccio. Una zombie che Charlie Rukowski aveva scorto ai margini dell'incendio di Gaiman, Oklahoma, liberata in mezzo a una folla di donne non morte. Una zombie che aveva rubato e addirittura usato uno degli archi di Greer Morgan durante la catastrofe di Saint Croix. Una zombie che la faccia aveva visto allontanarsi dal fango di un campo di battaglia, con protesi alle gambe e accette ai polsi. Secondo l'incredibile testimonianza della faccia, questa zombie aveva un cartellino col nome che diceva Annie Teller. Hoffman era pronta a credere alla coincidenza radicale, ma non era pronta a credere che Annie Teller fosse morta. La zombie del campo di battaglia era avvolta in abiti che appartenevano a una tipa di nome Annie Teller. Ecco tutto. L'unico dettaglio che la spingeva a dubitare era quello condiviso da tutti i dodici risoconti, e cioè che la zombie con le gambe di metallo era diretta a ovest, sempre a ovest. Possiamo fare che sia il nostro pieno di emergenza? Se il mondo finisce nella melma, ci troveremo sulle rive della bella Labrie. Hoffman ammise che non aveva mai saputo la fine della storia di Annie Teller e Tauna Mediou. Era difficile. Le due volte che non era riuscita a guardare fino alla fine una serie tv, la tormentavano ancora. Per non pensarci, si concentrava su una verità ispiratrice, quasi quanto le foto. Vivere a stretto contatto con altre persone le aveva fornito drammi migliori di qualsiasi serie tv. Se aveva fortuna, l'Old Medi Show non sarebbe mai finito, e avrebbe sempre potuto riguardarlo grazie all'archivio. Due donne stavano lavorando a un torchio da stamperia. Una usava un tritatutto riparato per ridurre i rifiuti vegetali a carta, e ricavava l'inchiostro da solfato di ferro e galle di quercia. L'altra forgiava stampi di metallo da cui pensava di intagliare lettere maiuscole e minuscole e segni di interpunzione. Il primo progetto del torchio sarebbe stato l'archivio Hoffman di racconti dal nuovo mondo. Una volta prodotto in massa, sarebbe stato distribuito a tutte le comunità che fossero riusciti a trovare. Sarebbe stato un bene. Sarebbe stata l'eredità di Hoffman. Era tutto quello che le restava, adesso, perché Charlie Rukowski la stava lasciando. I vasi sanguigni spuntavano come fili rossi negli occhi ingialliti e rovesciati. Una bava pallida sgorgava dai buchi della benda di cuoio. Le convulsioni del suo corpo si erano invertite, come se tentasse di rannicchiarsi contro il dolore. La fine vera e propria poteva essere il momento peggiore. Hoffman si chinò su di lei. Non le piaceva toccare le persone, ma alle persone, lo sapeva, a volte faceva piacere essere toccate. Tentò di farlo come si deve, non con un dito teso, ma con tutto il palmo aperto. Lo appoggiò sulla spalla di Charlie Rukowski. Il calore del suo corpo passò attraverso i vestiti e penetrò nella mano di Hoffman. Ti ricordi quando ci siamo incontrate? Le pupille nere e senza fondo di Charlie Rukowski tornarono a scendere nelle orbite. Le lacrime si erano solidificate in una gelatina che tremolò quando lei annuì. La sua voce crepitò fra la bava rabbiosa. Le nostre telefonate. Hoffman scosse la testa. No, quando ci siamo incontrate, quando hai fatto eruzione in casa mia. Charlie Rukowski rise talmente forte che delle goccioline di saliva rossa sfuggirono dalla benda di cuoio. Marion Kessel lanciò a Hoffman un'occhiata di avvertimento. Ai piedi della sedia, Lenny Hart si stava infilando dei guanti di gomma da cucina. Dietro alla sedia, Seth Lostin si asciugò i palmi sudati e impugnò nuovamente la pistola. Da qualche parte all'esterno dell'ospizio un uomo dalla voce bassa lanciava dei richiami e un altro rispondeva a qualcosa a proposito dei quattro della baracca, ma poteva trattarsi di un argomento qualsiasi. L'unica cosa importante era quella. I tuoi vestiti, graffette e scotch. Una tazza di scarafaggi morti. Era una battuta accettabile, pensò Hoffman, e questo voleva dire che il consiglio che Charlie Rukowski gli aveva dato a Slowtown era arrivato a destinazione. Devi imparare l'arte di mentire a fin di bene. La risata di Charlie Rukowski si prolungò in un gemito. Hoffman non ebbe bisogno di riflettere e strinse con maggior forza la spalla dell'amica. Eri bella, anche con il casco da hockey. L'unico segno dell'infelice sorriso di Charlie Rukowski furono le guance che spuntarono dalla benda di cuoio. La sua risposta fu faticosa, roca per la schiuma, singhiozzante per il dolore. «Ero un disastro allora. Capelli troppo corti. Ma grazie, grazie. Non dovrebbe importarmi. Sono qui. Sto morendo e parlo della mia bellezza. Fanculo, ma lo ero. Sono contenta che lo ero. Ero la più sexy fra quelle sopravvissute all'apocalisse». «Proprio così», sussurrò Lenny Hart. «Lo sei ancora?» «Cara», disse Seth Lostin fra un sospiro e l'altro. Un sudore mefitico copriva la pelle di Charlie Rukowski. I suoi capelli erano unti e in disordine. Il suo colore passò dal grigio al verde. Ma lei era raggiante. E perciò la stanza della morte non aveva bisogno di belle luci, di essere imbiancata di fresco o di foto ricordo. Lei era la luce del mondo e tutta la sua musica. La trascrizione numero uno, Charlie Rukowski, era conservata in un raccoglitore nella biblioteca nuova e poteva essere utile, ma quello che stava succedendo lì era tutto quanto bisognava sapere di quella donna. Hoffman aveva letto del bokor che rubava l'anima dell'onzambia d'Aiti. Nessuno avrebbe mai rubato l'anima di Charlie Rukowski. Tutti in quella stanza l'avrebbero impedito. «Vi amo, ragazzi. Ti amo, Luis. Ti amo. Snoop», disse Hoffman. E quando afferrò a Charlie Rukowski non con una mano, ma con tutte e due, fu come l'abbraccio che aspettavano fin dalla loro prima telefonata, un milione di anni prima. «Tagli la caccia, poetessa, come se fossi... già...» «Siamo stati noi a farlo accadere.» Mani nude abbatterono la porta. La faccia aveva visto distruzioni simili solo da parte degli zombie, che non si curavano se le dita si slogavano all'indietro o le mani si laceravano. I primi colpi erano stati dati con oggetti duri, fra cui un cartello con la scritta «Carne essiccata», strappato dalla cassa su cui erano stati Lindof e Nishimura. La rabbia si era diffusa rapidamente. Il deposito di mattoni era fatto di mattoni, ma la porta era di legno. E con tutta quella gente che premeva, stava cedendo. La faccia fu sbattuto qua e là, vide Nishimura in mezzo al tumulto, per terra, accanto ai resti della cassa, che si reggeva la fronte insanguinata. La bocca di Nishimura si stava muovendo, ma la faccia non pensò che ne uscissero parole udibili. L'uomo sembrava sotto shock. 40 o 50 persone premevano contro il deposito di mattoni. I primi riuscirono a passare oltre le schegge della porta rotta. Era troppo perché un uomo solo come lui vi si opponesse. La faccia immaginò Baseman che faceva la sua offerta a Chuck Corso. Rischia tutto, prendi il canale 8 e diventa quello che Chuck Sachs 69 faceva solo finta di essere. Uno che dice la verità. La faccia si tuffò nel mucchio, allontanando le persone dalla porta. Alcuni si giravano digrignando i denti, pronti a menare le mani, ma la loro frenesia si sgonfiava quando lo vedevano. La faccia continuò ad avanzare, finché, coperto di lividi dalle gomitate e dalle ginocchiate, non si trovò contro la parete di mattoni accanto al punto dove c'era la porta. La gente si riversava all'interno. Dal secondo piano provenivano delle urla. Niente gobbo qui, ma le due settimane dopo il 23 ottobre avevano dimostrato che poteva parlare anche quando, come ora, si trovava con le spalle al muro. Afferrò per il bavero la prima persona che tentava di entrare. Pensa a quello che fai! Non sono solo quelli all'interno! Siamo tutti noi! Pensa a quello che fai a tutti noi! L'uomo gli scostò le braccia ed entrò. La faccia afferrò una donna per il polso. Carla aveva ragione! Dobbiamo essere migliori! Dobbiamo essere migliori adesso! La donna contorse la faccia alla vista del suo volto deforme e gli diede un calcio negli stinchi. Lui gridò, la lasciò e lei cadde all'interno. Dietro c'era un vecchio che allungava avidamente le mani verso le schegge della porta. La faccia lo afferrò per il colletto della camicia. Dobbiamo ricordare! La caccia alle streghe, i linciaggi, la giustizia della frontiera! Lasciami andare! Ruggì l'uomo. Vuoi che torniamo a quel livello, nella nuova storia? L'uomo diede alla faccia un pugno sul naso, che gli fece sbattere la testa contro i mattoni. Lampi neri, dolore rosso, prima dietro la testa, poi rovente dal centro del volto. Così la faccia era tornato a Slow Town, al momento in cui Nishimura gli aveva preso la pistola dalla fondina e gli aveva graffiato la guancia con il mignolo. Era stato uno schiaffo per tutti, un improvviso e esplosivo promemoria della verità che avevano finto di dimenticare. Lui era disgustoso e nessuno che non fosse uno zombie voleva stare vicino a quella carne lucida e segnata, a quell'unico orecchio, a quel mezzo naso, alle palpebre piene di cicatrici e alla bocca senza labbra. Il sangue che gli schizzava dalle narici sembrava nero nella notte, ed era giusto così. Un mostro come lui non poteva avere il sangue rosso. «Lassami, brutto stronzo!» sputò il vecchio. «I mostri come te bisognerebbe farli smettere di soffrire!» L'uomo si intruffolò come un topo, il muso baffuto sospinto oltre i rottami di legno. Altri gli si infilarono dietro. Le mani della faccia si posarono su quello che restava del suo volto, mentre scivolava lungo il muro e finiva sul terreno freddo. Era di nuovo Chuck Corso, pettinato, vestito in armani, un palo su cui i modelli potevano ondeggiare, un idolatra delle superfici riflettenti. Un nuovo urrà si levò quando ciò che restava della porta venne sfondato dall'interno. Una folla di forti orchesi dai ghigni selvaggi trascinava fuori quattro prigionieri. I loro tratti erano gonfi per le botte, nasi schiacciati o storti, denti staccati e conficcati nelle guance sanguinanti o nel collo. Uno teneva il braccio in una posizione strana, con un osso che sbucava dalla pelle. Il primo era Stuart Sharlow, il radioamatore che aveva donato la sua straordinaria collezione di patenti di guida alla biblioteca nuova. Un tipo biondo, americanissimo, capace di recitare come salmi i risultati delle vecchie partite di baseball, il cui onnipresente berretto rosso dei Cardinals di St. Louis era sostituito da sangue vero. Poi veniva Reed Hollis, uno che esasperava Nishimura, ma che alla faccia piaceva, perché capiva quanto profondamente Reed aspirasse una vita comoda, non per vivere alle spalle degli altri, ma per passare più tempo con la moglie di fatto e le loro due figlie adottive. Mandy Monson era terza, l'unica donna del quartetto, e l'unica ovviamente privata della camicia che era diventata famosa a Old Maddy come parrucchiera e barbiera professionista, e le cui risate da gallina si sentivano isolati di distanza, simili a singhiozzi. Ultimo veniva Federico Riera, un uomo tranquillo, coraggioso, che stava pazientemente consultando i testi della biblioteca nuova per registrare nuove specie di piante e di animali. Un'occupazione che per un po' avrebbe dovuto trascurare, vista la sua frattura composta. Alla faccia sembrò di sentire Lindov che berciava ordini, ma la voce raffioca sotto il rumore di fondo. Una parte di staccata del cervello della faccia notò con quanta rapidità Lindov aveva perso importanza. Era stato solo un innesco, e dopo l'esplosione sarebbe stato poco più che un odore di zolfo. Nessuno scandiva più i nomi di Shyam e Yang Sun erano stati dei pretesti. Molti se ne erano andati, ma le masse si affollavano, illuminate a strisce dalle torce, emettendo strida e nuvole velenose di odio combustibile. La gente formò una processione che si incamminò a sud, seguendo il muro di pietra verso le aperture della circolare. Si leccavano le labbra, si massaggiavano linguine, avevano una voglia matta ed erano casti da tanto tempo. Una mano afferrò la faccia e gli tirò un braccio. Lui fece resistenza. «Lasciami andare!» gridò non diverso dal vecchio, non migliore di lui. La voce era calma. «Faccia! Non guardarmi!» Com'era possibile che una voce fosse calma? «Faccia!» Lasciò che il braccio gli fosse scostato dalla faccia, come una ragosta che viene aperta a forza e mostra la carne bianca e flaccida per essere inghiottita da un esofago imburrato. Una donna era inginocchiata sull'erba di fronte a lui. La faccia girò la testa per evitarla, ma lei si mosse per restargli davanti e quel tocco di tenacia fu sufficiente a fiaccare il suo spirito. Contrasse la faccia, che diventò ancora più brutta, e la guardò. Etta Hoffman aveva ancora gli stivali, lo zaino e il marsupio da Slow Town. Sembrava indifferente come al solito alla sua deformità, forse perché aveva appena visto di peggio la morte della sua unica amica. Lei gli lesse nel pensiero e scosse la testa. «Non è morta!» «Cosa? Chi?» «Charlie!» «Etta, mi dispiace, mi dispiace, ma morirà. A volte ci vuole più tempo.» «No! È normale!» «È un disastro qui, Etta! Hanno fatto irruzione, li hanno trascinati via, sono pazzi!» «Charlie è tornata! È tornata normale!» Il tono casuale fu ciò che permise alle sue parole di penetrare in lui, come una mano sotto una pioggia martellante. Quello che stava dicendo era semplice e impossibile. La faccia non poteva immaginare nessun'altra affermazione che, in quel momento, lo costringesse a fermarsi e a pensare. Lui poteva avere fama di dire la verità, ma Hoffman era un passo più avanti, costituzionalmente incapace di distorsioni, abbellimenti o iperboli. Si diceva che Charlie Rukoski era sopravvissuta a un morso di zombie. Allora... La faccia si alzò di scatto, il deposito di mattoni gli graffiò la schiera. Allora era vero. E doveva, poteva, avrebbe cambiato tutto. «Nishimura!» Un suono misero, non adatto a una trasmissione. La faccia si schierì la gola dal sangue che aveva inghiottito, dall'autocomiserazione e dalla paura. «Carl!» afferrò lo zaino di Hoffman e la traccinò con sé sul leggero pendio dove Nishimura sedeva confuso. La faccia cadde a terra, ficcandosi delle schegge della cassa rotta nelle ginocchia. Un'altra ferita da ignorare e scossa i polsi apatici di Nishimura, come se fossero l'impugnatura di una corda per saltare. «Carl! Sveglia! Guardami!» Nishimura, gli occhi due macchie rosse dietro le lacrime, scrutò la faccia e Hoffman. «Mi dispiace!» sussurrò. Udendo queste due parole dal più incallito tra i residenti di Fort York, la faccia sentì il midollo che si espandeva fino a fargli scricchiolare le ossa. Era la cosa migliore che potesse capitargli. Il suo ex allenatore, Xander, gli aveva sempre detto che la vera forza veniva dal corpo quando si curava le ferite da solo. La faccia prese Nishimura per le spalle. «Sei stato meraviglioso, Carl! Mi hai fatto sentire orgoglioso!» Era vero e sentì che cominciava a rimettersi in sesto. «Non mi hanno ascoltato!» «Carl, voglio che ascolti quello che ha da dire Hoffman!» «È inutile! Non...» «Capitano Carl Nishimura! Ascolti subito Hoffman o la mando davanti alla corte marziale!» Nessuno ubbidisce per tutta la vita gli ordini militari senza che il suono di uno di essi non gli provochi un po' di timore. Nishimura aprì gli occhi e il suo sguardo si fece più chiaro e acuto. «Comandi! Ascolto!» Mentre Hoffman parlava, la faccia guardava dall'altra parte di Old Meddy. Era tutt'altro che vuota. Le strade sopra levate e i grattacieli tutto intorno risuonavano delle grida della folla di vigilanti, individuabile dalle scintille che si levavano dalle torci a vento. Quando tornò a guardare i suoi amici, Hoffman aveva finito di nuovo. «Aiutatemi ad alzarmi!» Nishimura tese entrambe le mani. «Dobbiamo dirglielo!» Lo sollevarono in piedi. «Dobbiamo correre!» Si precipitarono tutti e tre in direzione delle torce. Nella fretta, seguendo le tracce della distruzione, la faccia calpestò delle piante nel giardino e Nishimura fece cadere un pezzo della meridiana maggiore. Hoffman fu quella che se la cavò peggio. Era già indietro quando la faccia sentì un tonfo. Si guardò alle spalle e la vide distesa sull'erba dopo aver colpito la Well House, che non era illuminata, fuori dall'armeria. Si tirò su a due mani, ma era chiaramente intontita. «Dobbiamo sbrigarci!» gridò Nishimura dal dry moat. La faccia di Hoffman era confusa nella luce lunare. Anche la sua, quindi, e per quanto orribile apparisse, la faccia rimpianse che non riuscissero a vedersi, perché poteva essere la loro ultima occasione. Allo stesso tempo ne era rincuorato. La bibliotecaria l'aveva tirato fuori dalle sabbie mobili. Non sarebbe riuscita a tenere il passo degli uomini, ma una delle sue buone qualità era l'impermeabilità agli sgarbi. La faccia sussurrò un addio e corse dietro Nishimura, che stava salendo sull'inservibile cannone da 18, collocato all'angolo sud-ovest del forte. Quelle erano le vie della grande Fort York, l'ex lungolago di Toronto, l'agile nastro del Fort York Boulevard, le torri ovoidali dei palazzi di Waterpark City, i binari del tram di Fleet Street, tenuti in condizioni accettabili nella speranza di un eventuale ripristino delle linee. La punta rossa del faro di Queens Wharf, luogo di appuntamento per folle di lavoratori a mezzogiorno e per i nuovi amanti alla sera. La faccia raggiunse Nishimura sulle sette corsie del Lake Shore Boulevard. L'erba calpestata rivelava il percorso della folla. Coronation Park era poco più grande dei tre campi da softball che un tempo conteneva, due dei quali ad essere onorati per ricavarne raccolti. Un gruppo di amanti dello sport, fra cui Stuart Sharlow, aveva tenuto ben rasato il campo esterno e morbidi e piani rastrellando il terriccio quelli interni. Stuart, Reed, Mandy e Federico erano stati costretti a inginocchiarsi sulla montagnetta del pitcher. Dalle loro facce colavano lacrime, saliva e sangue. Urlando, fischiando, sibilando, la gente li circondava, tutti tranne i bambini che correvano fra le basi, allegri per la distrazione di quella sera. Un uomo sedeva isolato nel settore destro, la testa affondata fra le ginocchia. Nishimura corse, si accovacciò e la faccia arrivò da dietro. Era Seth Lowstein, un caro amico di Charlie, e la faccia dapprima pensò che fosse venuto sul lungo lago per piangerla. Se così era, avevano da dargli una notizia stupefacente. Ma non era così. Lowstein teneva le ginocchia allargate per vomitare sangue. Cosa è successo? Stai bene? Abbiamo cercato di dirgli di Charlie. Chi? Io e Art non hanno voluto ascoltarci. La faccia si girò, si scrutò attorno come un fuoricampo dopo una palla mal gestita e vide a meno di venti metri, un secondo corpo nell'erba, immobile. Abbiamo tentato di fermarli. Se Art era vivo, doveva essere Lowstein ad aiutarlo. Nishimura balzò in piedi, tornando all'improvviso un giovane marinaio anziché un organizzatore di 58 anni, e sfrecciò verso il formicolare di corpi arancioni sotto la luce delle torce, le loro voci più forti di qualunque richiesta di pietà. La faccia partì dietro di lui. Da Lowstein ai quattro della baracca c'erano 35 metri. Avrebbe dovuto metterci pochi secondi a percorrerli. La faccia si chiese perché ci stava mettendo una vita. Vide molte cose in quel lasso di tempo. Vide Richard Lindoff riemerso, raggiante all'apice del cerchio che si stringeva, i denti che riflettevano le fiamme. Vide braccia lunghe come gambe di cavalletta perché reggevano mazze da baseball. Non era insolito che l'equipaggiamento venisse lasciato accanto alla recinzione arrugginita. Alcune mazze erano tenute all'indietro come nella Major League, altre si alzavano come randelli da cavernicoli. Facce urlanti, distorte dalle fiamme, incitavano i giocatori a colpire. Vide i primi colpi. Il rocket nelle costole di Federico, il pile driver sulle spalle di Reed, la torpedo nella pancia di Mandy, lo swing esatto, professionale, al centro della faccia di Stuart. Il sangue sprizzò così rapidamente che gli altri colpi lo incontrarono a mezz'aria, facendo adanzare il plasma con la grazia dei colibri. La faccia, che aveva fatto l'inviato a migliaia di tristi eventi sportivi, capì immediatamente che quelle mazze da baseball erano inevitabili. Un simbolo americano potente come quelli che gli Stati Uniti avevano con sé durante l'ultimo saccheggio di Fort York. La faccia sentiva il terriccio dal campo interno sotto gli stivali, ma gli sembrava di non andare da nessuna parte. Le mazze menarono colpi finché un coltello non fece doverosamente la sua comparsa e affondò nella giugolare di Federico. Il sangue arterioso schizzò a un metro. Tutti, a Old Meddy, avevano un coltello. Era comodo. Mendy fu pugnalata al torace, con la lingua che penzolava fra i getti neri di sangue. La gente saltellava su e giù come se fosse a un concerto, come se fossero giovani e indistruttibili. Ed era l'omicidio che aveva compiuto quel miracolo, non la sconfitta della non morte da parte di Charlie. Stuart, bendato, la faccia sfondata, si trascinò verso la prima base finché non fu accoltellato la schiena forse cento volte. Finché il suo cappotto di lana, la sua camicia di cotone e i suoi muscoli non formarono una densa pasta violacea. Reed fu pugnalato più volte in faccia. Lembi di guance, mento, naso e orecchie volavano dappertutto, destinandolo ad assomigliare alla faccia, se fosse sopravvissuto. Ma non accadde. Quando esattamente raggiunse la folla, la faccia non lo sapeva. Sapeva solo che sentiva dei corpi, apiccicosi e agitati come topolini appena nati, che lo sballottavano avanti indietro. Nishimura era lì accanto. Si scontrarono più volte finché un uomo enorme non sollevò Nishimura da terra e lo portò via. Dal terriccio, vicino la seconda base, la faccia vide i cadaveri dei quattro della baracca colpiti da calci, terra, sassi, getti di urina. I coltelli restavano sguainati. La parte divertente doveva ancora arrivare. Niente ospizio per quei quattro, niente stanza della morte, niente pistola elettrica. La gente passeggiava, aspettava, puliva le armi dal sangue. La faccia affondò il mento nel terreno, temendo che alzandosi avrebbe attirato le mazze da baseball che ancora scintillavano al fuoco. Tutti sapevano che la resurrezione degli zombie era imprevedibile. Ci potevano volere due minuti o venti, nei climi freddi anche due ore. La faccia non sapeva quanto tempo era trascorso, ma era sufficiente. Con quattro possibilità di resurrezione era più che sufficiente. I quattro della baracca non si muovevano. Ci furono mormori di confusione, grida di incredulità. Qualcuno rammentò che Art e Lostin avevano detto qualcosa a proposito di Charlie Rukowski, che fosse vero. Qualcuno gridò quando la notizia lo raggiunse. Qualcuno si mise a piangere. La faccia si chiese se doveva provare sollievo, ma dopo essere sopravvissuto a Rochelle Glass e a Nathan Baseman, a Scotty Rolf e a Ramsey Dillon, al generale Spaulding, a Coppola e a Richard Lindhoff, sapeva leggere le cattive notizie come Nishimura sapeva leggere il diario di bordo di una nave. Le acque sicure non erano per niente vicine. «Siamo stati noi a farlo accadere! Tutti insieme!» gridò Lindhoff. Sospiri, singhiozzi, esclamazioni, grida e entusiasmo. «No!» disse la faccia, con il terriccio freddo che gli vorticava negli occhi. «Andiamo fino in fondo! Facciamola finita! Questa è la nostra occasione!» Evviva! Urrà! Urla! Applausi! Gli uomini avanzarono come facevano sempre, cadendo in ginocchio e affondando i coltelli nella carne morta. Tagliavano come i carnivori che erano ancora nel profondo del cuore. Uno di loro squarciò un guantone da baseball, che quando fu tutto aperto diventò un perfetto cuscino per la testa mozzata di Stuart. Gli altri tre presero le teste di Reed, Mandy e Federico, e le tennero alte, salutati dai fogli ululati degli altri mangiatori di carne, nuovamente affamati di sangue fresco. Qualcuno aveva già piantato le mazze da baseball nel terriccio. Le impugnature delle mazze non avevano punta, ma le teste tagliate con i loro trapezzi, le trachee spezzate, le vertebre staccate, non offrirono resistenza quando furono spinti all'ingiù. Stuart Sharlow, Reed Hollis, Mandy Monson e Federico Riera diventarono prosciutti macchiati e sanguinanti, che fumavano per il calore e guardavano con occhi rossi brillanti un mondo che a loro non serviva più, in nessuna condizione di vita o di morte. Teste piantate sui pali. Finalmente, lo status symbol a cui Lindof aspirava. Camminava in mezzo ai trofei con le lingue sporgenti che gli disegnavano delicate linee di sangue sulle maniche. Metà della folla se n'era già andata, era corsa la fermata successiva. Lindof, tuttavia, non sembrava avere fretta. Si fermò davanti alla faccia. Per la prima volta non arretrò e non represse un conato. Sorrise guardando in basso, con le fiamme le sue spalle che completavano la trasformazione in bella lugosi. «A Slow Town!» gridò, ricevendo qui e là incoraggiamenti e ovazioni. «Tutti a...» Una bolla di sangue e un lembo di carne schizzarono in aria. Una freccia di metallo spuntò al centro del petto di Lindof. La sua bocca si aprì. Finalmente, senza parole. Le sue dita si mossero delicatamente davanti alle braccia. Quello normale e quello rattrappito. E catte di lato con il rumore di un pezzo di carne sul bancone del macellaio. Si sentiva come un albero abbattuto e fu ricoperto da una nuvola di terriccio del campo. Richard Lindof morì. Gesù Cristo Herculeo. Proprio quando una vendetta da parte degli zombie non era più possibile. E quando la faccia guardò oltre la folla stupefatta e le quattro ghignanti teste tagliate, vide Greer Morgan con l'arco imbracciato. Scavare il cuore Greer non aveva mai assunto gli atteggiamenti iperentusiastici dei veri credenti di Old Muddy e rimase quindi sorpresa dalla propria reazione alla vista di Fort York in fiamme. Il respiro le si srotrò dal petto come un verme solitario e cominciò a tossire violentemente, strozzandosi, finché non si sentì come se avesse i polmoni nell'addome. La faccia al suo fianco se la cavava poco meglio. Si aggrappò a lei per stare in piedi, cosa che quasi la fece cadere. Dovete aggrapparsi a sua volta e fra tutti e due trovarono un equilibrio. La prima cosa a cui pensò Greer fu il calor bianco che scioglieva la stazione di rifornimento a Bulk, Missouri, e a come l'incendio era stato ignorato per via della rissa tra i rifugiati dei Resky Apartments e gli operai della Orti Plastics. Era la stessa cosa. Il deposito di mattoni era fatto di mattoni, ma ciò non voleva dire che il fuoco non potesse sventrarne l'interno e il tetto. I termini per descrivere il crollo degli edifici si affollavano nella sua testa. Ben presto, se fosse stata ancora viva, avrebbe potuto parlare di un cumulo di macerie. Anche i quartieri degli ufficiali erano in fiamme, il che purtroppo era logico. Era nel posto in cui nascevano le idee rivoluzionarie, e benché Greer avesse l'abitudine di alzare gli occhi al cielo durante le sedute pubbliche di brainstorming, come un tempo alle riunioni del Sunnybrook Club, adesso capiva, a livello di pancia, che ci aveva creduto a tutta quella storia. Perché altrimenti avrebbe dato tre anni e mezzo della sua vita, tutta la sua energia, il suo coraggio, i suoi archi e frecce. In parte per Muse, ma non del tutto. Gli alberi bruciavano, e in alcune parti anche l'erba. Il giardino era un inferno. Le piante si bilavano e scoppiettavano, mentre si arricciavano in scheletri di cenere. Un uomo era in fiamme e urlava mentre altri battevano sul fuoco, a meno che non lo stessero picchiando per sottrargli il bottino che aveva appena raffato. La faccia indicò col dito, e Greer guardò. Stagliate davanti alle fiamme del deposito di mattoni, c'erano le forme frenetiche delle persone che entravano e uscivano correndo dalla baracca est, con le braccia stracariche di confezioni di minestra, riso, fagioli e soprattutto alcol. Le fiamme creavano disegni caramellati attraverso le bottiglie trasparenti. Greer sentiva le lacrime della faccia, gelide rispetto al selvaggio calore delle braccia nude che gli aveva messo sulle spalle, e capì perché. Quella gente stava commettendo lo stesso delitto dei quattro della baracca che avevano appena allegramente giustiziato. Quando Marion anch'esso le detta Hoffman avevano trasportato Charlie Rukoski verso la sala della morte, Greer si era precipitata fuori dall'ospizio. Non tollerava la mistica accettazione della faccia o l'esasperante comprensione di Nishimura. La ricerca di Muse era stata all'origine del morso subito da Charlie. Aveva svoltato a destra Butters e aveva proseguito fino all'Idol Norway Park, il nuovo confine del porto. Si era seduta su una panchina vicino all'inceneritore di morbidi, tenendo l'arco fra le braccia come il cadavere di una persona amata. Il papà? La mamma? Conan? O Charlie? Dentro di sé aveva amato Charlie. Chi non l'amava? Perché allora si era comportata come se il suo amore per Muse fosse più importante? Forse perché lui era la colomba? Nessun cane zombie di nome Willy l'avrebbe protetto. Aveva bisogno di un leone. I discorsi di incoraggiamento non servivano a niente. Dopotutto le stronzate che Muse diceva erano stupidaggini. Solo un uomo con la mente disturbata poteva iniettarsi i fluidi della capa per il desiderio di prendere parte a una soluzione antivirale. Dobbiamo rimettere insieme anima e corpo se vogliamo avere una possibilità, aveva detto. Sembrava una stronzata ma, cazzo, stando lì seduta a guardare la baia fredda e grigia, chissà. Muse aveva detto anche il forte è un passaggio che non conduce da nessuna parte e, a giudicare dalle grida lontane che sentiva, forse aveva ragione. Il rumore della marmaglia di Lindof si faceva più vicino e più forte. Greer non si mosse. Tirò le gambe sulla panchina e inspirò l'aroma di cannella delle ceneri degli zombie, chiedendosi se inalarne abbastanza avrebbe avuto lo stesso effetto dell'iniezione di Muse. Se fosse stata una zombie, avrebbe potuto andare a Slow Town senza paura e senza sensi di colpa, trovare Muse e continuare ad amarlo come aveva fatto per quindici anni. Si immersi a tal punto in quello strano, piacevole pensiero da non accorgersi dei singhiozzi finché non diventarono grida. Fece scattare la corda dell'arco per farsi male al braccio, balzò in piedi e si mise in ascolto, come faceva quando viaggiava nella parte orientale degli Stati Uniti. La sollevazione veniva da Coronation Park e dalla sua forza Greer capì che non aveva niente a che fare con gli zombie. Quella che nella vecchia Toronto sarebbe stata una breve passeggiata lunga tre isolati, adesso era complicata dall'erosione della baia. Dovete tornare al Lake Shore e tagliare per il Martin Goodman Trail. Doveva ammetterlo. Darsi di nuovo da fare, tuffarsi fra l'erba alta e avanzare fra i detriti le infondeva energia. Ma ci voleva tempo e quando emerse tra il fogliame trovò solo venti persone, ventiquattro se si contavano le teste tagliate. Aveva visto centinaia se non migliaia di teste piantate su pali dall'inizio dei nuovi anni bui, ma mai ne aveva viste di così fresche. I loro occhi scintillavano ancora, le impugnature delle mazze, visibili attraverso le bocche aperte, colavano ancora sangue. Le teste erano talmente deformate che non sarebbe riuscita a identificarle se non avesse già indovinato i loro nomi. Stuart, Reed, Mandy e Federico, le prime vittime di una nuova serie di anni bui. Greer uccise Lindof. Non provò nulla, se non rimpianto per non averlo fatto prima. Trovò la faccia che oscillava tentando di restare in piedi. Lo sorresse. Lui le disse balbettando che Charlie non era morta. Indicò il forte e solo allora Greer si rese conto che mancavano ancora molte ore prima che l'alba illuminasse il cielo. Intorno a lei un impetuoso cataclisma, l'intera utopia che crollava, e non per sete di giustizia, come potevano sostenere le masse di Lindof, ma per un'avidità di possesso di oggetti che alla luce del giorno, di qualsiasi giorno, non li avrebbero resi in alcun modo più felici. Vide i muri distrutti a mani nude, vide la folla radunata agli ingressi nord, che puntava le torce verso Slow Town. Ancora, 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 finché non gli sarebbe rimasto più niente. La faccia gemeva per il saccheggio della baracca est, ma gli occhi di Greer guardavano più in alto e più lontano, al di là della strada. Era l'incendio più grosso che avesse mai visto, con il fumo che ribolliva come la schiuma di un mare in tempesta. Ogni fiammata cancellava un pezzo di mondo civile e rivelava il bianco del nulla. Le scintille danzanti erano frammenti di carta lanciati verso il cielo. Libri, riviste, centinaia di raccoglitori di carta. La biblioteca nuova, interamente consumata. Etta Hoffman, in piedi al centro di Bathurst, guardava l'incendio, perfettamente immobile davanti all'ingovernabile contorcersi delle fiamme. Una tempesta di carte sparse si posava sulla testa, le spalle, i piedi di Hoffman e sul suo stupido marsupio. Il suo atteggiamento era calmo, come se avesse già visto tutto, o almeno l'avesse letto. Quindici anni di lavoro instancabile, svaniti nel nulla. L'archivio Hoffman e racconti del nuovo mondo, vaporizzato. La sua riproduzione e distribuzione non sarebbero mai avvenute. Un tempo Greer aveva deriso il progetto, adesso le sembrava di aver perso un organo vitale. Mikorasson gemeva. Mikorasson. Tutto quello che avevano vissuto era destinato a cancellarsi dalla memoria collettiva. Milioni di persone non erano morte, miliardi di ossa non erano sparse sulla terra. Niente di tutto questo era accaduto. La meridiana maggiore lo dimostrava. L'ognomone era rotto, le linee delle ore cancellate e rese illegibili. C'era solo il presente e Greer si stava muovendo. La faccia la guidava sul sentiero che tagliava il giardino in fiamme. Lunghe lingue di fuoco si incrociavano sulle loro teste come se si fossero appena sposati e stessero danzando sotto archi di fiori rossi e arancioni. Emersero nella parte occidentale del forte, quella che dalla fondazione del 1815 chiamavano Deposito di Pietra. Era talmente assediato da sembrare formato da un incubo di membra umane. Oggi era chiamato Armeria e Onorda voleva penetrarvi. Alcuni battevano martelli e chiavi inglesi contro le pareti, ma la maggior parte usava le mani nude insanguinate per fare a pezzi e staccare le pietre. Un piccolo buco era stato aperto nel muro e una donna era rimasta incastrata e gridava perché la tirassero fuori mentre gli uomini la spingevano sempre più dentro. Forse erano i fuochi vicini, ma Greer avrebbe giurato che sentiva l'odore delle munizioni dell'armeria che si preparavano a esplodere. La faccia l'allontanò dal sentiero, spingendola avanti. Era diretto verso quella che un tempo era la piazza d'armi della guarnigione e adesso la via di fuga. Greer era sopraffatta dalla gratitudine per il suo sforzo, ma non voleva scappare. Tutti avevano qualcosa da fare a Slowtown quella notte e anche lei liberò le braccia. La faccia parve addolorato. Non puoi ragionare con loro, non ti ascolteranno. All'improvviso si voltò a destra e Greer seguì il suo sguardo. Due bambini camminavano intorno alla Well House, confusi della distruzione, cantando una filastrocca ormai invecchiata. Oh zombie zombie non morsicarmi. Come diceva la targa informativa, il gazebo della Well House era una ricostruzione moderna, completa di secchio in stile e catena del pozzo, con un cunicolo di 7 metri che datava al 1802. Il pozzo era anche un pericolo e fino a quel momento era stato tenuto chiuso. I bambini ritmarono la loro danza lanciando nel pozzo le macerie dell'armeria. Una piccola irregolarità nel panorama più generale, ma la faccia era famoso per notare i dettagli. E quando lasciò Greer per avvicinarsi al pozzo, lei fece in modo di arrivare per prima. I bambini sorrisero, contenti dei nuovi compagni di gioco. Greer ne scostò uno con una gomitata, senza curarsi della sua età. Sarebbe diventato marcio come gli altri, lo capì ancora prima di guardare nel buco. Sette metri più in basso, appena visibile, c'era Carl Nishimura. Nel corso dei suoi lunghi 32 anni Greer aveva visto carnificine di ogni sorta, ma tutti capivano quando un cadavere aveva qualcosa di strano. Un braccio destro che doveva essere slogato era intrappolato sotto la schiena di Nishimura. La sua gamba sinistra era piegata al contrario all'altezza del ginocchio. Il collo, sporco di sangue, era troppo storto e la bocca, rossa, era aperta come per la sete. Greer si convinse che era morto, ma lo chiamò ugualmente per nome. Greer, Greer, rispose subito lui. Carl, ti tiriamo fuori. Stanno venendo a prenderti. Il suo tono tranquillo la raggelò. Conan le aveva detto la stessa cosa 15 anni prima e poi era tornato a massacrare gli ex compagni di classe. Stanno venendo a prenderti. Se mandiamo giù questo secchio, riesce ad aggrapparti? Butteranno giù anche voi e saremo tutti un mucchio di ossa. Saremo tutti uguali. Saremo legione. Che ne dite? La legione siamo noi. L'altro braccio è a posto. Nell'oscurità il sorriso di Nishimura aveva i pallidi contorni di un teschio. Alzò la mano sinistra alla luce della luna. Le quattro dita erano rotte e giacevano sul dorso della mano. Uno di noi dovrà scendere, disse Greer sottovoce alla faccia, che strattonava la catena per verificarne la tenuta. I golem! Greer, ti ricordi? Sei ferito! Cerca di non muoverti! Tu pensavi che fosse un personaggio di Tolkien, ma sono mostri. Mostri che evochiamo per annientarci. La catena dovrebbe reggere, ma questo secchio lo faremo a pezzi. Jenny ha detto che doveva dirmelo nel caso che fosse morta. Adesso lo dico io a te, Greer. Stai zitto, stiamo cercando di... Te lo dico perché a quanto pare ne avremo bisogno ancora! La risata di Nishimura riecheggiò nel pozzo come un goffo spettro. Greer sentì il suono come se il diapason che lo emetteva le venisse piantato fra le costole. La faccia lasciò ciondolare l'inutile secchio, gli occhi concentrati dietro i lembi di pelle. Il naso di Greer si riempì di lacrime. Avrebbe potuto riempire il secchio, rimetterlo in funzione, far galeggiare Nishimura fino a farlo uscire. Impara a chiamarli, Greer! Le regole si trovano nei vecchi libri! Non si possono bruciare tutte le biblioteche! La fine degli zombie. Quello che avevano sempre desiderato tutti. L'urgente bisogno di riportarli indietro. Greer afferrò la catena. Se la sarebbe avvolta al piede, se necessario, si sarebbe messa Nishimura sulla schiena. Sto scendendo! No! gridò la faccia, mentre Nishimura disse tranquillamente. No! Greer aveva un piede sull'orlo del pozzo, ma la faccia glielo scostò. Voglio scendere! Non puoi! Sì! Ti ordino di non farlo! Greer inciampò e cadde sul terriccio freddo della Well House. I bambini le ballavano intorno. Il moccio annerito dalla fuligine usciva dalle loro labbra. I loro occhietti rosa da topo brillavano. Le manine animalesche tenevano i frammenti di pietra che avrebbero usato per strappare il cuore al mondo. La faccia cadde accanto a lei e allontanò i bambini, che continuarono a cantare la loro nauseante canzoncina. No mamma mia, non piangerò. Oh zombie zombie, portami via! Si levò un ruggito compatto, quasi un grido di trionfo, ma senza traccia di gioia. Greer pensò che era il suono che poteva emettere un'orda di ominidi quando, grazie allo sforzo comune, aprivano le costole di un mammut. Un intero angolo dell'armeria era crollato. Almeno una persona era rimasta schiacciata. Le sue urla soffocate erano futili ghiaccioli contro il furore dei distruttori. La gente si riversò nell'armeria come formiche, afferrarono le lisce impugnature delle armi, accarezzarono le lunghe canne e tirarono fuori le munizioni dalle scatole. Una volta armati, si alzarono e videro nell'acciaio delle armi il riflesso delle torce di coloro che incitavano ad andare a Slow Town. Sia le armi sia le torce vennero tenute più alte, due amanti separati in una stazione affollata. Le armi ambivano i bei tempi che ricordavano con tanto affetto. La voce di Nishimura, emerse dalla terra. «Non preoccupatevi per me! Qual è la cosa peggiore che possono farmi? Mettermi in un campo di reclusione? Per le mie simpatie, ovviamente! Le mie simpatie verso il nemico! I miei antenati l'hanno subito! Io sono nipo americano! Sapete di cosa parlo?» Greer guardò la faccia con tale durezza che le sue cicatrici parvero prendere fuoco. «Bene! Giapponese! E americano! Bene!» gridò la faccia e Greer ne fu lieta, perché l'indignazione era ciò di cui avevano bisogno, se volevano muoversi. La faccia afferrò Greer per un braccio e l'aiutò a rialzarsi. Ma lei era già in piedi e correva verso il passaggio della baracca Nord, che dava su Strachan Avenue. Non era il percorso più rapido per Slowtown, ma la migliore possibilità che avevano di precedere la marmaglia. La faccia era alle sue spalle e di nuovo Greer provò una singhiozzante gratitudine, adesso che li stava portando al centro della lotta e non via da lì. Continuò a sentire la voce di Carl Nishimura che fluttuava sul fumo. Le sue ultime parole come una maledizione. «Americano! Americano! Americano!» Che il mondo sorga dolcemente. Il secondo saccheggio di Fort York illuminò loro la strada, le fiamme più forti delle torce indicavano che la folla stava risalendo Niagara Street, che li avrebbe portati a est del centro di Slowtown. Greer, che conosceva quelle strade meglio di tutti, si precipitò a nord sullo Strachan, da cui sarebbero sbucati su Queen Street due isolati a ovest della massa. E poi? La faccia non ne aveva idea. Se Nishimura non era riuscito a evitare la caduta di Old Meddy con il suo buonsenso, cosa potevano fare lui e Greer? Non avevano armi, a parte l'arco di lei. Erano insignificanti. I suoi studi di storia, all'amata biblioteca nuova ormai defunta, gli davano una piccola speranza. «Insignificanti» era l'aggettivo che descriveva molti grandi. Greer lo precedeva di un mezzo isolato. L'incendio di Fort York trasformava le sue frecce tremanti in candele. Ciascuna sembrava avere una fiamma in cima. La faccia accelerò. Il suo ansimare copriva i ruggiti da Niagara Street nonché i lontani nitriti dei trecento cavalli di Old Meddy, chiusi in un recinto che stava per essere raggiunto dal fuoco. Non sentiva neppure i passi pesanti di Greer finché lei non si fermò di colpo, in mezzo a Queen Street, in preda a quella che sembrava una dolce sorpresa, con le braccia tese come a reggere un'invisibile veste. Girò la testa a sinistra, poi a destra con una lentezza stupefatta priva di senso. Slowtown non cambiava mai. Per questo era Slowtown. La faccia lo sentì prima di vederlo, la melodia sostenuta e sfaccettata come un coro, quelle distinzioni che non aveva mai capito bene, mezzo soprano, contralto, baritono, basso, che si alzavano e sospiravano come neve undeggiante prima di risalire verso il cielo. Sotto a questo ronzio mutevole c'era un battito dolce e irregolare, come delle dita callose che strofinassero vecchi tamburi. Quando la faccia si fermò, afferrando Greer, i suoni erano aumentati e non erano diversi da quelli del suo sangue, delle ossa e della carne. Era lui. Erano loro. Loro erano noi. Erano sempre stati noi. Centinaia di zombie riempivano Slowtown. La faccia si rammentò quando Nishimura aveva sparato alla capa le inaspettate galassie di occhi bianchi che brillavano a tutte le finestre e le porte. Eccoli qui, sbucati da fioristi, bar, negozi di scarpe, boutique di vestiti, rigattieri, librerie, gelaterie, ristoranti e dagli infiniti appartamenti soprastanti. 300 zombie? 400? 5? La faccia non avrebbe saputo dirlo. Troppi piedi che trascinavano troppe catene di Fort York, troppe braccia che pendevano con la carne dilaniata, troppi torsi talmente viscerati che la faccia vedeva altri zombie attraverso i buchi. Troppe teste attaccate a troppi colli esausti. Ma quelle teste erano alzate, i menti ossuti rivolti alla luna, al fuoco, a chiunque potesse guardarli negli occhi latiginosi e finalmente conoscerli. Quando la folla arrivò, sembrava essa stessa un fuoco. Le torce, naturalmente, ma anche cinque anni di armi che lampeggiavano mentre venivano puntate. Per questo Greer girava la testa. Aveva il gregge degli zombie sulla sinistra, la folla sulla destra. Le due fazioni si sarebbero incontrate più o meno davanti al punto in cui si trovavano Greer e la faccia, posti in prima fila per lo scontro finale che tutti temevano o prevedevano o speravano di evitare per l'eternità. Alla testa degli zombie c'era Muse King. Al suo fianco, un pastore tedesco zombie trascinava la lingua per terra. Muse era mal ridotto, grigio, ma ancora magnetico. Il tremito del suo passo fece capire la faccia che era debole e il fatto che gli zombie non lo mangiavano gli suggerì un'altra possibilità. La faccia scoprì che non gli importava. Avrebbe voluto correre da Muse, stringergli la mano, dirgli che era un grande piacere rivederlo e che sarebbe stato bello sentirlo suonare ancora una volta. Non ebbe bisogno di chiederlo. La chitarra di alabastro di Muse, ancora munita della sua logora cinghia, gli pendeva dalla spalla. Le sue dita grigie, lente ma sicure, suonavano una melodia di quattro battute. Semplice ma accattivante, triste ma ispiratrice, profonda ma esilarante. Una di quelle melodie che una volta in una generazione diventavano inni di protesta, una sorta di fuoco. La faccia pensò di essere impazzito, ma i gemiti degli zombie sembravano raddoppiare gli accordi di base della melodia, avvicinandosi a una canzone quanto era possibile per una folla. La verità illuminò la faccia come un'alba. «Non stanno attaccando!» «Walk away, andare via», sussurrò Greer. Aveva la mano sul volto, a coprirsi la bocca, a schiacciarsi il naso, a nascondere in parte i grandi occhi. La faccia pensò alla spilla resisti che Greer aveva dato alla capa. Doveva essere una coincidenza, ma perché non credere nell'impossibile? Adesso, alla fine di tutto. Forse quel minuscolo ninnolo era l'ultima spinta di cui avevano bisogno. La faccia sentì odore di fuligine. La biblioteca nuova, le personal histories. Aveva passato centinaia di ore a leggerle e gli tornò in mente una frase dalla trascrizione di Charlie Rukowski. «Mi sono messa a camminare», aveva detto. «Cosa c'è di più semplice? Ma c'è mai stato niente di più forte?» Eseguendo un ordine o solo l'istinto di uccidere, la folla armata formò una linea su Queen Street. Benché avessero le armi pronte, ancora non premevano i grilletti. Quella gente che bramava il sangue ne aveva versato molto lei stessa. Volevano trovare un modo per alleviare il loro dolore, anche se ciò voleva dire spararlo via dalle armi e sperare che finisse dentro qualcun altro. Ma non era così che funzionavano i virus. Una malattia trasmessa a una persona restava nell'altra. Tutti finivano per infettarsi. Con gli zombie a un solo isolato, la faccia si inginocchiò e tirò giù con sé Grir. Quella marcia sembrava tutte le marce. La perdita di carne dava a tutti gli zombie più o meno la stessa forma. Il deterioramento dava a tutti più o meno lo stesso colore. I più vecchi di loro, i morbidi, erano disabili, ma erano stati portati lì. Costole di morbidi intralciavano le gambe degli zombie. Crani di morbidi si trovavano nelle casse toraciche degli zombie. Contro ogni probabilità c'era anche la capa. Il suo inconfondibile torso coperto di spille era trasportato da uno zombie che camminava accanto a Muse King. Arrivavano i corpi morti e le anime vive stavano in attesa. Corpo e anima di nuovo uniti. La prima fila degli zombie passò talmente vicina che la faccia avrebbe potuto strappare un frammento di pelle ammuffita. Sentì il calore dei vermi che circolavano come un lento sangue bianco. Le torce rette dai miliziani non potevano emettere un calore simile perché il fuoco, anche quello degli incendi di Fort York, prima o poi si spegneva. I vermi invece non si potevano schiacciare tutti. Qualcuno sarebbe sfuggito e si sarebbe trasformato in mosca e i suoi discendenti avrebbero aspettato la tua morte. Avrebbero aspettato proprio te. Non era necessariamente una cosa macabra, poteva essere un miracolo. Vide scendere le torce, abbassarsi pistole e fucili. La musica, quel commovente ritmo a quattro tempi, continuava. Le lacrime compivano strani percorsi sulle guance perfette della faccia. Ce l'hai fatta, amore mio. Ce l'hai fatta. Ce l'aveva quasi fatta, se non fosse stato per un osso. Il ritmo in sottofondo che la faccia aveva sentito per primo era il secco cric-crac delle ossa degli zombie vecchi, ma ha emesso centinaia di volte, sicché i singoli schiocchi acquistavano la dolcezza di un acquazzone. Gli zombie erano cinquanta passi dalla folla quando una delle loro migliaia di ossa si spezzò in due. Cric-crac! Parve una fucilata. Non ci volle altro, non c'era mai voluto altro. Uno dei miliziani sparò. La testa di uno zombie esplose. Quando le schegge del cranio ricaddero sembrarono proiettili. Le pallotto le ruppero dalla folla, a centinaia. Grir urlò. La faccia le coprì la testa con un braccio. Gli zombie furono fatti a pezzi. Le facce sfondate, le nuche che esplodevano, le lingue che cadevano a terra mentre ancora si muovevano tra pezzi di cervello. I denti saltavano compiendo archi come acquiloni, riflettendo la luce, sfuggenti come scintille. Le membra molli si spezzavano e cadevano. Le catene e le caviglie suonavano come nacchere. Le spine dorsali esplodevano tutte intere. Pitoni di ossa che scivolavano sul cemento. Pezzi di muscoli grigi volavano dappertutto, come se delle grandi mani aprissero gli zombie in cerca di perle. Le pistole automatiche facevano talmente tanti buchi nei petti che i toraci si squartavano lungo le perforazioni, lasciando uscire gli organi interni. Le pallottole scavavano buchi nelle pance, scagliando gli intestini sugli altri zombie, come reti, e abbattendoli. La folla si avvicinò, continuando a sparare, riducendo in polvere i crani, in fango i corpi. Chi aveva delle mazze riduceva cervelli a pozze di muco. Chi aveva degli stivali faceva saltare via calci, occhi e pezzi di muscolo. Queen Street era un tritacarne. Slow Town una macelleria. I canali di scolo, così ben tenuti dagli zombie, erano diventati un pantano pulsante e fibroso, in parte sangue rappreso, in parte tessuto liquefatto. «Non sta succedendo niente», disse la faccia all'orecchio di Greer, la sua prima bugia da 15 anni. Solo dopo che un gran numero di zombie era caduto, la faccia vide gli animali. Si erano avvicinati dalle vie laterali, dietro all'ultima fila di quelli che marciavano. Non cani zombie, e neanche topi o polli zombie, ma animali vivi di ogni tipo. Un orso, un coguaro, una lince, lupi, volpi, coiote. Animali più piccoli anche, mammiferi e rettili e insetti, che si precipitavano come un'acqua marrone intorno alle zampe, agli artigli e gli zoccoli dei più grossi. A dominare il tutto c'era la giraffa che la squadra di recupero della faccia aveva visto quella stessa mattina, la bocca seria con le grosse labbra dritte. La faccia stava si indiozzando quando ebbe un'allucinazione uditiva. Pochi minuti dopo, quando la sparatoria finì, diede la colpa alle pallottole, alle cartucce usate che risuonavano sulla strada, allo scricchiolio delle ossa e al tonfo della carne. Ma in quel momento sentì delle voci, le voci degli zombie. Le aveva sentite anche Greer? Le avevano sentite anche quelli della folla e per questo continuavano a sparare per coprirle? O le sentiva solo lui, perché di mestiere faceva il giornalista e poteva ancora servire da testimone? Gli zombie parlavano di se stessi in seconda persona. Voi eravate una famiglia di nome Cooper, morta in una cantina umida e avreste voluto concludere la vostra vita con amore. Tu eri un uomo di nome Roger e ti chiedevi se quello per cui eri morto aveva un senso. Voi eravate un gruppo di amici di nome Sarah, John e Bill, morti su un'isola tropicale deserta. E anche nel momento della vittoria vi chiedevate come avreste potuto salvare qualcun altro. E così via, così via, una litania di rimpianti incredibilmente triste. Perché non era detto che dovesse finire così? Potevamo essere tutti felici. La faccia nascose il volto color cenere nei capelli color cenere di Greer. Sentì l'odore del suo sudore e delle sue lacrime, le cose di lei che un giorno avrebbe mandato in rovina al suo corpo, da cui sarebbero nate nuove forme di vita. Si costrinse a sorridere. La sua bocca, senza labbra, le baciò goffamente i capelli. Il bacio lo fece sentire un po' meglio. Dentro di noi non c'è alcun male originario, niente di cui aver paura, nessun motivo di rimpianto. I nostri corpi contengono tutto. Che il mondo sorga dolcemente da essi. Tutte le sue canzoni preferite. Gli esplosivi di cui Richard Lindow era stato fautore erano già stati prodotti. Greer aveva imparato quanto bastava per sapere che cose del genere non si improvvisavano in un'ora. Un primo tipo di esplosivo era basato sulla polvere da sparo, che richiedeva carbone, zolfo e salnitro. E quest'ultimo ingrediente era un casino da produrre, perché bisognava far passare acqua di calce attraverso un filtro di letame e altre cose spiacevoli. A posteriori era inevitabile che a Fort York si trovasse il secondo tipo di esplosivo, che si basava sulla nitroglicerina. E dove si trovava il componente principale della nitroglicerina? Era un sottoprodotto della lavorazione del sapone. La sua risata amara aveva il suono di un pugno ricevuto, la gente di Old Meddy con le mani così pulite. Adesso invece erano così sporche. Sentendoli spiegare come si produceva artigianalmente la dinamite, Greer comprese che la sua produzione era precedente all'arrivo di Lindov. Forse Lindov non era mai stato importante. Forse la morte di Lindov sotto la sua freccia era priva di conseguenze. Forse quella notte sarebbe arrivata comunque. Greer e la faccia non si erano sciolti dal loro abbraccio disperato sul bordo di Queen Street. Per un po' lui l'aveva trattenuta. Lei avrebbe voluto cercare Muse, toglierlo dalla linea del fuoco, ma quando gli zombie avevano cominciato a essere fatti a pezzi, la faccia gli aveva coperto gli occhi e lei l'aveva perso. La faccia non aveva tentato di portarla via e di questo lei gli era grata. Dovevano guardare quel massacro fino alla fine, per punizione. Non erano senza colpe. Pochi li notarono e quei pochi se ne fregarono. Potevano essere anche sostenitori di Nishimura, ma ormai non aveva più importanza. I razziatori sembravano convinti che quello fosse un nuovo inizio. Greer era convinta del contrario, quello era il preludio di una lunga, lenta, brutta fine. Premette la guancia più forte contro quella della faccia. Sentì ogni avallamento e ogni rilievo delle sue cicatrici e si chiese se premendo abbastanza forte il suo viso avrebbe assunto gli stessi contorni, consentendole di mascherare la propria colpa davanti a tutti, compresa se stessa. La benzina era razionata a Fort York, ma da come fu irrorata Slowtown non lo si sarebbe mai detto. Zombie, morbidi, erbe, alberi, edifici. Una decina di incendi erano già stati appiccati, con fiamme che arrivavano al secondo piano. Gli zombie vi venivano gettati, alcuni che ancora si dimenavano, altri che ancora gemevano. La carne secca come carta prendeva subito fuoco. Gli organi fradici si scioglievano in pozze nere sfrigolanti come grasso. Le ossa calcinate si ammucchiavano alla base di ogni fuoco, intrecciate come dita. Chi aveva rubato bottiglie di liquore dalla baracca Est non vedeva l'ora di usarle. Forte come la puzza dei morti era l'odore dell'alcol. Faceva scintillare le facce ai petti delle persone. C'erano grida e canti. Un uomo leccava del whisky dalla faccia di una donna, mentre dalla gola inarcata di lei uscivano delle risa. Un altro era inginocchiato accanto a un ragazzo e lo faceva bere da una lattina di birra arrugginita. Due bambini prendevano a calci la testa di uno zombie sulla strada come se fosse una palla ed esultarono quando finì tra le fiamme. Una decina di giovani uomini e donne si spogliarono nudi e ballarono in cerchio intorno a un falò, cantando vecchi successi con i petti scintillanti di sudore, ansimanti, affamati. Vide sesso. Donne con donne, uomini con uomini, uomini con donne, uomini con zombie, o almeno con parti di zombie. Era un'orgia più scatenata per i cinque anni di decenza che l'avevano preceduta. «Che animali!» La voce della faccia era roca per il fumo. Greer continuò a guardare il festino, sperando ancora di riuscire a vedere, in controluce sulle fiamme, una figura magra che avanzava curva, una chitarra sulla schiena e un cane al fianco, o di sentire le deboli note piene di speranza di quella che doveva essere una canzone profetica. Una pistola sparò, abbastanza vicina da farla sussultare. «Veri animali! Giuro che li ho visti alle spalle della folla! Giraffe, orsi, procioni, adesso niente! Forse è stata una follia!» Una follia non voleva dire che non fosse vero. Incontrare Muse King su una strada sterrata era stata una follia. Attraversare l'America con lui era stata una follia. Trovarlo che viveva fra gli zombie era stata una follia. «Non una follia!» rispose Greer, trovando chissà come la voce in fondo alla gola dolorante. «Una meraviglia!» E a quella parola magica? Eccolo! Muse King, alias King Kong, alias KK per gli amici. La Hewitt, la Gibson Les Paul color alpine white del 1978 col manico di acero e la cassa di mogano non c'era più, ma la cinghia pendeva ancora dal suo collo, tintinnando sull'asfalto. Greer l'avrebbe riconosciuto ovunque. Le membra longilinee, il petto leggermente incavato, la barba incolta, il disegno delle labbra. Due uomini lo stavano trasportando, uno per le spalle magre, l'altro per i piedi senza scarpe. Il cuore di Greer esplose, alimentato dalla nitroglicerina del Missouri. Trasportavano Muse come se fosse un sacco di immondizia. Greer scattò in piedi, liberandosi dalla presa della faccia. La condizione di Muse non era chiara già prima, il suo aspetto mal ridotto era quello di uno zombie o di chi sta morendo di fame e di malattia. Poteva essere ancora vivo, o al confine, abbastanza vicino, ma gli uomini che lo trasportavano erano troppo ubriachi, di alcol o di potere, per vedere altro che non fosse l'ennesimo spettro senza valore. Greer corse su una scena che sembrava una vecchia foto di guerra, e perché no? Quella era la seconda guerra civile. Era fuori dal suo corpo, si muoveva come un aquilone scosso dalla burrasca, non poteva arrivare in tempo. Le sue gambe erano più vecchie adesso, stanche e ferite. Avrebbe avuto bisogno di un miracolo, un vero miracolo, e lo selezionò dal suo passato. Fadil Lolo e la sua Shrine, non tanto veloce in realtà, ma abbastanza per quello che doveva fare. Sentì la bicicletta azzurra che le si infilava tra le gambe, e lo stupido sbattacchiare della sciarpa di Fadil. Fu sufficiente. Raddoppiò la velocità e risentì quello che Fadil aveva detto prima di lasciarla. La battaglia mi attende, dovevo restare con la mia gente. Vai veloce! Gridò il nome di Muse, sapendo che se l'avesse sentita, come sempre, avrebbe girato la testa e fatto una resatina. La solita vecchia Greer, il solito vecchio eroismo, il leone che seguiva la sua colomba. Gli uomini si sarebbero accorti del loro errore, e avrebbero rimesso in piedi Muse. Greer si sarebbe chinata sul suo petto e le sue mani l'avrebbero accarezzata, esperte come sempre. Come la EWIT, Muse sapeva suonare Greer, conosceva tutte le sue canzoni preferite. Il suo errore fu dimenticare chi era. Tutta un tratto tornava a essere importante. Era nera, aveva un'arma. Non avrebbe dovuto sorprenderla sentire una pallottola nel fianco. The Lowtown sprofondò in una girandola di fuoco, mentre l'impatto le faceva compiere una giravolta completa. Greer inciampò, ma continuò a correre. La Schwing di Fadil aveva il vento in poppa adesso. Muse era a pochi passi. Anche lei sapeva essere sorprendente. Guardatela. Quando la seconda pallottola le trapassò la gola, lo notò appena. In uno degli edifici in fiamme c'era della dinamite. Un'esplosione assordante e accecante lacerò la realtà, e attraverso quella nuova ferita del mondo, Greer vide il mondo di Muse, il posto meraviglioso, il posto di Urschleim, la vita tra persone, animali, piante, tutto. Peccato che la faccia fosse dietro di lei che urlava. Non c'era motivo per urlare. Presto l'avrebbe capito anche lui. La terza pallottola le penetrò nel cranio, e l'ultima cosa che Greer vide in questo mondo fu Muse King mentre le cadeva sopra. Il suo peso lo strappò alle mani degli uomini e lo fece cadere per terra, anche se non sottoterra come diceva la loro canzone. Puoi seppellire il mio corpo accanto alla tua strada. Il corpo di Greer era comodo contro quello di Muse, come le centinaia di volte in cui l'aveva tenuto fermo per baciarlo, e benché gli occhi di Greer esplodessero per morragia. Quelli di lui erano dolci e gentili, non bianchi. La Garza Charlie trovò Hoffman seduta vicino all'inceneritore di Lidl Norway Park. Le braci erano fredde. L'unica luce era quella riflessa della baia. La luce blu della luna e le increspature rosse dell'incendio di Fort York che furoreggiava a nord. Charlie c'era andata spesso per sbarazzarsi dai morbidi, ma per quanto ne sapeva nessuno si sedeva lì per scelta. Da quel punto si aveva una bella vista, anche se le ceneri dei cremati si infilavano dappertutto. Raggiunse la bibliotecaria, ex bibliotecaria ormai, sulla panchina. Hoffman non disse nulla. Per un po' ascoltarono il crepitio lontano dell'incendio e alle sue spalle gli scoppi soffocati di misteriose esplosioni. Guardarono una nebbia sottile alzarsi dall'acqua. Era rara in quella stagione così tarda e Charlie si chiese se il calore di tutto quel fuoco e quel sangue sparso avesse spinto il lago Ontario a emettere quel sospiro di delusione. «Devi tornare a prendere qualcosa!» Vide che Hoffman aveva addosso il vecchio brutto marsupio e non fu sorpresa quando scosse la testa. Hoffman non era tipo da effetti personali. Aveva dei frammenti di carta nei capelli, come scaglie di forfora. Charlie guardò un pezzo di pagina bruciata a posarsi sul marsupio della bibliotecaria. Sopra c'era una sola lettera senza risposta. «Q». Stando attenta alle proprie dita bendate che si era steccata da sola, Charlie scosse le cinghie dello zaino per farti intinnare i moschettoni, in modo che Hoffman capisse che era pronto a partire. «Ho preso qualcosa dall'ospizio, corteccia di salice, un po' di etere. La maggior parte l'ho lasciata lì. La gente ne avrà bisogno. Ne avranno bisogno stanotte. Sarà meglio che si sbrighino, però. Il Fort York Boulevard è tutta un'erba. Il fuoco lo divorerà. Il piccolo Edric e tutti i morbidi bruceranno anche loro. Non lo so, là dentro, qui fuori. Forse non importa». Hoffman inclinò la testa e guardò a Nord. Era la notte in cui ci si poteva aspettare di tutto. Anche Charlie guardò e dapprima non vide nessuno. Pochi istanti dopo scorse un gruppo di persone radunate nel vecchio Waterfront Neighborhood Center. Sentì una breve e straziante nostalgia. Nishimura voleva ricostruire il centro, migliorandolo, facendone un vivace luogo d'incontro per quando la popolazione di Old Maddy fosse diventata troppo numerosa per l'area attuale. Che progetti avevano avuto? Che scandalose erano state le loro visioni? «Credo che siano quelli della V-Club. La ragazza alta deve essere Georgia. Hanno delle borse. Forse se ne vanno. Ricordo che Muse diceva sempre che l'arte ci avrebbe salvato. Speriamo. Speriamo che quei ragazzi se la cavino». Guardò Hoffman. «Vuoi raggiungerli? Vedere se possiamo andare con loro?» Hoffman so chiuse gli occhi. Poi scosse la testa. Charlie avrebbe voluto guardare la V-Club che si allontanava. Camminavano con energia e decisione, ancora fiduciosi nelle possibilità di fare qualsiasi cosa. Ma distolse lo sguardo, sapendo che ne avrebbe solo fatto male. Perché questo era l'utopia, no? Nishimura, che aveva capito tante cose, aveva colto l'essenza del concetto. L'utopia non aveva niente a che vedere col sistemarsi. Aveva a che vedere col continuare a muoversi, col non fermarsi mai. La paura della morte era la stessa maledetta cosa. Non aveva niente a che fare col morire, ma tutto col non essere riusciti a vivere. «Bene, sono giovani. Non faremo che rallentarli». Ripensò alla stretta di mano di Hoffman nella stanza della morte. Allungò il braccio destro sullo schienale della panchina. Afferrò la spalla più lontana dell'ex bibliotecaria e si strinse quella strana donna al fianco. Che Hoffman non opponesse resistenza era in sé una risposta. Charlie appoggiò la testa su quella di Hoffman e guardò l'intreccio delle deboli correnti. Rimase seduta immobile quanto poteva e ascoltò il proprio corpo, fin nelle minime parti, in cerca di segni di malattia. Lo stava facendo da quando si era risvegliata nella stanza della morte. Non c'era niente da sentire, a parte quattro dita doloranti. Era un buon segno. Perché allora era così scoraggiata? Pensò al Gesù di plastica che dominava il salotto di May Rukowski. «Siate pietosi», predicava. Non aveva torto. Tutto quello di cui aveva bisogno la gente di Fort York per prosperare sarebbe stato un po' di compassione per sé stessa. «Scusami». «Perché?» «Per averti portata qui. L'archivio sarebbe stato più al sicuro a Washington. Avevi ragione a tenerlo segreto». Hoffman scosse la testa. «No». «La gente l'ha letto. Le parti che ricorda le racconterà ad altri. Verrà trasmesso. Le storie non muoiono mai, in verità». «È gentile da parte tua, Etta. Ma io non so». «Louise a cocella». Charlie chiuse la bocca di scatto. Non pensava di avere mai sentito Hoffman interrompere qualcuno prima. Lei era una che ascoltava, non una che parlava. Sentire il nome completo di Louise con la voce di Hoffman, una voce che parlava sempre e solo di cose pratiche che di solito faceva domande, costrinse Charlie a stringere le labbra. Non voleva piangere. Non poteva. «Lacrime sul collo di Hoffman». Sarebbe stato troppo. Hoffman si sarebbe allontanata disgustata. «Louise a cocella è morto da molto tempo, ma la sua storia continua a crescere. Non è così?». Charlie annui. Le lacrime sgorgarono all'improvviso e caddero dappertutto, sulla sua faccia e sul suo braccio, sul petto e sulla schiena di Hoffman. Temendo che i suoi singhiozzi potessero attirare qualcuno, Charlie si strinse il braccio libero al petto e si passò la mano sulla pancia. Era sottile, dura e incallita da anni di ricerca di cibo, ma un tempo era stata morbida e fertile, in grado di far crescere una vita. Seduta lì, sul margine di un altro mondo incerto, non rimpiangeva di non aver mai partorito, soprattutto adesso che era diventata lei stessa una sorta di bambina. La prima che avrebbe dovuto morire ed era rinata la vita. Louise non sarebbe stato d'accordo. «Rinascita o aborto?» avrebbe chiesto. Udendo i rumbi che giungevano da Fort York Slow Town, Charlie ammise che la prognosi sembrava in fausta. Si concentrò sui rumuri più vicini, i sussulti del suo pianto, il respiro di Hoffman, il sussurro delle mani che accarezzavano le braccia. «Spero che questo voglia dire che eravremo i cani. Mi mancano i cani. Mi aiuteresti a prendermi cura di un cane?» «Sì, ma a me non interessano i cani.» «Ti voglio bene, matta. Sei pronta a partire?» Hoffman, federe al suo personaggio, si limitò ad annuire. Un altro suono si aggiunse al miscuglio, il dolce pizzicato dell'acqua che veniva smossa. Charlie si alzò, si asciugò le lacrime rovinandosi le bende delle dita e guardò dritto davanti a sé. Il porto di York sobolliva. La spiaggia sabbiosa era piena di schiuma. C'era qualcosa nell'acqua, qualcosa che si avvicinava. La nebbia era bianca come gli occhi degli zombie. Il centro era scuro come sangue che macchiasse la striscia di garza che teneva insieme questo fragile mondo. Poi apparve una canoa con a bordo due uomini. I loro vestiti scuri e le facce dipinte di nero li avevano tenuti nascosti. L'uomo seduto dietro manovrava con abilità un remo. Quello davanti aveva una cintura con una pistola a entrambi i lati, ma ciò che fece contrarre la gola di Charlie fu la vecchia lattina di caffè piena di attrezzi che teneva in grembo. Aveva imparato a conoscere quegli attrezzi alla facoltà di medicina. Seghetti, trapani per cranio, divaricatori per il cuoio capelluto, punteruoli per la minectomia, forcipi da tumore, guide per trapani, microbistuli, erano strumenti neurochirurgici. Il che voleva dire che quegli uomini, che Lindoff avrebbe forse chiamato pettina spiaggia, venivano da Fort Drum, i cui leader promuovevano il buon comportamento attraverso la chirurgia cerebrale correttiva. Dettagli insignificanti, in verità. Come ti prendevano esattamente non aveva importanza. ancora una volta il tempo si era messo a correre. Dalla nebbia stavano uscendo altre due canoe e poi altre quattro, otto, sedici, trentadue, la garza si lacerava. Charlie capì che gli zombie non avevano smesso di risorgere solo a Toronto. Era successo dappertutto, anche a Fort Drum. Questo e i caotici segnali di fumo e di fuoco provenienti da Fort York avevano detto a quegli aspiranti conquistatori che era giunta la loro occasione migliore. Ecco cosa succede quando la mia utopia non è in linea con la tua, pensò Charlie. I vivi non avrebbero mai smesso di cercare di trasformarsi in morti. La prima barca toccò terra. Charlie riuscì a leggere il nome. Antonia. Gli uomini scesero. Charlie Rukowski si alzò e afferrò a Etta Hoffman per una mano. «Shall we dance?» stava per chiederle. «Stai bene?» stava per chiederle. «Arrivano!» disse invece. Bella Al primo fiorire dell'alba, Annie Teller attraversò il Wilshire Boulevard ed entrò a Hancock Park. Da qualche parte, nei suoi confusi ricordi, sapeva come doveva essere. Ma non era più così. Il Museum of Art della Contea di Los Angeles, coperto di scritte in rovina, parente ormai di segmenti del muro di Berlino era in mostra sull'altro lato della via. Il padiglione dell'arte giapponese, una struttura curvilinea che, anche nella morte, non aveva mai abbandonato i sogni di Annie, era crollato su se stesso come un ventaglio che si chiudesse. Il parco stesso non aveva più nulla del selvaggio fascino verde-marrone di Los Angeles che aveva mirato in tante foto. Era tutto polvere rossa e terra bruciata. Gli alberi e le piante sostituiti da rifiuti di plastica non biodegradabile. Metà delle gambe di Annie erano di metallo. Aveva la sensazione che fosse per questo che continuava ad andare avanti mentre altri della sua generazione di morti cadevano. Delle lame scurite dal tempo le erano state avvitate alle ossa dei polsi. Solo frammenti dei suoi vestiti sopravvivevano. Grandi lembi della sua pelle erano danneggiati dal fuoco. Cicatrici dovute al gelo dei viaggi invernali avevano ridotto il resto della sua carne a un grigio striato. Perdeva pezzi tutti i giorni. Come Hancock Park, anche lei era diventata irriconoscibile. Ma i pozzi di catrame di Labrie erano ancora lì. Fatti incerti giravano nel suo cervello molle e pulsante. In quel punto il petrolio greggio emergeva dal terreno da decine di migliaia di anni. Le ossa trovate lì erano vecchie di 38.000 anni. Nessuna specie animale, per quanto inventiva fosse la sua autodistruttività, poteva cambiare tutto ciò. Il suo cervello, attivo per tanto tempo, incominciava a spegnersi. Sentiva l'ingolfarsi dei pensieri che si ripeteva da chissà quanti anni. Era lì, ma non si ricordava perché ci era venuta. I pozzi di catrame di Labrie. Queste parole la ossessionavano come i veloci ossessionavano gli altri come lei. Queste parole un tempo le aveva scritte sul petto. Non si era preoccupata quando si erano cancellate. Aveva perso la strada molte volte, ma mai la sua meta. Perché allora sentiva ancora che il suo viaggio era incompleto. Annie Teller era accaduta migliaia di volte e ogni volta i pozzi di catrame di Labrie le avevano ordinato di rialzarsi. Qui credeva che avrebbe trovato qualcosa che l'avrebbe tenuta tranquilla per sempre. L'idea le venne semplicemente, dolcemente. Il catrame era appiccicoso. Un sussurro di ricordo le informò che Lake Pit era la sua destra. Si mosse per raggiungerlo, ma avanzava più lentamente del solito. Guardò in basso con l'occhio destro ancora funzionante e osservò le sue gambe di metallo catturate dall'asfalto caldo che trasudava fra l'erba. Attraversando delle pietre granulose che un tempo erano state un marciapiede, trovò un passaggio fra i resti gommosi di una recinzione. Arrivò soppicando sulla riva di una pozza nera gorgogliante di metano. Annie aveva visto molte cose belle durante il suo viaggio, cose che l'avevano spinta a fermarsi malgrado la ferocia del richiamo che sentiva. Infinite strade di veicoli scintillanti come giganteschi cobra morti, ponti crollati come draghi uccisi, visibili sotto superfici d'acqua diventate lucide come diamanti. Bisonti così incredibilmente numerosi che i loro branchi sembravano l'ombra dei grattacieli caduti da tempo. Nulla poteva stare alla pari di questo. La superficie di Lake Pit era di marroni, gialli e viola che scivolavano intrecciandosi in figure iridescenti come fumo o nuvole o pozze di sangue. Il tutto con lentezza preistorica. I segni della morte erano ovunque, festoni di piume dove gli uccelli erano stati risucchiati, filigrane di ossa di piccoli mammiferi che si erano avvicinati troppo. Un conglomerato di teschi, tutti diversi, tutti con la bocca spalancata in una salmodia silenziosa e felice. L'occhio buono di Annie Teller osservò il lato opposto del pozzo. C'era Tauna Mediu, circondata da raggi di sole. I ricordi, per quanto incompleti, tornavano rapidamente. Annie ramentò che le prime ore e i primi giorni tutti si chiedevano perché. Qui c'erano tutte le spiegazioni del mondo. Una persona aveva bisogno di un'altra per rendere sopportabile il dolore di vivere. Si vede tirare una freccia da una finestra del centro di riabilitazione Mansfield-on-Sharewood per scegliere la direzione della prima lunga camminata. Adesso, alla fine della seconda, dopo aver superato le difficoltà fisiche e mentali del recupero, l'allineazione di essere quello che chiamavano direttrice della statistica, la solitudine di un lavoro sterile, Tauna era l'unica cosa che Annie doveva ancora raggiungere. Tauna Mediu era in piedi sotto le zanne del più grosso fra tre mammut di fibra di vetro. La vernice era stata scrostata da 15 anni di sole, ma per il resto la statua era uguale a quella che si vedeva in molte foto. Anche Tauna non sembrava molto diversa. Era ancora alta, sinuosa, ancora abbronzata, ancora coi capelli in disordine. Forse era sempre stata lì, in piedi, mentre Annie aveva camminato, camminato, camminato. Il cuore di Annie era perito anni prima, ridotto a fiocchi di ruggine delle sue stesse costole affilate. Ma forse lei confondeva il cuore come organo e il cuore come concetto. Sentiva una tensione, simile a quella che aveva provato guardando quei veicoli bloccati, i ponti crollati, i continenti di bisonti in marcia. Era la sensazione di contare. Aveva visto Tauna medio di persona una volta sola, in un luogo di illusioni chiamato Disney World. Questa non era un'illusione, era lì, in piedi, che si muoveva. Tauna stava alzando le braccia. Tauna stava facendo un passo in avanti. Tauna stava entrando nel pozzo. Annie capiva i principi base della fisica. Lake Peak era profondo da due a tre metri al centro. L'asfalto avrebbe superato la testa di Tauna se lei avesse continuato ad avanzare. Il suo peso l'avrebbe spinta sul fondo. Annie non l'avrebbe mai vista da vicino. Non l'avrebbe mai toccata. A dispetto delle migliaia di miglia, degli anni incalcolabili. Così anche Annie Teller entrò nel pozzo. L'asfalto risucchiò le lame delle gambe. Era peggio che essere impigliata tra i rampicanti dell'altopiano d'Orzac, in Arkansas, o bloccata sotto le valanghe in Colorado. Per muovere una gamba doveva spostare un intero lago di catrame. I suoi sforzi provocavano onde che si allargavano verso il centro, arcobaleni che rompevano la superficie lustra della pozza. Onde rivali venivano dalle cosce di Tauna, che avanzavano a loro volta. Come faceva a muoversi così, con delle gambe di semplice carne? Annie desiderava toccare quelle gambe come altri della sua specie desideravano carne e sangue. Spinse più forte. Il catrame bollente le arrivò alle ginocchia, alla vita. Quando Annie Teller e Tauna Medio si incontrarono, il catrame gli arrivava al petto. La loro traiettoria silenziosa aveva evitato la zona più profonda di Lake Pit. Il petrolio nero, però, aveva schizzato la faccia di Annie, oscurandole in parte l'occhio buono. Tauna, pensò, stava per toccarla. La bocca di Tauna, pensò, stava facendo un rumore che Annie, priva di entrambe le orecchie, non poteva sentire. Un suono emerse dalle crepe rinsecchite del suo cervello. Il bip che il suo telefono emetteva quando riceveva un messaggio. Era nei messaggi che aveva visto per la prima volta le foto di Labrie sullo sfondo dei confusi selfie di Tauna, che viveva un paio di strade da lì. Questo poteva spiegare perché non era a pezzi. Forse aveva rispettato il patto stabilito per il mail ed era rimasta in attesa al sicuro, in casa, pazientemente. Se il mondo finisce nella melma, ci troveremo sulle rive della bella Labrie. Era proprio bella come dicevano, calda e accogliente come sembravano sempre le coperte sul letto di Tauna, che invitavano Annie a un meritato sonno. Annie spinse un braccio nel pantano nero e trovò la mano di Tauna. Tauna Mediu era reale. Annie sentì le dita di Tauna chiudersi intorno al suo polso, incurante delle lame. Le onde si scontrarono con le onde. Gli arcobaleni mangiarono gli arcobaleni. Il sole era sorto, trasformando l'asfalto in oro. Erano petto contro petto. Il mento di Annie toccò quello di Tauna. Il catrame appiccicoso le teneva incollate. Bene così. Annie non si sarebbe più mossa. Le braccia di Tauna si chiusero sulla sua schiera. Lei restituì l'abbraccio. Un movimento dolorosamente lento. Sentì la mano destra che le cadeva. Non aveva importanza. Gli occhi di Tauna si dilatarono. Un miele opalescente si distese fra le sue ciglia. Aveva occhi liquidi azzurri. Azzurri. Il cervello di Annie, ormai rallentato, impiegò secondi preziosi per valutare questo fatto. Tauna Mediu era una veloce. Tauna Mediu era viva. Il fatto che non avesse importanza era importante. Annie chiuse le braccia intorno a Tauna. La sua carne calda e pulsante. Il suo fiato pungente. Da molto tempo non provava niente di così bello. Annie pensò di morderla e cambiarla come una donna di nome Katrina Godborg aveva morso e cambiato lei. Scelse di non farlo. Annie e Tauna non potevano essere più vicine di così. Il catrame sigillava i loro corpi, due in uno. Annie credette di sentire dei pensieri di Tauna. Euforia per la loro riunione. Gratitudine che la loro odissea fosse finita. Felicità perché erano a casa. O questi erano i pensieri di Annie. Non riusciva più a capire la differenza. Non c'erano più confini. Mentre il sole monta nel cielo capisci che c'è qualcun altro. Lassù c'è un'altra te stessa e quassù un'altra ancora. Guardi e vedi te sulla sinistra e te sulla destra e davanti, dietro, tutto intorno. Senti i Tu che si avvicinano. I loro cric-crac che cessano sull'antico asfalto. I Tu non hanno solo due gambe. Arrivano su quattro con la coda. E artigli, e zanne, e musi, e lingue biforcute, e orecchie a punta, e antenne, e corna, e pellicce, e scaglie. Finalmente i Tu con le penne si presentano e mangiano dei pezzi di te, e di te, e di te. E li scagliano in aria, perché si spargano tutto intorno, in modo che Tu sia seminata dappertutto. Col tempo ricrescerai. Cominci ad affondare. Condividi un pensiero, l'ultimo. Sei sempre stata una morta vivente. Lo sarai sempre. È stato l'arrivo della morte che ti ha consentito di vivere. I morti hanno tentato di insegnare questo ai vivi per così tanto tempo che alla fine i morti non hanno avuto altra possibilità che mettersi a gridarlo. Adesso tocca a te, e a te, e a te. Tocca a noi, finalmente. A noi. Ricordare. Sorgere come noi in questo pozzo affondiamo. Vivere fra i nostri vivi in pace. Morire fra i nostri morti in armonia, perché entrambe le condizioni dureranno, abbracciate l'una all'altra come ombre. Noi non siamo spettri. Noi non siamo zumbi. Siamo le nostre madri, i nostri padri, le nostre figlie, i nostri figli, le nostre sorelle, i nostri fratelli. Abbiamo aspettato di accettarci, di aprire le braccia per abbracciarci. Adesso siamo andati via, ma torneremo. Per ora i morti affondano. Per ora i morti muoiono. Per ora i morti vincono. a te. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a te. a te. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a te. Grazie.